Grazie. Vatti a sedere e rilassati. Buongiorno e benvenuti. Benvenuti alla scuola normale. Solo un piccolo saluto da parte mia. E' un piacere avervi qui ed è un piacere che non è solo un piacere formale. Molti di voi conoscono la scuola normale, sanno che genericamente è piccola. La scuola normale è veramente piccolissima. Considerate che l'Ateneo a noi vicino è più di 100 volte la nostra taglia. Noi abbiamo circa 600 studenti, un Ateneo medio ne ha più di 60.000. Quindi la scuola normale è piccola. E perché lo dico? Lo dico perché in questo contesto è importante. Essendo piccoli possiamo essere presenti e attivi in un numero limitato di aree. Possiamo offrire un numero limitato di stimoli ai nostri allievi e quindi particolarmente importante quando attraverso schemi come il FIRB, SIR o le varie sigle disponibili, IRC e quant'altro riusciamo ad attirare alla scuola competenze, persone, idee, progetti nuovi che rafforzano la nostra offerta culturale, la nostra proposta agli allievi. Questo è il caso del FIRB che si conclude e si celebra oggi e questo è il ruolo che Giorgio Bacci ha avuto qui alla scuola, un ruolo molto importante. Giorgio è una persona che voi conoscete bene, ma lo conosco anch'io e se lo conoscete bene quanto me sapete quanto può essere attivo Giorgio Bacci, quanto può essere presente Giorgio e quanto può essere presente i suoi progetti Giorgio, ma sono progetti interessanti, riesce a farmi alzare presso la mattina, riesce a farmi fare delle cose con i suoi metodi e io sono decisamente un suo estimatore. Si chiude quindi questo progetto con un workshop che fa parte dal nostro punto di vista di questo programma di arricchire la vita culturale della scuola con nuove idee, con idee giovani e fresche soprattutto. Non finisce il rapporto di Giorgio con la scuola, ma questa è un'altra storia. La storia di oggi è una storia credo interessante, che fa parte di quelli che sono i risultati che la scuola annovera tra i suoi successi, quindi sono fiducioso che il convegno sarà interessante, sarà produttivo e con fido anche stimolante. Per cui vi auguro un buon lavoro, spero che la scuola sia all'altezza e che vi ospiti in maniera confortevole, altrimenti lamentatevi con Giorgio, mi raccomando, che non esiterà a farmelo presente, questo ve lo posso garantire. Ancora grazie per essere qui a tutti quanti, complimenti a Giorgio Baci, vi volevo anche io salutare, sono contenta di vedervi, mi sembra che siano volati questi quattro anni che ci dividono dal precedente convegno tenuto proprio in questa sala su Emporium, forse un pezzettino di Emporium e dell'aria che respiriamo allora la ritroveremo anche nel progetto di oggi, è un progetto al quale ho assistito con piacere, sono stata lusingata di esserne stata coinvolta e allora, quattro anni fa, il nostro laboratorio si chiamava Laboratorio delle Arti Visive, ora ha un nome diverso perché recentemente si sono riuniti tutti i laboratori legati alla storia dell'arte, si chiama Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica, quindi vi porto il saluto anche del laboratorio, è stato importante anche in questa occasione il laboratorio perché lì si è svolta l'officina che praticamente ha fatto nascere Capti, come ora vi sarà presentato, è stata un'officina importante perché pur essendo stato Giorgio Baci l'ideatore di tutto questo però ha intuito dove in Italia e anche all'estero potevano esserci delle maestranze d'eccellenza per poter svolgere l'intero progetto e quindi l'occasione di queste giornate di studio è proprio quella di poter sentire anche l'esperienza di tutto il gruppo, di tendere a una coralità e diciamo il rovescio della medaglia sarà quello di tempi un po' come dire stretti nella presentazione delle relazioni che animeranno queste giornate proprio perché appunto tenevamo che tutti quanti i partecipanti collaboratori importantissimi fossero presenti, in realtà ci rendiamo conto che i tempi sono un po' stretti però siamo certi di potervi nel 2016 offrire gli atti di queste giornate di studio quindi chiedo la vostra collaborazione nel rientrare nei tempi che avevamo previsto per le comunicazioni. Quindi con piacere passo la parola a Giorgio Baci, a Giulio Andreoletti e Andrea Ficini della Scuola Normale che vi illustreranno diciamo le linee guida del progetto. L'acqua Sono ammovibili le sedie? Sì, sì, sì. Ho messo i biglietti, mi faccio un po' L'acqua Bene 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 Buongiorno a tutti, benvenuti anche da parte mia a queste giornate di studio. Io per prima cosa passo subito i complimenti che ho ricevuto aí Grazie mille persone che insieme a me hanno lavorato in questi anni il progetto FIRB appunto che è stato svolto grazie alla collaborazione tra 4 università Come sapete집ete appunto Scuola Normale e Superiore di Pisa, Univisità di Genova, Universiatà di Siena, Università di Udine E proprio grazie a questa collaborazione è stato possibile raggiungere i risultati che brevemente... Grazie a questa collaborazione è stato possibile raggiungere i risultati che brevemente... Vi illustrerò il mio ringraziamento e i complimenti girati di cui dicevo prima riguardano ovviamente anche l'organizzazione di queste giornate di studio rese possibile proprio grazie alla collaborazione con le altre unità di ricerca i cui capofila sono Veronica Pesce per l'Università di Genova, Davide Lacagnina per l'Università di Siena e Denis Viva per l'Università di Udine. Il progetto FIRB di fondere la cultura visiva, l'arte contemporanea tra riviste, archivi e illustrazioni è iniziato nel 2012 e si concluderà con di fatto la proroga di un anno nel 2017 ma oggi è stata pensata la giornata di arrivo, di sintesi di questi anni così proficui dal punto di vista sia delle acquisizioni informatiche che dalle pubblicazioni e dalle riflessioni che è stato possibile svolgere insieme. Un ringraziamento che quanto mai sentito va naturalmente a tutto lo staff della Scuola Normale Superiore che ci ha affiancato in questi anni quindi naturalmente al Laboratorio di Documentazione Storico-Artistica, al Direttore Massimo Ferretti, a Miriam Filetì Mazza che con la consueta generosità e competenza ci ha affiancato in questi anni e gli informatici Andrea Ficini, Giulio Andreoletti che poi vi mostreranno alcune delle funzionalità del sito e che hanno svolto un ruolo essenziale proprio perché il database è diventato uno strumento di studio indispensabile per la ricerca e per il progetto. Vorrei ringraziare anche Elena Miraglio che è stata parte integrante del gruppo della Scuola Normale Superiore e che ha funzionato un po' da jolly in questi anni affiancando la ricerca in vari settori. Il progetto suddiviso tra quattro unità è stato pensato, la suddivisione è stata pensata per ambiti cronologici e tematici ed ha attraversato tutto il Novecento di fatto partendo da riviste di grafica e anche di letteratura, di editoria, di storia dell'arte d'inizio del Novecento, quindi Risorgimento Grafico, Riviera Ligure per arrivare poi invece a esperimenti esoeditoriali, esperimenti d'avanguardia degli anni 50-60 ma con la poesia visiva siamo arrivati anche agli anni 70 e 80 con poi un approfondimento specifico su una figura di un critico che è stata ricostruita dal gruppo senese, cioè Vittorio Pica. Il progetto è stato reso possibile anche grazie e soprattutto grazie alla collaborazione con enti nazionali e internazionali qui ne ho segnalati alcuni ma la lista sarebbe ancora più lunga. Sono particolarmente contento che alcuni di questi enti interverranno nelle nostre giornate di studio e quindi avranno modo anche di presentare la loro attività dal MART all'archivio storico Salani all'archivio della Giunta Editore passando per la Fondazione Novario Onlus e anche studiosi internazionali che sono stati delle figure di riferimento in questi anni. Dicevo prima della metodologia seguita che ha trovato un punto di unità e di sintesi nel database all'insegna della multidisciplinarietà e questo è stato uno dei punti di forza dell'intero progetto e che si è potuta vedere sia nelle occasioni, nelle pubblicazioni precedenti a oggi sia nell'organizzazione e nella strutturazione di queste stesse giornate di studio che vedono la partecipazione di studiosi di storia della letteratura, di storia dell'arte, di storia della critica e di tanti altri settori che hanno consentito di, come avevo sintetizzato qui tra gli obiettivi, cioè analizzare la diffusione, la ricezione della grafica, dell'illustrazione, dell'arte, della critica d'arte coniugando punti di vista diversi e direi anche complementari che hanno consentito di sviluppare un quadro armonico della situazione. Qui ho sintetizzato alcune delle pubblicazioni che abbiamo svolto, che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo preferito concentrarci su dei momenti di riflessione comune e in particolare vorrei ricordare il numero monografico di studi di Mammofonte uscito nel 2014, il numero monografico della Rivera Ligure uscito da pochissimo. Per il 2016 è prevista la pubblicazione di un articolo riepilogativo nel volume curato da Evangelia Stead dedicato all'Europe di Review e gli atti delle giornate di studio presso la scuola normale superiore, cioè quelle che stiamo facendo oggi, che vi posso già dire con certezza usciranno nel 2016 e vi do già alcuni limiti per la consegna, dovranno essere consegnati tassativamente entro la fine di marzo, proprio perché per uscire sugli annali dobbiamo seguire una serie di procedure. A queste pubblicazioni aggiungiamo poi un numero di palinsesti che sarà dedicato alle tematiche del progetto. Una delle finalità della ricerca era quella di rendere disponibili e consultabili, liberamente fruibili online, materiali difficilmente accessibili, difficilmente reperibili e invece renderli consultabili per gli studiosi. Qui ho riepilogato alcune delle riviste, cioè o meglio tutte le riviste che sono state acquisite fino ad oggi, ma un po' come la locandina con l'imbianchino e con la scala al lavoro, è un work in progress che va evolvendosi di giorno in giorno. Qui vedete appunto già la grande quantità di lavoro che è stata fatta, passando al risorgimento di Rivera Ligure, a Linea Sud, l'Ottapoetica, l'esperienza moderna, marca 3 e già potete constatare come sia stato fatto un lavoro di schedatura capillare, non solo a livello di fascicoli, di acquisizione digitalizzata delle pagine, ma anche di schedatura delle singole immagini attraverso un sistema di taggatura delle immagini stesse che vedremo dopo grazie a Andreoletti e Ficini. Non solo riviste, troverete sul sito, ma anche corrispondenze in materiali archivistici, materiali bibliografici, cataloghi di mostre, soprattutto per quanto riguarda appunto la ricostruzione dell'archivio virtuale di Pica, un grandissimo numero di lettere e di materiali archivistici grazie alla Fondazione Novaro e al prezioso lavoro dell'Unità Genovese, e poi l'archivio delle illustrazioni che è composto dal materiale dell'archivio storico Adriano Salani e da quello dell'archivio storico, giunti editore. Bene, io passo subito la parola a Giulio e Andrea, quindi benvenuti ancora. Buongiorno a tutti. Allora, l'attività diciamo che è stata portata avanti per la progettazione del database CAPTI e ha raccolto le varie esperienze progettuali acquisite dal laboratorio di documentazione storica artistica nel corso degli anni e quindi dobbiamo citare lavori come Emporium, Dedalo, il lavoro fatto per la banca dati dell'archivio Salani e per le riviste come Il Campano che sono già state presentate. Il database, riviste e progetti che qui vediamo raffigurate con le loro home page, sono tutti progetti che hanno dietro delle banche dati, banche dati che si basano spesso su un modello relazionale dove abbiamo più entità in apposite tabelle poste in relazione attraverso degli schemi logici. Possiamo qui vedere in questa slide come gli autori di volumi, articoli, opere ed illustrazioni sono messi in relazione attraverso una chiave con un'apposita tabella che contiene tutta l'anagrafica delle persone che sono state schedate nel corso del tempo all'interno di CAPTI. L'approccio relazionale della banca dati ha comportato un lavoro di adattamento nel caso in cui siamo andati a recuperare delle banche dati esistenti come ad esempio quella dell'archivio Novaro Informatics LS piuttosto che quella dell'archivio delle illustrazioni Salani perché questi precedenti lavori si basavano su tabelle lineari che non avevano un approccio di questo tipo relazionale dovuto al fatto che erano di progetti preesistenti, erano a loro volta derivati da progetti preesistenti. Faccio una piccola aggiunta a quello che sta dicendo Giulio perché vedete in questo caso qui che è una tabella del database Emporium, non so se si riesce a leggere bene da lontano ma dalla seconda fino alla sesta riga l'autore dell'articolo Veronesi Giulia è sempre trascritto per intero nell'approccio che abbiamo visto nel caso precedente invece essendo con delle tabelle che vengono messe in relazione nella tabella degli autori c'è la scheda relativa all'autore Veronesi Giulia e ogni volta poi si fa riferimento con un collegamento interno diciamo così a questa scheda. Questo evita ad esempio che il Veronesi Giulia del caso Emporium possa essere anche scritto male e quindi errori poi di digitazione o di se viene fatto un copia e incolla da altri file, da altri sistemi. Quindi diciamo che è un'ottimizzazione non solo in termini puramente informatici, spreco di risorse ma anche proprio in funzione di minimizzare gli errori. A seguito di questo adattamento è stato possibile quindi come si diceva prima far confluire entrambi i database quello per esempio dell'archivio Salani e l'archivio Novaro che era offline in formato XLS farli confluire nella banca dati capti appunto evitando difformità che potevano esserci. Questa molteplicità di fonti, qui vediamo per esempio la slide relativa all'archivio Novaro questa molteplicità di fonti evidenziata dalle attività di ricerca, attività di ricerca che qui vediamo ad esempio effettuata su capti con il termine Mussino. Mussino è stato ritrovato in sei volte come occorrenza nella tabella delle opere, nella tabella delle illustrazioni, addirittura compariranno i fascicoli che prevedono anche un OCR interno, varie tipologie di firme legate a Mussino e poi cinque risultati delle opere che sono state taggate. Vediamo che questa possibilità di estesa ricerca consente poi di arrivare anche a confrontare quelle che sono le immagini, immagini dei vari archivi, è possibile selezionare tra i vari esiti delle ricerche le immagini e navigare all'interno degli archivi in modo da avere in un'unica videata diverse tipologie artistiche di un medesimo soggetto iconografico, qui abbiamo due illustrazioni prese dalla banca dati capti e dall'archivio Salani che è andata a confluire in essa. Questo confronto è stato esteso dando anche poi successivamente la possibilità di caricare anche delle immagini reperite online, come vediamo in questo esempio dove un'ofelia di Baruffi che è schedata nel database capti viene selezionata e messa a confronto con un'opera di Millet che è stata reperita online su un motore di ricerca e caricata dinamicamente in capti semplicemente copiando e incollando la URL da cui è stata prelevata. Quindi questo ci fa vedere come il database offra anche delle possibilità di sviluppo ulteriori rispetto a quelle in cui attualmente versa. Fra le cose da citare relativamente all'attività di popolamento del database capti è la schedatura in tempo reale che è stata resa possibile grazie agli strumenti del laboratorio di documentazione storica artistica. In questo caso qui vediamo uno scanner per l'acquisizione in tempo reale di immagini ad alta risoluzione che permette di operare la schedatura di quelle che sono le immagini attraverso il sistema di taggatura. La schedatura avviene in un back end, quindi in un ambiente riservato ai gestori del database, ambiente che è stato concordato con le varie unità al fine di poter essere il più completo possibile e dinamico nel senso di evitare come diceva prima Andrea eventuali errori legati a duplicazioni, vi sono delle tabelle con le occorrenze più frequenti, delle tabelle con l'anagrafica persone che si possano aprire a pop-up per inserire in tempo reale quelli che sono i valori nel database. Volevo farvela io una domanda subito. È previsto nell'arco delle tre giornate di lavori poter fare anche una dimostrazione in diretta, chiamiamola così, del portale di CAPTI immagino. Ecco, perfetto, perché questo potrà essere la chiarezza maggiore rispetto a questa parte un pochino più teorica che ci avete presentato e verrà anche bene credo a fine lavori poterla fare perché ora è stata presentata, correggetemi se sbaglio, il contenitore. Poi parleremo di contenuti e dopo unendo insieme questi due concetti forse riuscire a navigare insieme con un occhio anche più avvezio, un orecchio più avvezio, possiamo anche capirne di più le potenzialità. Io mi permetto solo di dire che peccato che io fra un anno lascerò la scuola dopo 40 anni, non farò più in tempo a vedere, cioè a vedere i risultati dei miglioramenti diciamo del laboratorio sicuramente sì, me lo auguro, però non a mettere le mani in pasta come ho fatto per tanti anni, perché se questa diciamo funzione, questa potenzialità di abbinare tante immagini diverse, recuperate da contesti diversi, ci fosse stata per Emporium o per Dedalo, tanto per citare due grandi fatiche, credo che sarebbe stata ancora più interessante lo studio insomma e l'applicazione, quindi vi ringrazio molto. Benissimo. Allora, io ora passerei la parola a Paola Pallottino dell'Università di Macerata, che ci parlerà di, entrando subito in tema, di illustrazione, bertieri e risorgimento grafico. Grazie Paola di essere intervenuta. Ti è più comodo stare? Mi avverti quando? Inesorabilmente io ti avverto fra una ventina di minuti. No, mi avverti fra una diciottina di minuti. Fra una diciottina di minuti. Fra una diciottina di minuti. Allora, vogliono, grazie, benvenuti. Non so se sia opportuno. Vorrei mettere la prima immagine. Come faccio? Do clicco? No. Disposto? Aspetta. Grazie. Allora, dicevo, non so se sia il caso di introdurre due parole sulla figura di Raffaello Bertieri. Raffaello Bertieri nasce da famiglia modesta a Firenze il 5 gennaio del 1875 e dunque si colloca si colloca in un periodo di grande base, seme, nascita di fervori nell'ambito che poi sarà il suo, ovvero la tipografia. Andrà a Milano e comincerà l'attività di tipografo nel 1902 alla nascita di questo house organ delle industrie grafiche che si chiamava il risorgimento grafico. Lui comincia a collaborare a questa rivista che poi diventerà la sua creatura prediletta, direttore nel 1904, la acquisterà per cui poi diventerà l'editore di questa rivista e contemporaneamente svilupperà tutta una serie di interessi che andranno sempre più focalizzandosi. Crea perfino dei caratteri, il famoso Incunabola che è basato su un carattere, su un fonte di Rattold, il Sinibaldi, il Paganini in collaborazione con Buti, eccetera, ma soprattutto continuerà un'opera di studio e volgarizzazione delle eccellenze tipografiche, a cominciare dal Bodoni, che anche lì poi ci sarà una storia perché poi era uomo molto umorale e i suoi studi su Bodoni sono molto interessanti ma tendono poi a sottolineare determinati aspetti dell'opera di Bodoni. In seguito dirigerà la scuola del libro di Milano, ci saranno delle fiere del libro a cui parteciperà con grande entusiasmo, sindaco delle città di Asso, muore a Milano nel maggio del 1941 e con la sua morte si arresta la pubblicazione della rivista. Allora entriamo subito nel merito e vediamo che cosa Raffaello Bertieri che vedete qua in una foto del 1911, molto giovane, e qui invece in una caricatura di Piero Bernardini. Cosa caratterizza il rapporto di Raffaello Bertieri con il risorgimento grafico? A differenza di molte altre grandi riviste, a partire dalla decana de studio che è del 93, Versacrum del 98, le quali Emporium che abbiamo qui esaminato a fondo nei precedenti convegni e dove solo la voce di Vittorio Pica si leva per una maggiore attenzione all'illustrazione, alla sua valorizzazione, alla possibilità di essere veicolo per l'editoria di nuovi significati, direi che in queste riviste, nelle riviste che ho citato, che sono le più importanti riviste d'arte dell'epoca prima del risorgimento grafico, sì, appaiono profili di illustratori artisti però, di tanto in tanto, molte illustrazioni, ma mai indagini sugli aspetti storico-teorici dell'illustrazione. Soltanto su Versacrum appare, mi pare, nel 9, un piccolo articolo intitolato La decorazione del libro e lì poi sempre l'ambiguità perché per decorazione si può intendere e l'illustrazione e tutto l'apparato che accompagna e che nel periodo, tra l'altro, Secession era straordinariamente esuberante, straordinariamente significativo. Dunque, è invece immediato questo interesse assolutamente inedito di Bertieri nei confronti dell'illustrazione. Allora, come si traduce questo interesse di Bertieri nei confronti dell'illustrazione? Beh, intanto a cominciare con una serie di copertine che vengono affidate a vari artisti da... ma perché non sta in mezzo? Mannaggia! A cominciare da questa di Mario Norfini, questo Mario Norfini era un personaggio assolutamente... di cui non sono mai riuscita a recuperare il catalogo di una mostrina che fu fatta al paese suo, che non so nemmeno cos'era nel nord. Comunque lui era un animalista ed era a sua volta figlio di cacciatori, studiosi di animali, eccetera, e ha prodotto nell'editoria italiana dei più che decorose illustrazioni sugli animali. Devo dire che questa è una delle più belle illustrazioni di Mario Norfini. in questo numero del risorgimento grafico del giugno del 1907 con questi leoni. E poi qui il dato che ci interessa e che sarà poi dato caratterizzante della rivista è il fatto che questa immagine sia stata stampata su una carta particolare. Allora, il risorgimento grafico continuamente proporrà campionature affascinantissime di carte di ogni genere, sia destinate all'editoria, perciò a pubblicazioni particolari, e sia carte di interesse generale per disegnare, per utilizzarle in altri modi. pensiamo a tutto quello che era una ciaccapista di scatole, scatolette, costruzioni, cose, con l'impiego di carte particolari. Dunque, altra copertina molto interessante sarà questa precocissima, parliamo dell'aprile del 1908, precocissima copertina di Rubino. E qui viene fuori subito il motivo. Rubino era ambidestro, riusciva a fare i suoi disegni lavorando con tutte e due le mani. E qui abbiamo subito un esempio. E si vede già la modernità e la grazia di questa copertina. Dunque, un'attenzione molto ben mirata di Bertieri. In seguito ci saranno ovviamente copertine di De Carolis, di Terzi, di Mosan, di Ventermarini, di Bernardini, di Passaglia, eccetera, fino alla grande concorso per una copertina che sarà proprio il salto nella modernità del 1935. Con copertine razionaliste vedremo i risultati di questo concorso. E questo, diciamo, come illustrazione interna è meno, ma tutto sarà sempre affidato o alla copertina o alle immagini che vengono riprodotte nel corso di studi di profili di artisti. L'aspetto teorico, a sua volta, sarà contestualmente analizzato da una serie di studiosi dell'epoca che poi vedremo, a partire dallo stesso Bertieri che spesso è umoralmente contraddittorio. Dunque, se questo lavoro di studio comincia intorno al 1906-1907, diciamo che Bertieri anticipa di oltre un decennio quello che sarà poi l'opera di un altro apostolo della tipografia, il bolognese Cesare Ratta, con la sua serie di libri assolutamente, ormai assolutamente introvabili, gli addornatori del libro a partire dal 1923 fino al 1935, quando lui scrive, no, al 1937 scrive questo congedo, che sono pieni zeppi di immagini e che ritagliano. In realtà il primo, il più interessante e meno noto è del 1922, ritagliano una fetta di storia dell'illustrazione italiana perché effettivamente costituiscono una campionatura ineludibile e purtroppo Bologna nulla sta facendo per questo Cesare Ratta, il quale creò la scuola tipografica del Comune, fu un attentissimo e questo lo fu anche Raffaello Bertieri, fu un attentissimo alle questioni sindacali, cosa che all'epoca per i tipografi era assolutamente inesistente. Basta leggere le memorie di Barbera per scoprire come prima dell'uscita il padrone sputasse in tutti i vasetti di colla per evitare che i bambini se ne mangiassero. C'erano scene veramente così da quartissimo mondo. Vediamo dunque che, come avevo anticipato, questa appassionata militanza nei confronti della rinascita del libro e dell'illustrazione che svolge Raffaello Bertieri riguarda anche questo atteggiamento che avevo detto, assolutamente conflittuale. Da un lato l'illustrazione viene esaltata con una serie di interventi teorici e anche pratici perché lui descrive determinati aspetti e parallelamente viene contestata per la sua natura squisitamente grafica che è in fatale opposizione agli interessi, alla prediletta visione tipografica e questo anche Ratta. Ossia, loro che cosa prediligevano? Prediligevano gli xilografi perché erano dominabili, perché stavano nella pagina. I matti illustratori che facevano cose stravaganti, loro li vivevano con maggiore difficoltà. Ciò nonostante, vediamo che con tutte le idiosincrasie che avrebbero caratterizzato la visione di Bertieri, tra l'altro lui a un certo punto in una delle sue prime pubblicazioni dichiara, ritengo che sovente la decorazione e l'illustrazione alterino il valore del libro. In realtà è proprio la sua opera che introduce nell'editoria italiana una nuova consapevolezza e una nuova coscienza del ruolo dell'illustrazione. Questa sua visione si sviluppa su quattro fondamentali direttrici. La prima è la rubrica Gli artisti del libro, la seconda è un'altra rubrica che poi si tradurrà in volumi che è Gli artisti italiani del libro, la terza è Il libro artistico per il giovane e la quarta è la costante attenzione al richiamo tipografico in una serie di annate e di copertine che sono rimaste memorabili. Nella prima direttrice vediamo che la rivista sarà una vivacissima palestra di articoli e studi a firma, appunto come vi ho detto, lo stesso Bertieri, di Antonio Rubino in inedita veste di recensore e studioso di aspetti dell'illustrazione, Alfredo Melani, lo stesso lo stesso Cesare Ratta, Mario Ferrigni, Fumagalli, Tinti che organizzerà nel 22 la mostra la mostra sull'illustrazione del libro che poi passerà all'edizione di Monza delle arti decorative del 1923, Calabi, Trevisani, Luigi Servolini e ognuno di questi autori esamina un aspetto specifico dell'illustrazione dai libri scolastici per l'infanzia alle copertine al cartello murale che si chiamava ancora il manifesto del cartello murale, la caricatura, la pubblicità, la propaganda e tutti questi studi vengono presentati in questa rubrica appunto che ho citato, gli artisti del libro e vengono all'interno di questa rubrica esaminati i profili di Alfredo Baruffi, Attilio Mussino, De Carolis, gli stranieri Dard Hunter, William Joseph Hunter, Emilio Mantelli, Giulio Cambellotti e vi risparmio, fino ad arrivare alla modernità con l'inclusione di Edoardo Persico e Riccardo Ricas. Non a caso già dal 1907 Bertieri accusava l'impreparazione dei critici professionisti che proprio come categoria dicendo tutt'al più hanno parlato del libro in genere riferendosi alle sole illustrazioni, quasi che bastasse qualche graziosa vignetta a fare la bellezza di un libro e prosegue dicendo così che per tutti questi esteti quotidiani basta che l'edizione sia copiosamente arricchita da immagini perché il libro possa chiamarsi edizione artistica e qui c'è da concordare, io per prima concordo perché vengono gabellati come libri d'arte delle orride ciuffecche dove magari c'è una schifida xilografia, un'incisioncina di qualcuno e immediatamente diventa il libro d'arte e viene in qualche modo privilegiato rispetto a squisiti prodotti esclusivamente tipografici degni di tal nome, di grande dignità professionale che però non hanno il maledetto esemplare unico per cui nei confronti del libro d'arte voglio come Sant'Omaso andare a vedere opera per opera se è degno di questo nome. Tra l'altro la prima vittima di queste oscillazioni degli umori di Bertieri sarà proprio Carlo Chiostri per il Pinocchio del 1901 e lui dice ed in vero mentre il primo illustratore del lavoro il Mazzanti riuscì a dare nei suoi disegni una figura sbarazzina e simpatica di Burattino e seppe trovare motivi illustrativi geniali, il Chiostri, il nuovo artista prescelto dalla Bemporad, ha reso la fisionomia del ligno protagonista antipatica e insipida e fino a contestare illustratori che aveva presentato sulla rivista magari qualche numero prima, a cominciare, che aveva presentato con giudizio favorevole evidentemente, a cominciare da Leardo Terzi, un elegante disegnatore come lui ha oggi quasi perduto il diritto di essere ritenuto un artista del libro come fu in queste stesse pagine chiamato, dove è più l'originalità del suo disegno e tutto questo è detto in maniera così un po' maligna nell'anno di Grazia 1912. Ora, se pensiamo alla produzione di Leardo Terzi fino al 1912, diciamo che è una produzione assolutamente strepitosa sia per quanto riguarda i manifesti e sia per quanto riguarda invece la decorazione del libro, le vignette, le immagini per le riviste. Tra l'altro anche ad Attilio, ovvero Mussino, che viene sempre, che si firmava Attilio, viene sempre chiamato Attilio, dice, di Mussino dice, ho veduto il Mussino illustratore del fortunato Pinocchio ed in questo lavoro ei non dimostra grandi qualità di interpretazione e contrapponendo l'illustrazione alla decorazione conclude lapidariamente ad ogni modo vi si rivelò più illustratore che decoratore del libro e questo chiude perfettamente la cosa, ossia non bastava essere illustratore, Mussino illustrava Pinocchio, non è che aveva necessità di essere decoratore del libro, le sue illustrazioni parlavano nel contesto del libro, tra l'altro l'edizione del 1910, prima Dispenza, è molto interessante e direi che non è nemmeno vero questo che dice Bertieri perché in realtà Mussino all'interno dell'illustrazione di quel Pinocchio sperimenta una serie di moduli estremamente interessanti creando delle sequenze consecutive, usando il colore in maniera estremamente espressiva eccetera. Comunque il caso più contraddittorio, quello più bizzarro di questi umori di Bertieri sarà proprio quello di Antonio Rubino, il quale oltre alle copertine, illustrazioni interne e come anticipato esordisce anche come autore che inaugura la rubrica degli artisti del libro, tutti precedenti, chiamato da Bertieri evidentemente, tutti precedenti che non impediranno al direttore di scrivere nel 12. Parliamo di Antonio Rubino, questi fu da me consigliato dopo poco tempo che alcuni suoi lavori erano stati pubblicati a dedicarsi al disegno artistico applicato alla tipografia. Ciò avveniva nel 1906, ricco di immaginazione, un po' strano, ma temperatosi col tempo e gli fece molto sperare di sé, ma che so io, o la pigrizia o l'esaurimento sminuirono in seguito il valore dell'opera sua, salvo ricredersi lo stesso anno di fronte al volume del noto volume del 1911, versi e disegni di Rubino, in cui ci sono le sue poesie, tutti sanno che è così questa bizzarria di Rubino, Rubino si laureò in legge con una tesi in versi e nacque come poeta e cominciò a fare dei disegnini per accompagnare le sue poesie, nacque poi così appunto questo versi e disegni leggendario, ricercatissimo sul mercato antiquario, eccetera, e che è stato perfino orrendamente ristampato in argento e oro per una di queste foglie, così insomma sono delle aberrazioni che spesso vediamo per rendere un libro più appetibile, quando invece una buona anastatica sarebbe la benvenuta. Dice di fronte a versi e disegni Bertieri che il libro ha una concezione ardita, sobria e seria nella sua originalità, in realtà di sobria e seria in queste illustrazioni di Rubino che sono una festa di segni, di minute descrizioni, di nani, di stregonesche immagini, c'è ben poco, ma è molto, da un punto di vista editoriale, è molto ben composto con i testi da una parte e le immagini dall'altra, cosa che evidentemente sarà stata apprezzata da Bertieri. Ho perso qualche immagine? Beh, qui per esempio abbiamo una immagine del citato Aleardo Terzi, come vedete sempre molto elegante, il suo impiego del bianco e nero era assolutamente superlativo e qui vediamo invece una divertentissima immagine di Mussino intitolata La storia delle campestagne è del 1908 e qui si vede molto bene quella che è quella che è quella che è la proprietà e il dominio della pagina nell'illustrazione di Mussino. La seconda direttrice sarà quella delle monografie, gli artisti italiani del libro, Melani scrive di Guido Marussighe nel 19, Ferrigni di Primo Sinopico nel 21 e Cozzani di Armando Cermignani che verranno nel 22, che verranno poi raccolti in tre volumi e questi verranno pubblicati sul Risorgimento. Allora, questa è una bellissima xilografia di Guido Marussighe intitolata Palistriati e Ippocastani fioriti che è apparsa appunto nel 1920. segue sempre in questo volume scritto da Melani, segue questo meraviglioso cartello che è le carni conservate nello studio che Mario Ferrigni fa di Primo Sinopico. Allora, Primo Sinopico, Raul Scheren, era un sardo bizzarro e genialissimo che mentre ancora nei manifesti si facevano così le dive poppute, le itali a volte nelle bandiere, con una straordinaria modernità e secchezza di segno, inventa, tra le tante altre cose, questi 57 cartelli per le industrie italiane per l'editore notari. Allora, siamo a Caporetto Giudilli, 1917, Umberto Notari, geniale editore e scrittore poi contestato con libri che ebbero processi, eccetera, si inventa questa possibilità di rilancio dell'industria italiana e crea questa rivista che si chiamerà le industrie italiane illustrate, poi le tre i, nel 1917 e affida la visualizzazione di tutte le industrie, queste sono le carni conservate, ma ci sono, che so, le armi da guerra, i tessili, ogni tipo di industria viene a due colori sintetizzata con questa strepitosa capacità e modernità di Sinopico, ma poi naturalmente la monografia di Ferrigni indaga anche tutta un'altra serie di aspetti di Sinopico, le illustrazioni, le copertine, eccetera. Certamente, ecco, questa però vi dà il segno di questa genialità dell'artista. E infine Cermignani, predilettissimo qui nel Giardiniere, predilettissimo esattamente come Marussiche perché tutti e due rassicurantemente xilografi e qui vediamo che questa è a quattro legni, molto bella questa xilografia del Giardiniere di Armando Cermignani. In periodo bellico Bertieri pubblicherà copertine xilografiche, per esempio, non so, Venter Marini pubblica una serie in copertina, una serie di immagini che sono ispirate ai luoghi del Trentino, questo mi pare che sia cavalese, sì, ed è del giugno 1920. Contestualmente, la casa editrice del Risorgimento Grafico, che ha pubblicato i due volumi intitolati di Guido Rubetti, intitolati Un'arma per la vittoria, la pubblicità nei prestiti italiani di guerra nel 18 e 19 pubblica una serie di stralci interessantissimi perché sono ricchi di manifesti, locandine, cartoline, cartoline illustrate. Ecco, qui vedete una pagina in cui sono riprodotti due manifesti, uno è quello di Barchi, di cui non si sa, un cartellonista di cui si hanno poche notizie si suppone sia tale Alessandro Barchi, ma la cosa non è certa, e l'altro di Girus, Giuseppe Russo, che è il famoso cannone che nasce dall'oro versato, da questo salasso dei prestiti di guerra. La terza direttrice è rappresentata dai tre volumi della collana, il libro artistico per i giovani. Andrea da Barberino, qui vedete un'immagine di Piero Bernardini che illustra Guerini il meschino nel 1923, Mario Ferrigni, Ginevra degli Amieri illustrata da Francesco Carnevali e infine da Venter Marini il povero Fornaretto. Questi tre volumi, in questa collana Bertieri si proponeva di dare al giovane lettore un vero e proprio, sono tutti del 1923, un vero e proprio libro artistico amorosamente illustrato, composto, stampato e legato con criteri d'arte. Di questi libri a tiratura limitata con illustrazioni al tratto, più un colore, ai quali tuttavia l'intenzione di rifarsi agli antichi incunaboli conferisce un aspetto assolutamente funereo, va rilevato insieme all'opzione per la letteratura popolare, non a caso avete visto Guerino il meschino, Ginevra degli Amieri, il povero Fornaretto, il coraggio di Bertieri nell'avere affidato l'apparato illustrativo a due giovani, come perché già era più noto Giorgio Venter Marini, ma Carnevali e Bernardini erano di primissimo pelo e avevano, e con questo e questa prova gli fece ottenere un diploma d'onore nella sezione addornatori del libro alla prima biennale di arti decorative di Monza del 23, per cui anche occhio lungo da parte di Bertieri. L'altro dato è la continua, che adesso Milaglia mi confermava un particolare legame con la casa editrice Paravia, sempre questi inserti incollati di copertine di vari editori, per non parlare del numero sulle etichette di profumi, con tutte le etichettine dorate incollate sul risorgimento grafico, per non parlare del numero sulle etichette degli alberghi. Un tempo sulle valigie si attaccavano le leggendarie etichette e lì c'è una profusione di etichette, di facsimile di etichette nel risorgimento. E dunque è anche una sorta di pubblicità per le varie case editrici, in questo caso vedete di Ugo Mocchi, L'ombra delle bestie, che è un libro pubblicato da Treves nel 24, questo appare su un risorgimento grafico del 25. E ugualmente Carlo Nicco, per questo Wiman, sotto il mantello rosso, tra l'altro storia del cardinale Richelieu, che ebbe moltissimi rifacimenti, film, eccetera, e qui genialmente con il simbolo cardinalizio, con il coso, è una, e anche questa è del 24 ed è dell'artista Carlo Nicco. Come vedete è continuamente, è ricchissimo il risorgimento grafico, infatti in genere si trovano le copie con tutti strappucchiati, biglietti da visita, carte intestate, analisi su le partecipazioni, perfino un numero sulle partecipazioni da lutto, come si potevano creare delle partecipazioni da lutto di vario genere. L'altro elemento interessante del risorgimento sarà il continuo stimolo agli artisti con una serie di concorsi, concorsi di ogni genere che poi vedremo, insomma, sulla scorta delle riviste straniere come The Studio, che aveva sempre le ultime quattro pagine dedicate a concorsi. Nel caso del risorgimento grafico, Bertieri invita alla realizzazione, copertine, illustrazioni per novelle, freggi, decorazioni editoriali e vari e vari e svariati esempi di grafiche. Finiamo esaminando la quarta direttrice che sarà quella delle annate con copertine che fanno riferimento alla tipografia. Nel 1916 Achille Luciano Mozzan disegnerà, una differente dall'altra, le spiritose sorprese della visita di Messer Giovanni, stampatore privilegiato, ad una officina tipografica moderna, con tutta una serie di meraviglie e stupori, facendo vedere nello sfondo sempre la macchina tipografica di turno. Nel 1925 Piero Bernardini, replica questa immagine di un severo maestro e aiutante che stanno alla cassa tipografica che viene scandito in 12 copertine all'interno di un calendario, viene fatto un calendario di questa immagine nel 1925. Nel 1932 addirittura Mario Soresina farà un'impresa incredibile, ovvero mostrerà copertina per copertina in 12 passaggi la creazione del titolo Il Risorgimento Grafico da parte di un laboratorio dove vari tipografi collaborano alla creazione, mettono insieme i piombi per la scritta e poi se ne vanno fino all'ultima copertina, adesso non so se si vede bene dove ormai il titolo è stato già composto. Ma sarà nel 1935 che i vincitori del concorso della copertina, in questo caso Ugo Graziotti, vedete il magnifico risultato, e Bruno Munari secondo premio, meno interessante. Comunque già i collaboratori, diciamo le 12 copertine degli autori di questo concorso mostrano tutte, rivediamo un attimo, ecco Graziotti, un Henry Moore grafico, veramente una geniale soluzione. E diciamo che in uno scambio sempre più funzionale tra la produzione editoriale e la rivista, numerose sono le pubblicazioni di Bertieri, da Corretta e Core di Rubino, alle tavole per nuove tendenze, il movimento futurista milanese di Leonardo Dudreville, ai citati volumi di Rubetti nel 18 e 19, ai suoi fondamentali saggi, il libro italiano del novecento e del ventotto e come nasce un libro del trentuno, nonché una serie di piccole, poi il lavoro sul Bodoni, una serie di piccole e grandi pubblicazioni in circostanza, ma spesso a tiratura limitato ovviamente, ma anche quando dopo essersi associato con Vanzetti, Bertieri, pubblica per terzi, le sue edizioni si distingueranno sempre per la straordinaria qualità del proprio editoriale, la bontà delle illustrazioni e citiamo per tutti il contributo alla Campari. Nel 1937 viene pubblicata la pubblicità di una grande casa italiana, che è un libro bellissimo e introvabile su tutti gli artisti che collaborarono alla pubblicità per Campari e prima ancora i famosi Cantastorie di Campari, il primo illustrato da quel Mocchi di cui abbiamo visto l'immagine di copertina dell'Ombra delle Bestie e in seguito di Sergio Tofano in questo secondo Cantastorie di Campari con otto illustrazioni meravigliose e poi in seguito Sinopico, Munari, che saranno tutti accompagnati dai versetti di Renato Simoni. A conferma comunque di una promozione lungimirante, ancorché umorale, fino alla fine, nel 1941, uno degli ultimi articoli di Bertieri, lui dirà che in Italia l'arte della illustrazione è andata prendendo degno sviluppo abbandonando i vieti arcaismi che illusero molti. Sono sempre queste dizioni un po' ambigue che significano tutto e niente. Va bene, vi ringrazio. Siamo noi a ringraziare Paola Pallottino anche perché diciamo ci è servita da introduzione alle relazioni della mattina che saranno tutte orientate verso il sorgimento grafico e avere questo scenario così generale e anche così puntuale aiuterà sia per la mia relazione ma anche dei miei colleghi a sorvolare anche per motivi di tempo appunto sull'opera di Bertieri e quindi ringrazio molto anche diciamo di questa panoramica che Paola ci ha offerto. Io direi che adesso c'è un piccolo break. Posso chiedere una cosa che mi sono appuntato qui e che credo di aver avuto, posso essermi sbagliato? Ma Antonio Rubino, si lauree in legge, ho sentito bene, con una tesi diversa. La sentiamo. Auree in legge inversi. Sì. Ma è un'ottima idea per le nostre triennale, per riuscire. La cosa da dire è che lui ha sempre avuto questo atteggiamento bizzarro, assolutamente antipedagogico e i suoi quattro figli non li ha mandati a scuola. Tra l'altro lui ha teorizzato il collegio La Delizia e altre cose sul Corriere dei Piccoli facendo queste storie a vignette e perciò lui comunque si è laureato. Sì, ma voglio dire, c'è un docente di diritto, che non so, amministrativo o penale o civile, che ammetteva una tesi di laurea scritta in versi, in legge, che insomma è una notizia che mi colpisce molto e che appunto apre nuove prospettive a noi che dobbiamo dare tesi di laurea ai ragazzi delle triennali, per l'appunto. Grazie. Credevo di essermi sbagliato nell'appuntare la cosa, invece, proprio quella. Potrei rinnovare esattamente il titolo degli altri esempi. Grazie. Scusate se vi interrompo alcune informazioni pratiche e logistiche. Allora, come norma generale abbiamo pensato di fare le discussioni alla fine di ogni maxi-sessione, cioè quindi alla fine della mattina, alla fine del pomeriggio, in modo da riunire tutti gli interventi insieme e poi confrontarci alla fine di ogni sessione. Informazione molto pratica, il coffee break non sarà di fronte a voi, dove c'è il coffee break di un altro convegno, ma possiamo passare prima dall'altro convegno a prendere e poi proseguire. Il nostro invece è alla fine del corridoio della direzione, quindi andando verso la direzione e poi giriamo a sinistra. Un'altra informazione pratica riguarda la mensa, ognuno di voi nella cartellina, chi non l'ha presa è bene che la prenda, troverà oltre all'invito anche dei fogli in cui sono scritte i diversi pranzi. Per accedere alla mensa ognuno dovrà digitare il PIN di questo badge virtuale stampato che trovate appunto nella cartellina. e questo codice vale per tutte e tre le giornate, mentre le cene, come sapete, sono alla clessidra. Beh, era solo un'informazione proprio pratica. Il nostro non è il primo caffè che incontriamo? Non è il primo, ma il secondo sicuramente è più buono. Allora ci ritroviamo qui fra 15 minuti circa e buon caffè. Mentre il cammino dell'opera grafica stava raggiungendo traguardi e attestazioni sempre più importanti per la storia dell'arte figurativa, la diffusione e la fruizione del bene artistico si arricchiva di significati e modalità in grado di consacrare sempre con maggiore forza l'autonomia del manufatto grafico. Questo era avvenuto nella storia del collezionismo pubblico a partire dalla fine del XVIII secolo quando le grandi raccolte disegni e stampe, conservate nei maggiori musei italiani ed europei, acquisirono dignità ed importanza sempre maggiori rispetto alle altre tipologie patrimoniali, raggiungendo poi nell'Ottocento il diritto di avere un proprio programma gestionale e conservativo, un proprio ruolo che avrebbe segnato i precedenti più solidi per un risorgimento grafico. La riscoperta e la nuova affermazione delle tecniche incisorie condussero dunque le arti grafiche ad occupare ruoli primari nello scenario non solo della nuova museografia, ma soprattutto nel settore delle manifestazioni espositive, pubbliche, nazionali e internazionali. I rapporti tra collezionismo e mercato, tra collezionismo ed editoria, tra editoria ed artisti si intensificarono, qualificandoci reciprocamente e alimentando in stretta sinergia le rispettive specificità. Fin dalla fine dell'Ottocento le maggiori riviste di storia dell'arte avevano già garantito spazi e attestazione alle arti grafiche, accogliendo i contributi di un passato fortemente storicizzato e che forniva le basi di una solida e gloriosa tradizione dell'arte incisoria italiana. Allo stesso tempo l'editoria del settore si apriva alle nuove testimonianze figurative di xilografi, acquafortisti, litografi, che in molti casi, già conosciuti quali virtuosi del pennello e dei colori, trovarono nell'incisione e nel processo illustrativo un banco di prova altrettanto efficace, in grado di evocare, dimostrare, avvalorare la propria cifra stilistica. Fra i numerosi periodici del settore, nel 1902 era nata in Italia una rivista che avrebbe rappresentato uno dei massimi livelli di qualificazione nel campo della grafica, il nostro risorgimento grafico. In tempo reale si impose, per l'aspetto altamente tecnico dei suoi contenuti, che ruotavano attorno alle arti grafiche nella loro complessità, iniziando, con crescente frequenza, a curare la storia delle tecniche incisorie, il loro mondo di procedure, di difficoltà e di scelte, l'analisi dell'oggetto libro, che rappresenterà un microcosmo autonomo, un microcosmo tutto suo, forte, le cui dinamiche diventeranno emblema dell'evoluzione comunicativa della stessa editoria artistica. Praticamente la rivista di Bertieri cercò di accompagnare la rinascita delle arti grafiche puntando soprattutto sulla riqualificazione del processo artistico e del processo tecnico. Rappresentò come una sorta di tutore, tutore di quell'antica tradizione che tanto aveva dato all'arte figurativa, intendendo diffondere le cognizioni proprie di quella particolare procedura artistica e riproduttiva. Raggiunse il suo principale obiettivo distaccandosi da quello che molto probabilmente forse l'avrebbe resa anche di più facile divulgazione, cioè ad esempio limitarsi a pubblicare i contributi di artisti incisori, scelse di affrontare e approfondire ogni aspetto legato al mondo della grafica, dalla produzione alla divulgazione, scendendo in campo, vivendo nelle tipografie, nelle stamperie, sporcandosi le mani con l'inchiostro delle forme, dei caratteri, delle immagini, nel costante rispetto della tradizione artigianale da un lato e delle nuove avventure tecnologiche dall'altro, forte del concetto che creatività non avrebbe dovuto significare solo nuove cose, ma nuove cose belle. Un aspetto infatti fortemente qualificante della rivista, della nostra rivista, fu la costante attenzione anche a una serie di argomenti che riguardavano i concetti della bellezza, del gusto, connotazioni dell'arte figurativa, che Berchieri cercò regolarmente di ricondurre all'attenzione del lettore utilizzando i testi di autori che sia con l'arte grafica che con l'arte libreria avevano molto a che fare. Le specificità settoriali affrontate in gran misura in risorgimento grafico, tutte volte ad informare delle nuove tecnologie riproduttive del manufatto grafico, non consentivano quindi di far dimenticare il pensiero critico contemporaneo che proprio sui concetti dell'estetica stava consumando il dibattito più vivace e stimolante per le nuove tendenze. Puntualmente la rivista offriva infatti contributi che facevano riflettere sulle inevitabili interazioni che le arti grafiche, sempre con maggiore stabilità, avrebbero avuto con la linea teorico-concettuale e quella pratico-tecnologica. Ad esempio, il breve trafiletto non firmato che si intitolava Coltivazioni del gusto in tipografia e siamo nel 1903, poneva l'accento su come il progresso tecnologico avrebbe consentito scelte e soluzioni figurative prima impensabili da realizzare. Cito Le difficoltà che si devono incontrare per ottenere un gusto corretto nella composizione dei fregi è pressoché trascurata da ogni scrittore. Troppa fede è posta nell'empirismo e l'idea del buon gusto è frequentemente confusa con le difficoltà della tecnica. Con la diffusione della tecnica vi sono però tutte le ragioni per ben sperare che in un periodo di veri principi artistici abbia a cominciare. Praticamente è proprio il concetto di principio che governa molti degli interventi della nostra rivista. È come se fosse forte l'esigenza di contrapporre o meglio fare interagire la grande rinascita del tecnicismo grafico con una sorta di teoria del figurativo da leggersi quindi come un'alfabetizzazione al bello. Nonostante che la rivista ci faccia assistere proprio da un punto di vista visivo ad un'ampia parabola di modalità grafiche durante le quali alcuni mutamenti avvennero seguendo propri dettami dell'estetica contemporanea sostanzialmente il bello era da riscontrarsi nell'eleganza nell'equilibrio nella nitidezza del segno nella semplicità nell'essenzialità e nel rigore. Queste parole che ricorsero spesso nei testi che affrontarono nei primi anni del secolo tali problematiche trovavano soddisfazione nelle pagine del periodico dove lo stesso impaginato per decenni utilizzò schemi formali che furono specchio di queste idee idee che guardavano molto all'estetica naturalmente francese ed anglosassone. Ed eccoci all'articolo che nel 1905 firmava Alfredo Melani. Alfredo Melani Pistoiese che aveva concluso gli studi di architettura all'Accademia di Belle Arti di Firenze poi a Milano dove aveva intrapreso una lunga e fortunata carriera proprio nel campo editoriale e come docente presso la scuola superiore di arte applicata all'industria di cui poi divenne direttore. Il patto della bellezza si intitolava questo titolo efficace che raccoglieva uno scritto dedicato agli amici dei libri e nel quale si ribadiva la volontà della rivista e si parlava proprio del ritorno al gusto di fare libri belli nel superamento della ragione economica che spesso sormontava la ragione estetica. Vi si legge dovremmo volere che il libro stampato male senza gusto e senza arte esulasse dalla vita non dovremmo permettere che le stamperie le quali sono officine divulgatrici di cultura consentissero alla produzione dozzinale peggio che dozzinale. Si associava un valore così forte alla proceduralità di realizzare libri che si esortava alla creazione di un clima proprio così è la frase esatta un clima estetico delle stamperie si affermava che la bellezza tipografica sarebbe potuta diventare un canone per diffondere il gusto estetico applicare i nuovi rigori per una bellezza anche formale ad un mezzo di così ampia traduzione e quindi diffusione era visto come tramite privilegiato all'educazione al bello e in maniera esplicita Melania auspicava che proprio le pagine di risorgimento grafico potessero essere il manifesto che sancisse questo patto della bellezza che potesse essere l'organo di questa idea l'esortazione di Melania ebbe subito molti riscontri e sempre titolando i contributi patto della bellezza lo studioso ritornò periodicamente su questo tema siamo ora nel 1906 quando il torinese Enrico Vegetti incisore che aveva studiato a Brera firma l'arte nella stampa dove ancora una volta nell'indice della rivista si sente l'esigenza di ritornare al concetto di gusto e al concetto di bellezza addirittura si parla di finezza del gusto quale diritto esclusivo dell'artista ma allo stesso tempo diritto di tutti coloro che sentono sinceramente il bello per istinto meglio ancora che per educazione e queste parole la dicono lunga con la rubrica gli artisti del libro risorgimento grafico apre delle finestre su alcuni sugli illustratori contemporanei più qualificati e qui appunto il contributo di Paola Pallottino ci ha dato degli esempi interessante quindi osservare come nella nostra rivista ci sia proprio l'impegno di organizzare l'educazione al bello sistematicamente riparlando di estetica della grafica in tutte le sue numerose declinazioni con una mission di vera e propria didattica per l'estetica fece nascere una nuova sezione lo stesso Berchieri le regole dell'arte un appuntamento periodico che aveva fatto iniziare per la prima volta nel 1905 ancora Melani inaugurava il 1913 con un bel saggio incisione e incisori concepito per far ricordare le belle incisioni e dove non mancava di scrivere esplicitamente che il popolo la massa doveva essere orientata meglio e disciplinata nei propri gusti il saggio celebrava la nascita della prima scuola italiana di incisione che nasceva a Firenze nel 1912 che dopo un primo periodo di travagli di incertezze nella direzione aveva vantato l'arrivo del giovane Celestino Celestini scultore incisore che poi avrebbe grande diffusione e fortuna alle parole severe in un certo senso di richiamo alla qualità della tradizione delle arti calcografiche ma al contempo tolleranti verso le riproduzioni fotomeccaniche alle quali si riconosceva soprattutto la rapidità univo una scelta selezione questo testo di illustrazioni con xilografie di Emilio Mantelli tratte dal De Camerone curato da Cozzani con immagini infratesto e ardite impaginazioni il saggio nominava moltissimi artisti e la volontà di usare solo cinque immagini dimostrava coerenza col pensiero che era stato espresso in vari passaggi precedenti non solo di questo stesso articolo ma anche di altri scritti che criticava quelle riviste che criticava quei libri troppo fitti di illustrazioni che quasi inflazionavano il ruolo stesso del corredo illustrativo tanto da distrarre spesso il lettore dal valore delle parole anche un altro aspetto di questo testo penso sia interessante Melania auspicava che la scuola fosse autonoma e che il meno possibile burocratizzata spiegava l'apertura ai giovani l'importanza che i giovani potessero lavorare ed esprimersi e la serietà del lavoro che in essa avrebbero svolto per recuperare il valore dell'incisione manuale nel 17 risalta invece uno scritto del Terenzio Grandi il Terenzio Grandi piemontese storico ma anche tipografo amico di quell'angelo Ghisleri che aveva fondato Emporium e quest'articolo era dedicato ad una mostra torinese di stampe antiche della raccolta di Gustavo Chiantore biblofile collezionista era un'esposizione di circa 1500 incisioni di varie tecniche ed è uno dei rari casi in cui nella sua vita risorgimento grafico dedicava appunto degli articoli dei saggi a delle mostre che appunto si interessassero anche di incisione antica questo scritto inserito in risorgimento grafico dopo circa 15 anni di vita è importante e deve essere considerato come una celebrazione delle arti grafiche tradizionali grandi esordiva non dimenticare il valore artistico ed estetico dell'incisione antica dei metodi tradizionali che ancora avevano tanto da dire e tanto da suscitare ricordava di mettere l'esposizione in rapporto alla rinascita dell'arte incisoria ad esempio che celebrava in quello stesso periodo l'eroica si soffermava su pezzi straordinari come il trionfo di Cesare inciso su ben dieci tavola a chiaroscuro da piane sulla traduzione di Mantegna offrendo un corredo illustrativo che pur essendo con riproduzioni in mezza tinta fotomeccanica lasciavano comprendere benissimo la bellezza degli originali il numero dell'aprile del 18 si inaugurava con un saggio dell'architetto Giorgio Venter Marini si chiamava l'estetica grafica strutturato in sette brevi sezioni nella prima leggiamo il rammarico per gli scempi in campo architettonico desolazione che sembra compensata proprio dall'arte tipografica ed ecco un elogio addirittura alla tipografia dove l'umile tipografo è visto come educatore del bello in una vibrante riconferma delle istanze già presenti agli esordi della rivista poi poi l'autore sviluppa un ulteriore elogio al bianco e nero all'axilografia come riposo dell'occhio stanco lui la battezza e quindi chiaramente i riferimenti a Marussica Martina e De Carolis sono moltissimi ribadendo il valore degli elementi di bellezza che formano la pagina gli spazi in rapporto ai margini e dal corpo dei caratteri la buona disposizione dei titoli i fregi i finali nelle singole pagine cito l'arte nel suo più fulgido periodo semplifica la natura diventa decorativa stilizza dal realismo passa all'idealismo un elegante osservazione estetica del Sili e siamo nel 26 portava invece a sottolineare lo stretto legame tra linguaggio ed estetica del carattere nasceva dopo una lettura di una pagina di critica tipografica pubblicata in una rivista americana dove un'osservazione estetica in particolare aveva interessato il nostro autore che dopo un breve scenno che aveva relegato nelle pagine di archivio tipografico ora riaffrontava sulle pagine del nostro risorgimento questo tipo di contributo era dedicato soprattutto alla bellezza del carattere tipografico e si soffermava come soprattutto in virtù della morfologia delle parole italiane si sarebbe dovuto praticare un'adeguata traduzione grafica del carattere ci saranno altri simili passaggi nella rivista che attribuiva proprio alla struttura formale del carattere un mezzo per raggiungere la bellezza della pagina il concetto di bellezza e di estetica pervadono le linee della rivista sempre in modo più diciamo marcato e dal 1930 sono numerosissimi gli articoli che uscirono con definizioni che già negli stessi titoli non lasciavano spazio all'interpretazione pagine belle pagine brutte pagine bizzarre estetica del lutto estetica del libro popolare etichette classi che richeggiavano istanze addirittura settecentesche nel 1933 riprendendo idee già dichiarate nei primi anni della rivista in particolare mi riferisco all'articolo di Raffaello Bertieri stesso del 1915 che titolava gli artefici nuovi gli artefici nuovi scusate dove cominciava ad affermarsi l'idea che il maestro incisore del passato ora si poteva identificare con il tipografo contemporaneo questo è un testo importante che dovrà essere sicuramente ripreso e approfondito negli atti dicevo che nel 1933 viene pubblicato un contributo interessante che ancora spiega la sensibilità di quegli anni e il modello artistico ed estetico a cui molti miravano per un'estetica grafica italiana qui Mario Soresina Mario Soresina appunto l'accademico di Brera che aveva collaborato con Marussig alla decorazione del vittoriale lui stesso grande illustratore di copertine e fondatore in quegli stessi anni della rivista Campografico affronta quindi Soresina l'argomento di una nuova estetica e di come il suo raggiungimento debba passare per un processo ben preciso l'artista sia esso pittore scultore architetto deve entrare deve vivere in tipografia solo con la stretta collaborazione tra l'artista del disegno e il tipografo potrà nascere un nuovo modello di bellezza grafica ci rendiamo conto che nonostante i canoni figurativi stiano mutando in questi decenni resta comunque un sottofondo ideologico ancorato al concetto che la procedura della stampa non può essere estranea a quella più teorica dell'artista solo insieme questi due elementi possono portare ad un prodotto valido soresina naturalmente è proiettato verso le nuove tecnologie che non vanno demonizzate ma ben interpretate è proiettato verso una cultura di regime assai marcata contro gli accademismi e i decoratori parla di un artista perfetto tecnico e perfetto esteta si sbilancia verso l'uso della fotografia che in tipografia è una delle caratteristiche essenziali della nuova estetica grafica giudicandolo un vero e proprio linguaggio ottico nel 35 il del bello e del diverso di Carlo Frassinelli Carlo Frassinelli figura vicino al futurismo lui stesso tipografo litografo e poi editore offre un riepilogo della situazione l'inizio è particolarmente eloquente di questo suo breve saggio scrive tutti i movimenti innovatori che si sono verificati e si verificano nel campo grafico italiano sono di fatto movimenti di critica Frassinelli asseriva anche che a forza di affermare la necessità di fare forme nuove si stava trascurando il fare le forme belle e scrive il grafico d'oggi si dimostra inferiore al compito perché schiavo invece che interprete incapace di creare qualcosa di suo in questo scritto del 35 si accuse invece l'arte grafica di essere chiusa e non lirica libera e fantastica e con passione l'autore esorta la competenza del grafico che dovrà riprendere in mano la creazione della pagina nel suo insieme riconquistando proprio la conoscenza della carta degli inchiostri dei toni costituenti sui quali e con i quali si potrà allora applicare lo stile e si potrà allora applicare la bellezza l'accuratezza dei rapporti degli equilibri tra tutti gli elementi evidentemente si parlava di ritmo della pagina di armonia dell'ordine del disordine di combinazioni del bell'ideale col brutto naturale si giudicavano addirittura perversioni estetiche certi risultati tutti uguali e privi di personalità insomma l'allarme era che fare il diverso non era poi difficile ma fare il diverso che fosse espressione di bellezza eterna era tutt'altra cosa per comprensibili esigenze naturalmente di tempo e di spazio questa scaletta di temi che per ora vi ho elencato e che vorrei sviluppare termina qui penso che le parole di risorgimento che il risorgimento dedica al valore di bellezza al valore di gusto e di estetica in generale siano importanti come sarà utile anche inquadrare meglio coloro che le scrissero coloro che le dissero perché è molto importante capire chi anche scrisse e fermò queste idee e chi alimentò e chi buttò il sasso nello stagno di un dibattito così interessante ci rendiamo conto che il risorgimento grafico su questi temi fu specchio fortemente efficace di quello che la critica e l'estetica del figurativo marcava nelle arti parallele evidenziando le vibranti attività che nel settore della grafica con modalità e schemi diversi rivendicavano dunque un patto per la bellezza che avrebbe sempre più garantito un'autonoma identità e dignità artistica delle arti grafiche e vorrei congedarmi con alcune parole tratte da un editoriale del 1912 di Ettore Cozziani e Franco Liva i padri dell'eroica che nella straordinaria qualità delle sue illustrazioni nella vibrante maestria incisoria di quelle xilografie che con una generosità dirompente invasero le sue pagine così gridava vendetta per la riconquista della bellezza noi siamo offesi e nauseati dal mal gusto che dilaga per tutto come una nebbia sottile e vischiosa la quale si stende sugli occhi e spegne ogni luce e vela ogni bellezza e dà tutte le cose a tutti gli atti della vita un unico tono grigio è un moto di stanchezza che spossa la gioia e siamo vergognosi irritati dell'indifferenza con cui gli artisti passano per mezzo a tanta miseria estetica badando ai loro spesso folli sogni di bellezza eratica è brutto perfino il libro nel quale ben cerchiamo consolazione di parole divine è brutta perfino la nostra carta da visita il nostro foglio di lettere è tutto invece bisogna che resia bello e che lo sappiano e lo vogliano molto in prima istanza gli artisti noi vogliamo che la pittura e la scultura tornino ad essere essenzialmente decorative ma quando diciamo questo non vogliamo significare solamente che quadri e statue debbano avere un intento e un uso decorativo come adornamento della parete o del vestibolo della tavola o del plinto ma questo solo sarebbe una diminuzione dell'arte un avvilimento una rovina le pitture e le sculture devono avere soprattutto un'anima decorativa un ritmo cioè di linee e di piani di chiari e di scuri di profondità e di vastità che di all'anima un senso di equilibrio in cui essa si riposi e goda o anche soffre e pianga ma come si soffre e piange e prega in un tempio perfetto che non è detto che si senta meno il dolore e il mistero anzi più profondamente l'anima in esso si immerge quando intorno vigila la bellezza grazie multitask a questo punto vi ringrazio e passo la parola ad Elena Miraglio della scuola normale che vi parlerà di risorgimento grafico educazione al senso artistico tra editoria per l'infanzia e libro scolastico buongiorno a tutti la pubblicazione del risorgimento grafico attraversa un lungo e complesso periodo della storia italiana terminando il suo corso in piena seconda guerra mondiale il dilatato arco temporale comporta la difficoltà di rintracciare un carattere univoco della rivista che nei molteplici cambi di veste può essere annoverata fra quelle che in Italia all'inizio del novecento appoggiarono il rinnovamento delle arti applicate sono anni questi in cui assistiamo al fiorire di esposizioni rassegne che promuovono la riqualificazione delle arti minori e dunque un'estensione del concetto artistico in diversi campi il risorgimento grafico indirizza tale aggiornamento al settore della stampa il rapporto al rinnovamento delle arti grafiche e tipografiche prodotto di arte applicata come si evince dai sottotitoli da testata il libro diventa così il protagonista di un'appassionata battaglia svolta in nome della sua rinascenza e che non include unicamente il libro di lusso per l'amatore ma anzi quello solito usuale quello insomma che può entrare nelle case di tutti un'utopia che mira così ad abbellire la produzione corrente a portare il bello anche nel libro a poco prezzo per raggiungere questo scopo sono presi in esame analizzati e illustrati ai lettori le forme materiali a cui avviene affidata la trasmissione del testo e che influiscono condizionano la lettura e dunque la ricezione come avviene d'altronde per la presenza o meno di certi elementi paratestuali si avvicendano nel tempo articoli sul carattere tipografico che per Raffaello Bertieri rappresenta il segreto del carattere di un libro nazionale sulla scelta della carta sull'illustrazione sulla rilegatura cioè su tutte le attività che concorrono a formare il libro e che se sono sviluppate e raffinate lo rendono più perfetto cioè artistico sotto il baluardo il libro bello per tutti si adombra un ideale estetico di matrice inglese che corrisponde a una visione artistico-artigianale tipica dell'opera di William Morris e della Kelmo Scott Press e ci riporta alle numerose attestazioni spesso pronunciate d'Alfredo Melani Cesare Ratta e dallo stesso Bertieri sulla capacità intrinseca del libro e dell'arte del stampa in genere di diffondere democraticamente il buon gusto come avviene per i nuovi media pubblicitari di cui ampiamente il risorgimento grafico si occupa nel libro il libro può esercitare una notevole forma educativa e parafrasando le parole di Melani non solo perché i libri dicono delle cose alte e le dicono nobilmente ma perché queste cose porgono con modi isperati a bellezza l'educazione estetica diviene così necessaria per tutti gli operatori in particolare per il tipografo che con una solida cultura estetica può assurgere il ruolo di artista per gli operai per i direttori e i principali di case editrici o di tipografie secondo la rivista in questi luoghi si dovrebbe eseguire costantemente quella preoccupazione dell'eleganza che regna nelle case di moda un'atmosfera artistica che per mezzo del libro può diffondersi al pubblico che per tale via può raggiungere una sana educazione al bello tale atteggiamento presuppone anche una concezione dell'arte allargata non solo alle tipologie di manufatto ma la godibilità del fruttore essa diviene di fatti privilegio di tutti una socializzazione dell'arte auspicata da risorgimento grafico affinché essa diventi una necessità da ricercare in ogni manifestazione e in particolare nel libro che dovrebbe farsi citiamo dalla rivista eccitatore del sentimento che vuole l'arte confortatrice della vita e mezzo a sollevare gli spiriti dalla volgarità diffondere il bello ed educare al senso artistico sono per il periodico milanese gli obiettivi che l'industria editoriale dovrebbe raggiungere e maggiormente richiesti nel campo del libro per i fanciulli sia esso di natura scolastica o di amena lettura termine quest'ultimo utilizzato all'epoca per collegare il mercato scolastico con quello del libro di svago per bambini e ragazzi questo è un argomento che trova risorgimento grafico impegnato dai primi anni di pubblicazione restituendo al lettore di oggi uno spaccato storico composto da diversi fattori che vanno dal contesto culturale segnato in quel momento da una borghesia dominante all'evoluzione legislativa della scuola da modelli diversi di insegnamento a processi di alfabetizzazione deceti popolari dalla diffusione del libro alle vicende delle più importanti case editrici dalla storia dell'illustrazione a quella della letteratura la rivista incomincia a occuparsi di questo particolare settore dell'editoria nei primissimi anni del novecento durante la cosiddetta età giolittiana che segna per la scuola una svolta importante la progressiva democrazia infatti comporta un notevole sviluppo della scolarizzazione e la legge Orlando I e quella Credaro Poi innalzano l'obbligo scolastico con corsi popolari e avocano allo Stato le scuole elementari in un clima in cui l'infanzia non è più celata dalle maglie della negazione come avveniva nel secolo precedente la classe dirigente e le istituzioni culturali mostrano di tener conto di aspirazioni istanze del bambino per potenziarle a secondarle utilizzandole come risorsa politica nazionale e commerciale come ha scritto lo storico Antonio Gibelli sull'infanzia viene posto così un investimento positivo perché è considerata come preludio alla creazione di energie nuove per il paese la linea pedagogica perseguita sia nella scuola ma anche nei libri di testo scolastici o parascolastici riflette proprio questo status lo scolaro o il bambino viene percepito come l'italiano del futuro è un messaggio questo che cheggia anche dalle pagine della nostra rivista dove si afferma che l'educazione estetica infantile e la creazione di una cultura figurativa adeguata concorrono alla creazione di una correttezza morale civile per l'uomo ma la necessità esplicata risorgimento grafico si scontra con una realtà ben diversa il mercato editoriale disegnato da Bertieri e Melani in molti articoli databili tra il 1906 e il 1912 denunciano la scarsa considerazione del cosiddetto ordine estetico sia nelle commissioni incaricate nella scelta dei libri di scuola sia negli editori i primi giudicano il libro unicamente per il contenuto testuale i secondi adottano ragioni economiche avvalorando sconvenienze estetiche l'incuria segnalata coinvolge tutte le forme grafiche dunque la stampa l'illustrazione la decorazione del libro l'apparato illustrativo è considerato con maggior preoccupazione per entrambi i cronisti che non risparmiano a definirlo un vero e proprio veleno d'arte perché proprio nella fanciullezza afferma Melani le impressioni che si ricevono hanno un riverbero importantissimo nella vita e se non vi studiate di avviarne bene il gusto dei ragazzi di governarlo creerete delle generazioni incivili e aggiunge Bertieri il senso artistico nell'uomo continuerà ad essere fuorviato fin dall'età in cui incomincia a sorgere pur con punti di vista divergenti in particolare per quanto riguarda l'analisi dell'opera di singoli illustratori quali Aleardo Terzi Attilio Mussino e Antonio Rubino dettati da posizioni diverse sull'illustrazione in genere in particolare quella di Bertieri evidenzata oggi da Paola Pallottino i due autori convergono a soluzioni molto simili quali la necessità di un consulente artistico nelle case editrici e nelle commissioni capace di rizionarne le scelte in questo modo i contenuti letterari e didattici potranno essere uniti a quelli estetici è dall'idoria scolastica che il rinnovamento artistico potrà poi diffondersi lentamente a tutte le pubblicazioni di altro genere dedicate all'infanzia ci sembra doveroso segnalare che nello stesso giro di anni gli appelli lanciati a risorgimento grafico trovano appoggio nelle istituzioni il discorso pronunciato dal ministro della pubblica istruzione Luigi Credaro in occasione dell'apertura della non esposizione internazionale di Venezia appare un'aperta propaganda a favore dell'educazione estetica come fondamento per la sana crescita morale e civile vale la pena riportare uno dei passi più significativi che sembra avere maggiore attinenza con le stanze promosse dalla rivista Credaro dice il sentimento artistico è ordine pace serenità unità interiore e quindi favilla che grande fiamma accende di luce sociale una nazione una nazione che aspira a darsi un assetto di governo democratico pone l'educazione artistica tra i compiti più gravi della cultura nazionale e viene creando un'arte sociale che non è l'arte splendida e fassosa delle aristocrazie ma soddisfazione dei bisogni spirituali delle moltitudini creati dalla grande industria elevate a diritto di cittadinanza dalla storia rese abiti dei destini degli stati con la potenza del numero e col vigore della solidarietà fraterna e questa educazione artistica dell'operaio del contadino si inizia nella casa familiare e si continua nella scuola a queste case della scuola dove i caratteri si plasmano dove l'amicizia e la solidarietà si rinsaldano non deve mancare il concorso dell'arte sia nella semplice e benintesa decorazione sia nella parola stessa dell'insegnante che deve sentire la nobiltà della sua missione nell'additare ogni espressione del bello che anche nelle giovani coscienze possa trovare la via della sensibilità a questo punto ci chiediamo quali sono i libri che circolano nella scuola durante il primo quindicennio del novecento un quadro seppur limitato ci viene fornito dallo stesso Bertieri che in una lettera indirizzata al ministro dell'istruzione Giovanni Rosati e pubblicata sul riseriggimento grafico nel febbraio 1915 analizza tre testi comunemente adottati nella scuola elementare conteggi misure e forme per la seconda classe di Aurelio Molinari pubblicata dalla cooperativa editrice libraria i corsi di lettura compilati da Giovanni Piazzi dal titolo primavera d'Italia e il bestseller della BEMPORAD vita e scuola di Matilde Seraue e Camillo Alberici la critica muove principalmente su due aspetti fondamentali primo fra tutti l'uso scorretto della lingua sia per quanto riguarda alcune parole tratte dal linguaggio parlato sia per forme dialettali poco consone o addirittura di origine non italiana a queste si aggiungono le considerazioni sull'apparato illustrativo di questi volumi le illustrazioni secondo Bertieri presentano principalmente una sconcordanza con il testo oppure appaiono poco educative come quelle inserite in conteggi e misure dove l'autore per spiegare i corpi a se facce sceglie di rappresentarli attraverso quattro dadi del famoso brodo Maggi in vita e scuola della Serao viene criticata invece l'inadeguatezza delle immagini queste sembrano evocare esempi poco edificanti come quello in cui il bambino punta un fucile verso due ladri che tentano di entrare in una casa pur trattandosi di un giocattolo come viene specificato nel testo Bertieri polemizza sul messaggio intrinseco rivolto al fanciullo contaminato da un'erronea morale di cui l'illustratore si fa interprete la campagna a favore del libro scolastico promossa così dal risorgimento grafico e da cui questa lettera prende ufficialmente avvio trova l'appoggio di numerosi uomini di cultura del tempo attestazioni a sostegno di una tutela estetica del libro e della dignità della lingua italiana nei testi per fanciulli arrivano da parte del critico letterario Aldo Soriani dagli scrittori onorato Fava e Adelaide Bernardini moglie di Capuana dal direttore dell'eroica Ettore Cozzani e da Mario Ferrigni collaboratore del periodico milanese scrittore e critico teatrale ma sono le nuove stanze pedagogiche che si profilano con la riforma gentile del 1923 che lasciano intravedere una forte consonanza di intenti fra le istituzioni e il risorgimento grafico che saluterà con favore le nuove direttive ministeriali nel quadro di rinnovamento dei programmi scolastici viene istituita la commissione centrale per l'esame dei libri di testo presieduta dall'allora direttore generale dell'istruzione elementare Giuseppe Lombardo Radice il lavoro della commissione che tentava di portare ordine a una produzione editoriale per la scuola divenuta ormai caotica si faceva portavoce di indirizzi didattici di una nuova concezione dell'infanzia che opponeva al fanciullo fantoccio di età giolittiana quello reale che appare non molto diverso dall'adulto vengono oltremodo orientati a tutti i livelli la produzione e la fruizione del testo scolastico di qui l'attenzione prestata dalla commissione all'analisi dei libri di lettura ai contenuti e ai modelli formativi veicolati che appaiono nella stragrande maggioranza inadeguati l'artificiosità delle situazioni descritte il moralismo e il tono di predica il riferimento costante al bambino modello e a quello disobbediente e ancora la continua esaltazione degli aspetti più tristi e drammatici della vita che generano scene raccapriccianti come quella commentata da Bertieri nel testo e nelle illustrazioni del volume della Serau dove un gruppo di bambini deformi sono utilizzati per ragguagliare gli alunni sulle parti del corpo ma nei requisiti materiali del libro scolastico richiesti dalla commissione che possiamo intravedere gran parte del programma estetico del risorgimento grafico nella redazione redatta a fine revisione dei libri di lettura infatti si legge che speciale importanza per l'apprendimento delle varie nozioni hanno le forme esteriori grandezza e varietà di tipi di carattere chiarezza ed armonia di impaginazione alta qualità della carta una rilegatura solita a difesa di peggine ben stampate e per finire una proporzionata e buona riproduzione delle incisioni sull'illustrazione in particolare sono evidenti le mancanze sottolineate da Bertieri nel testo della commissione si denuncia come in grande maggioranza queste risultassero male impresse sbiadite e scelte senza criterio tanto da rimanere sovente estrane al contenuto o da contrastare addirittura quelle parole del testo avvocando la responsabilità agli editori viene criticata la natura composita degli apparati illustrativi sia per quanto riguarda i disegni contrassegnati da stili dissimili sia per l'uso alternato di questi consinchi di fotografie spesso molto datati non da ultimo l'abitudine a riciclare queste immagini in volumi differenti di una stessa serie o di altre serie di una stessa casa editrice affermando l'importanza dell'unità e della concordanza tra testo e figura nella relazione è ribadito con forza che al carattere di ogni libro deve corrispondere il carattere delle immagini ad ogni opera devono convenire speciali illustrazioni che ne completino la fisionomia a questi principi sembra ispirato il libro di stato adottato dalle scuole italiane nell'anno scolastico 1930-31 espressione delle direttive fasciste in materia educativa e pedagogica al libro di stato per le scuole elementari risorgimento grafico dedica un intero fascicolo che attraverso un'analisi capillare cerca di chiarire al lettore gli aspetti illustrativi affidati alla pena di Augusto Calabi e quelli tipografici analizzati da Bertieri pur con gli errori inevitabili che un'iniziativa di così grande respiro comporta i libri di stato secondo i cronisti hanno saputo dimostrare come l'aspetto grafico di un libro riveste un valore di efficacia educativa di grande importanza in generale sono i sillabari a catturare le minuziosi riflessioni degli autori in essi infatti più degli altri testi è richiesto che l'aspetto tipografico della pagina con l'illustrazione si accordino in maniera esemplare affinché il fanciullo possa simultaneamente apprendere con l'occhio e la mente i rudimenti della parola concordi nel giudizio positivo sul sillabario per le scuole rurali di Alessandro Marcucci e Duilio Cambellotti definito bello e classico artisticamente educativo per l'equilibrio degli elementi rappresentati nelle tavole e per il disegno che ha un forte valore descrittivo entrambi i censori bocciano a pieni voti quello di Quercia Tanzarella con illustrazioni di Mario Pompei caratterizzato da una mancanza di equilibrio che rende la pagina inquieta per l'assenza di armonia tra carattere decorazione e illustrazione la rivista giudica il tratto deformante di Pompei come una falsa riproduzione del disegno infantile risultando così non idoneo a un corretto apprendimento da parte del bambino come è evidente anche dalla selezione delle tavole fuori testo annessa al fascico sia Calabi che Bertieri concordano nell'eleggere migliore sillabario il volume compilato da Bucciarelli Belardinelli con disegno di Angelo della Torre di fatti si dice che l'artista abbia raggiunto qualità interessanti chiarezza ottimo uso del colore disegni molto grandi che fanno di questo un libro per immagini per immagini un'illustrazione dunque che liberamente si espande sulla pagina per cui la figura diventa veicolo preeminente a cui viene affidato il valore di educazione con tanto di buon gusto a sostegno di quanto detto in questo breve excursus per quanto riguarda l'impegno profuso dal periodico milanese nella valorizzazione del libro e dell'illustrazione come veicoli di un'educazione estetica e non solo didattica possiamo citare il concorso che risorgimento grafico promosse per una copertina di quaderni scolastici nel 1922 con esito entusiastico la gara aveva l'obiettivo di porre in collegamento l'artista con il mondo industriale affinché venisse realmente commercializzata una serie di quaderni tra i lavori segnalati fu quello dedicato ai fanciulli celebri dell'illustratrice Marina Battigelli a essere prodotto e stampato per conto della cartiera Binda proprio da Bertiere e Vanzetti nel 1925 già nota per aver esordito nel 1921 con il Vangelo raccontato ad un bimbo dalla sua mamma l'illustratrice compone con poche note di colore con segno chiaro semplice non privo di una certa leziosità sia le figure della copertina dove è sempre rappresentato il fanciullo sia gli elementi attinenti all'ambiente dell'episodio principale posti a decorazione della quarta pagina la serie viene considerata l'isorgimento grafico non solo uno stimolo della fantasia già così vivace del bambino ma dice sono piccole sparse e quotidiane suggestioni capaci di assuefare l'occhio del fanciullo alla grazia alla bellezza e all'eloquenza delle espressioni grafiche l'attenzione nei confronti della produzione editoriale per l'infanzia non si esaurisce nell'ambito propriamente scolastico anche se come precedente accennato per risorgimento grafico i libri di amena lettura o quelli di tipo parascolastico devono seguire le stesse regole e devono soddisfare i stessi principi estetici richiesti al libro per la scuola l'evoluzione del genere letterario per bambini e ragazzi può essere eseguita attraverso due direttrici la prima è quella che riguarda i numerosi articoli sugli artisti del libro una delle più note e longeve rubriche della rivista che di volta in volta fanno luce sulla produzione di illustratori come oggi spiegato da Paola Pallottino la seconda è rappresentata dalle numerose tavole fuori testo che confezionate con eleganti cartoncini colorati formano l'apparato illustrativo dei cosiddetti supplementi artistici distintamente separati dalla parte testuale vetrina del tutto privilegiata per gli stessi editori le tavone riproducono molto spesso copertine di libri per l'infanzia o singole illustrazioni tolte da questi volumi se per il primo decennio del secolo possiamo citare il solo volume di Eugenia Giordani sotto il velame illustrato dal marito della scrittrice Attilio Mussino è dal 1915 in evidente coincidenza con lo scoppio della guerra ma soprattutto con l'inizio della pubblica campagna a favore del libro scolastico che le riproduzioni di questi volumi sobbiscono un significato incremento che solo intorno al 1924 riceverà una brusca battuta di arresto mentre per qualche anno ancora continueranno a presenziare copertine di volumi per un pubblico adulto o prodotti grafici pubblicitari i libri per l'infanzia scompaiono definitivamente dalle tavole le quali saranno lentamente eliminate dall'impaginato della rivista che dal 1930 in poi assumerà una veste grafica diversa da quella abitualmente utilizzata tra gli anni 10 e 20 del 900 questa modalità alternativa con cui risorgimento grafico promuove la produzione editoriale per l'infanzia diventa dunque complementare a quella che in parte è possibile reperire tra gli articoli sugli artisti del libro e diviene anche un modo per sostenere non solo l'operato di case editrici o autori ma anche per presentare al lettore illustratori che spesso non trovano spazio tra le pagine della rubrica pensando poi che dietro alla riproduzione di questi brani ci sia un'oculata selezione da parte della redazione possiamo interpretare che le presenze possiamo interpretare le presenze come specchio del favore riservato da parte del periodico a determinati libri che secondo il proprio punto di vista soddisfono i requisiti artistici richiesti a intento esplicativo segnaliamo nel 1916 la riproduzione in una sola tavola di tre libri della bibliotechina La Lampada della casa editrice La Scolastica di Ostiglia famosa collana fondata nel 1912 da Arnoldo Mondadori ogni serie si componeva di sei volumetti dal tipico formato chiamato quadrotto e riprodotto nella tavola di risorgimento grafico nella pagina principale è raffigurata la copertina del volume di Angelo Gustavo Capitani Rullano i tamburi con illustrazioni di Filiberto Scarpelli esempio di quella letteratura per l'infanzia che durante gli anni del conflitto diffonde tra i bambini l'immagine della guerra concepito come un inserto apribile al suo interno invece sono rappresentate due illustrazioni di Lino Bertoletti rispettivamente tolte dai volumi di Giambistolfi eccetera eccetera e fiabe in versi di Amalia Guglielminetti in cui il tranto semplificato dalle forme geometriche ben rispondeva al gusto del periodico che aveva più volte espresso come la semplificazione della forma fosse una prerogativa necessaria per l'illustrazione dedicata all'infanzia gli esempi potrebbero continuare ma ci riserviamo di approfondire in altra sede questi aspetti che come ovvio mettono in campo altri fattori quali ad esempio lo studio approfondito del testo in relazione all'illustrazione e non da ultimo la storia e la politica perseguita da diverse case editrici grazie grazie bene buongiorno a tutti introduco proprio solo brevissimamente con una informazione pratica questa sessione pomeridiana per dire che c'è un piccolo cambiamento rispetto al programma dove era indicato il nome di Giorgio Bertone dell'unità genovese come presidente di sessione e purtroppo per problemi di salute non era in condizioni di venire quindi non può essere qui e presiederà quindi questa sessione quindi doppiamente lo ringraziamo il professor Marcello Cicuto a cui lascio subito la parola per non togliere tempo al nostro incontro grazie sono io che ringrazio voi di questo invito che mi onora e soprattutto mi solleva da una fittissima serie di appuntamenti con convegni danteschi che mi hanno seppellito sotto una marea di dati e adesso mi sento quasi in vacanza a parlare dell'argomento di cui vi dirò oggi argomento che riguarda un episodio abbastanza singolare di collaborazione fra testi e immagini sino ad oggi assai trascurato se non ignorato dalla critica anche la più accorta si tratta di un volumetto il sole a picco di Vincenzo Cardarelli stampato una prima volta nel 1929 qui vedete appunto il frontespizio di questa prima edizione questa è una circostanza singolare che vede credo per l'unica volta nella sua esistenza e carriera artistica Giorgio Morandi operare un corredo in extenso per un testo che è un testo in prosa e in poesia anche questo va avvertito subito l'attività di Morandi relativa ai libri di solito espressa in qualche sporadica isolata concessione un frontespizio per la per la prima opera edita di Giuseppe Raimondi ad esempio ancora nel 22 per le stagioni di Raimondi o qualche tavola poche tavole sciolte in cartelle di pregio ma non è questa la vera singolarità e comunque non finiscono qui delle piccole anomalie perché se pensiamo di avere a che fare con un tentativo di illustrazione complementare o additizia rispetto nei confronti dei testi in questa raccolta stampa ci sbaglieremmo e anche di parecchio eppure i disegni che Morandi ha preparato per questa edizione sono 21 uno per ogni pezzo del volume e collocati tutti ad apertura dei singoli pezzi poi nelle edizioni successive questa architettura questa struttura e queste sequenze vengono completamente stravolte scompaginate non si rispetta nemmeno più l'ordine originario delle tavole dei disegni lo vedete subito questa è la seconda edizione 1952 ma addirittura il frontespizio è questo cioè è stata soppressa l'illustrazione del frontespizio e arrivo a dire in modo estremamente casuale poi sono state poste le illustrazioni all'interno del volume lo rilevava questo fatto era stato rilevato subito da uno dei primi e più attenti lettori di quest'opera Giuseppe De Robertis con queste parole ho il dubbio che quest'ultima edizione mondadoriana 1952 abbia perduto un po' dell'antico pregio e l'antico pregio è questo quella svelta ariosa spaziata architettura e a meglio scompartirla o cadenzarla i 21 disegni di Morandi ai 21 inizi beh tentare di pensare no così tentare di pensare che almeno una o due di queste illustrazioni possa avere un rapporto come dire descrittivo o di riflesso con i testi è pura utopia certo già da questo rapporto fra il titolo e l'immagine che qui figura possiamo ricavare qualche suggestione ma vedete immediatamente questa cosiddetta natura morta morandiana in rapporto a un personaggio leggendario di Tarquinia nulla a che fare ma anche qui vedete benissimo che si trattano di percorsi paralleli e che certo non si incontrano sul terreno su campi semantici comuni diciamo così ora mentre soggiorno in Toscana può anche andar bene questa certo non è un luogo caratteristico di Capri così come questo non è certo un autunno veneziano e via dicendo ora torniamo di nuovo alle prime battute è altrove e non in una direzione mimetica che dobbiamo volgere lo sguardo e cioè a quello che il primo e più capace interprete di questo oggetto libro Francesco Arcangeli disse un convergere di spiriti paralleli e severi Arcangeli individuava anche chi erano questi spiriti paralleli e severi che avevano operato per una comune sensibilità illustrativa e verbale diciamo così erano il Dino Campana dei Canti Orfici erano il Riccardo Bacchelli dei poemi lirici e il Cardarelli di queste prose poesie del sole a picco Arcangeli ipotizzava addirittura un ideale programma comune fra questi autori un altero ideale di rappresentazione un altero ideale di rappresentazione addirittura condiviso fra Morandi e Cardarelli è tacitamente accreditato da Solmi e tutto questo si reggeva quasi esclusivamente su una delle rarissime dichiarazioni di Cardarelli in merito alla sua poetica di quegli anni e in particolare questa dichiarazione che noi sappiamo essere stata condivisa da Morandi e vedremo in che modo detto così con parole mie cosa diceva Cardarelli la mia poetica in cosa consiste è presto detto luce senza colore esistenza senza attributi inni senza interiezioni impassibilità e lontananza ordini e non figure questa è diciamo una dichiarazione risale al 1918 e viene ripetuta progressivamente da Cardarelli come un invariante del suo operare e su questa dichiarazione si apre la monografia che Arcangeli dedica a Morandi una guida come sapete rilevantissima per capire che cosa fu peraltro per altri versi in realtà questa collaborazione fra il pittore e lo scrittore anzi Arcangeli apre le sue pagine ricordando per Morandi anzi dicendo che apriva a Morandi una poesia di Cardarelli estiva poi riprendendo tutto un gioco di ricordi di un'estate implacabile l'estate come la definisce Arcangeli del sole a picco e che è quella del 1928 che scusate la banalità è un anno intermedio fra il 27 il 29 grazie credo che ci arrivino tutti mi sono scusato un advance ecco l'estate del 28 quella che io ricordo meglio della mia prima adolescenza e che io venivo ricompitando fra me e me in quei primi versi moderni distesa estate stagione dei lenti climi ne rammento bene anche se quasi miticamente il gravare che dava l'idea di una stasi quasi sconfinata era tale che sembrando senza fine poteva immaginarsi che davvero mettesse nell'ordine che procede qualche cadenza dell'induso eterno Arcangeli sta parlando sta introducendo Morandi e usa il lessico cardarelliano se un programma che fu del tutto ideale assolutamente è incardinato proprio a queste due dichiarazioni a questo passo d'avvio su due dichiarazioni una di Morandi e una di Cardarelli quella di Cardarelli ve l'ho già indicata nel 18 nel 18 lo stesso Morandi ovviamente parchissimo di parole si allineava a questa stessa prospettiva con una sua analoga fine dichiarazione non c'è niente di più astratto del visibile il fatto interessante è che queste parole riaffiorano in vari luoghi e del pittore e dello scrittore proprio nell'estate del 28 hanno disvolta per entrambi secondo quanto è stato messo in carta da Arcangeli all'insegna proprio di questo simbolo zenitale del sole a picco ecco che viene fuori la ragione di questo 1928 intermedio fra l'anno che precede e l'anno che segue i disegni per il sole a picco scrive Arcangeli sembra portino in sé il profumo discreto e rigido di questo ordine di questa compostezza che è per tutto di natura cardarelliana ambivalenza cioè fra una squisita compostezza tradizionale e un più moderno scandaglio entro le infinite proprietà entro i segreti delle apparenze materiali tutti i riscontri che arcangeli trasferisce da cardarelli su morandi nella sua lettura di morandi vanno nella direzione di un recupero concettuale e visivo dell'opera di piero della francesca che comincia ad agire in profondo per i due proprio negli anni 27 28 al ridosso come immaginate benissimo dell'uscita della monografia di roberto longhi sul pittore di san sepolcro che è del 27 il 28 è l'anno nel quale morandi si espone verbalmente su piero in una leggendaria ma brevissima autobiografia apparsa sulla rivistina bolognese l'assalto proprio nel febbraio di quell'anno e arcangeli che sottolinea che in quegli anni precoci da piero della francesca si poteva prendere cito solo una norma un segreto morale che sono le parole appunto di cardarelli citate da arcangeli non facendo nemmeno mancare per un famoso paesaggio morandiano l'accompagnamento di un'espressione appunto di radicale che è un radicale cardarelliano l'estenuante estate c'è dell'altro da leggere però in questo dossier di poche cose e in questa direzione di senso innanzitutto qui siamo in un momento in cui morandi si allontana dalla prima metafisica quella degli enigmi ferreresi del sole nero la metafisica di ritmo verginità e perfezione e dunque anche da quel concetto di negazione della luce che è stato considerato da sempre ma a mio avviso del tutto casualmente come uno degli elementi di convergenza fra i due personaggi concetto di negazione della luce che infatti Riccardo Bacchelli in un in un articolo sul tempo sempre nel 18 diceva non essere la caratteristica della prima pittura morandiana quasi un decennio un decennio prima che si cominciasse a usare per Cardarelli la formula identificativa della luce senza colore per le sue parole che è un'espressione longhiana e che compare nella monografia su Piero del 27 e per il sole a picco si citava proprio l'elemento della luce meridiana senza riflessi né evoluzione temporale che aveva attirato per altri versi anche l'attenzione di un lettore fine come Longanesi nel caso specifico delle illustrazioni del sole a picco per mano di Morandi non si tratta affatto dunque di negazione della luce eccetera ma di ben altra e più complessa evoluzione rispetto al primo lessico metafisico anche se poi a chiusura del mio discorso vedremo un'immagine dechirichiana che ci riporterà parecchio indietro proprio alla prima metafisica ma in una forma ormai arricchita ormai nutrita da un lungo percorso di convergenze ma è presto per dire questo ho detto allontanamento dalla prima metafisica per accostarsi ai temi che così in modo un po' grossolano possiamo definire dell'eterno presente incorporato al naturale o se volete di una dignità esistenziale degli oggetti che probabilmente sono metafisici proprio perché non hanno più nulla a che fare con una realtà fattuale riconoscibile per via mimetica dunque protagonista di queste illustrazioni di queste immagini il vuoto l'inappartenenza dello spazio la non riconoscibilità dello spazio dei luoghi qui figurati da Morandi tant'è che poi Cesare Brandi aveva parlato di paesaggi proprio per paesaggi del sole a picco per queste immagini di paesaggi resi sub specie eternitatis questa volta aveva ragione poi diceva cose liricamente straordinarie ma che anch'io sto cercando di capire diceva che in questi paesaggi resi da da Morandi si trovava un avanzare dal fondo dello spazio come un ricordo viene dal fondo del tempo credo che qui si possa restare a riflettere per 4 o 5 anni senza cavarne quasi niente ma in realtà credo che sotto a tutte queste affermazioni alcune vacue altre invece particolarmente penetranti stia quella che fu una lettura comune di tutti questi personaggi morandi bacchelli carlarelli e via dicendo e che è la monografia su spinoza di giuseppe renzi uscita nel 29 e dunque i temi del deus si venatura che addirittura diventa subito valida anche per montale per la riflessione sull'elemento spazio e sull'elemento tempo per montale fino a un testo chiave peraltro abbastanza tardo come i miraggi ma comunque torniamo un attimo indietro a quello che aveva notato De Robertis nella sua recensione che ho citato all'inizio parlava di svelta ariosa spaziata architettura possiamo intuire di che cosa stava parlando cioè di questa fondazione di un nuovo ordine del reale per via di semplificazione delle forme e di un loro più elementare rapporto con gli spazi ispirato anche a quella prospettiva lineare che fu l'elemento tipizzante della pittura di Piero della Francesca con Longhi che a sua volta soffiava sul fuoco parlando di sintesi prospettiche di forme colore e via dicendo anche qui ci sono alcune vacuità Brandi io spero che qualcuno riesca a spiegarmelo dice che ciò che caratterizza queste figurazioni morandiane è la luce di posizione io le luci di posizione so che sono quelle delle imbarcazioni poi non vado molto oltre una formula che però ha avuto una grande fortuna ma che ha a mio avviso come tante altre cose dei rapporti un po' con questo misticismo atemporale che peraltro era uno degli elementi accreditati dal Venturi nel gusto dei primitivi altro testo decisivo che esce peraltro nel 26 ma insomma ferme restando queste definizioni che sono definizioni d'uso resta questo in questo torno di anni ma soprattutto intorno al 28 29 sì alcuni tentano di ricostruire un modo diverso di vedere la realtà in modo da far coincidere il vero esprimiamoci così far coincidere il vero con la sua ricostruzione spaziale ma anche sacrale ma anche metafisica se volete lo spazio come un luogo di memoria figurativa di memorie figurative o figurate un riordino anche del mondo con una nuova e diversa sensibilità che non è quella dell'irismo coloristico di soffici di quegli stessi anni ma invece quella appunto di una nuova architettura dello spazio esterno che guarda caso fu una delle prime cose intuite da ragghianti in quel suo celeberrimo saggio Bologna Cruciale 1914 in cui diceva che questi rapporti prospettici messi in scena da Morandi erano di natura leopardiana fatti di pochi segni memorie di spazi come pergiotto e usi simultanei ricordava gli usi simultanei di linee convergenti di linee parallele linee incrociate una grande economia di mezzi espressivi su questo anche De Chirico ci aveva preso subito vi faccio rapidamente questa citazione di De Chirico nel 22 che recensisce Morandi esposto alla primaverile fiorentina egli guarda un gruppo di oggetti sopra un tavolo con l'emozione che scuoteva il cuore al viaggiante della Grecia antica allorquando mirava boschi e valli e monti ritenuti soggiorni di divinità bellissime e sorprendenti egli guarda con l'occhio dell'uomo che crede è l'intimo scheletro di queste cose morte per noi perché immobili gli appare nel suo aspetto più consolante nell'aspetto suo eterno si recupera la durata della contemplazione questi luoghi sono sottratti allo spazio tempo naturale e vengono reimpostati su valori puramente formali che saranno poi anche quelli della ronda di cardarelli e rispondono appieno al cosmo ordinativo della prosa di cardarelli che per parte sua da letterato poco prima di fondare questa questa sua epica metafisica con il sole a picco aveva fatto una dichiarazione che sembra così gettata là del tutto casuale ma che invece ha un riscontro un riflesso molto significante su quello che stiamo dicendo noi a 30 anni che sono gli anni del sole a picco a 30 anni la vita è un gran vento che si va calmando e si calma proprio nell'estate del 28-29 nella luce zenitale in parecchio altro del sole a picco ci sono molti elementi d'ordine nel mondo di cardarelli cardarelli dice di scrivere per riportare tutto a puro volume puro tono puro colore pura forma e sin dalle prime pagine di questo di questo testo noi troviamo immagini di una vita di un'età dell'oro di una vita beata fatta però su luoghi disabitati e disanimati dove le condizioni naturali la normale meteorologia è normalmente rovesciata ma la natura tutta è rovesciata i tronchi d'albero sono torri torri a forma di cono o di trapezio poi vedremo che cosa vuol dire la vegetazione in queste lande desolate dell'Etruria non fiorisce e non appassisce i monti sono d'argento i pioppi scintillano sotto il sole come vetri tutto preso da un tedio infinito non scorre il tempo ma c'è solo una vita silente sono terre del silenzio di civiltà tramontate e Cardarelli dà anche una definizione precisa di questo suo silenzio che è onnipervasivo nel libro nel silenzio si stringono in segreto rapporti paradossali non lineari con la storia e con la realtà anzi alcuni paesaggi sono rivelazione oscura del paesaggio ideale italiano quali sono le cose più vive di questi paesaggi i sarcofaghi etruschi i paesi sono pervasi dalla morte talvolta sono solo deserti non c'è vita anzi è la pietra che segna lo scorrere del tempo cioè la presenza di un ponte che dà l'idea di qualche cosa che passa da un punto ad un altro altrimenti non ci sono altri segnali di dinamismo in questi paesaggi visti in distanza è un museo meccanico parole di Cardarelli dove le più numerose sono le ore morte anzi Roma è definita una cornice neoclassica dove muore il secolo dove muore il tempo il vento che ogni tanto soffia non è quello che soffia nel tempo ma è quello che dà a tutto un estatico bambolarsi il soggetto narrante stesso lo stesso soggetto narrante osserva il tempo senza viverlo veramente la condizione temporale di questi racconti è è morto anche il paesaggio virtuale è un incanto del tempo la situazione narrativa è quella di un incanto del tempo di un tempo bloccato tutto l'incanto d'essere questo mio era tutto l'incanto d'essere in un paese che non conosco e che dura quanto può durare il mio sogno tutto viene sigillato poi da un racconto conclusivo intitolato Astrid che ebbe una certa fortuna anche figurata in seguito fu ripubblicato nel 1941 sulla rivista Tempo sulla rivista Mondadoriana Tempo e furono allegate delle tavole ben diverse da quelle morandiane di Arturo Tosi che erano però queste sì perfettamente illustrative con belle fanciulle aree lacustri ridenti e via dicendo tutto il contrario di quello che abbiamo qui emerge anche in queste prose il diciamo un concetto di di prospettiva di un'architettura che domina ovunque priva di intrusioni naturalistiche dice Cartarelli che assorbe nelle sue fughe di archi e via dicendo anche la nozione stessa del tempo si parla di vuoto sonoro degli edifici di città metafisica di di troppo perfetto per essere abitato luoghi che non hanno più tempo dove tutto è matematicamente architettato a tal punto che le rare persone in cui ci si imbatte appaiono come pedine fuori posto e la città diventa la sua stessa astrazione non c'è niente di più astratto del visibile aveva detto Morandi e qui la convergenza è fortissima ci sono tanti altri riferimenti che vi risparmio relativi anche alla città senza tempo per eccellenza cioè Venezia ma non vi sono segni morandiani dedicati a questi elementi qui abbiamo le mitizzate le mitografiche campagne bolognesi o di grizzana e via dicendo si compie il percorso di cardarelli con quest'opera e con queste immagini ora ve le faccio scorrere tutte per arrivare all'ultima che forse mi interessa poi l'ultima è quella dell'indice e ben più tardi cardarelli ricordando proprio l'episodio del sole a picco dice che avrebbe voluto fare un libro che mettesse assieme non solo il racconto Astrid che per lui era il culmine della sua stessa poetica ma anche quelle prose del viaggio in Russia viaggio in Russia che lui fa nel 28 29 e che è ricchissimo straordinariamente ricco di quei segni di cui vi ho dato qualche segnale qualche esempio adesso e che però viene riedito solo nel 54 recuperando tutti questi articoli pubblicati sul periodico il TV ecco e aveva in mente cardarelli di fare di giungere a chiusura della sua carriera a una forma romanzo che mettesse assieme queste corrispondenze e anche il racconto Astrid all'insegna di che cosa? all'insegna di questi tre forse no di questo unico elemento che fosse fatto questo romanzo questo insieme di elementi paesistici visivi e solo architettonici abbiamo fatto tanti passi avanti ne facciamo uno indietro in questo De Chirico che è del 13-14 speriamo che sia del 13-14 qui figurano concentrati presso che tutti gli elementi che Cardarelli ha testualizzato nel sole a picco c'è la torre trapezoidale c'è la ferrovia a cui è dedicato un intero pezzo della ricostruzione dell'infanzia del giovane Vincenzo c'è ci sono le gli archi in successione queste fughe prospettiche c'è c'è il sarcofago l'unica cosa viva nella luce meridiana dell'Etruria secondo Cardarelli c'è perfino nella parte centrale in alto quella nostalgia del mare che è non solo un titolo decchirichiano ma è anche il titolo di una delle prose di Cardarelli del sole a picco insomma cosa voglio dire che questi elementi base della metafisica si distribuirono un po' uniformemente come radionuclidi nell'atmosfera degli anni venti per far sentire la loro eco in accenti che erano comunque convergenti su questa idea di un radicamento dell'assoluto nel mondo l'assoluto nel mondo che erano le bottiglie e i paesaggi di Morandi erano le piazze e i manichini di De Chirico erano le prose di Cardarelli era il resistere al tempo umano come attraverso delle metafore del tempo come voleva Proust se vogliamo liberare l'essenza delle sensazioni attraverso le meta per sottrarle alla contingenza del tempo e che soprattutto dicessero di tutti costoro una voglia di intravedere nelle cose povere del mondo anzi nelle più umili del mondo anche montalianamente il passo di disturbate divinità grazie e ora procedo subito a introdurre il successivo relatore che prego di accostarsi al tavolo che è Antonello Perli della Università de Nice Soffianti Polisi che il titolo della sua relazione è Pictura Poesis la poetica visiva di Sbarbaro gli cedo immediatamente volentieri la parola ecco credo che così funzioni no? grazie nel libro Truccioli edito nel 1920 ma formato da testi composti tra il 14 e il 19 e per la maggior parte preventivamente pubblicati sulla rivista la riviera Ligure la poetica visiva di Sbarbaro è illustrata da un folto gruppo di prose liriche che sono state definite da un critico frammenti impressionistici questi testi questi truccioli che io chiamo più generalmente paesaggistici o più particolarmente rivieraschi per indicare quelli che hanno come sfondo luoghi della riviera Ligure testimoniano testimoniano una svolta e un'evoluzione della poetica di Sbarbaro nei confronti del suo precedente libro il libro diversi uscito nel 14 pianissimo al cui proposito Emilio Cecchi non a caso un critico letterario che era anche un critico d'arte notava recensendolo in quello stesso anno 14 che Sbarbaro per la sua arte di autoanalisi non può giovarsi dei poeti italiani più vicini a noi che sono prevalentemente pittorici visivi ora l'indagine intertestuale rivela che questa nuova poetica sbarbariana questa poetica del paesaggio visiva figurativa sorge e si sviluppa sotto l'impulso e l'influsso di coeve esperienze poetiche che possiamo appunto definire figurative visive o se si vuole poetico letterarie un primo nome è quello di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi assiduo collaboratore della Riviera Ligure e notevolissimo esponente della prosa impressionistico figurativa penso soprattutto alle lettere di crociera testi nei quali i colori sono stesi a piene mani sullo sfondo rivierasco della baia di San Michele di Pagano del promontorio di Portofino del piccolo porto di Camogli di San Fruttuoso queste lettere di crociera sono una serie di descrizioni che tratteggiano il profilo di località della costa Ligure esattamente dello stile di quei reportage così frequenti nei primi anni della rivista La Riviera Ligure come ha rilevato Veronica Pesce che è qui fra noi oggi in un suo saggio sulla rivista di Mario Navaro uscito in studi di Memofonte Veronica Pesce la quale ha messo l'accento sulla contaminazione tra sfera verbale e sfera visiva scusate contaminazione tra sfera verbale e sfera visiva evidenziata dalle titolazioni seriali di questi scritti acquarelli impressioni e simili Pierangelo Varatono amico di Ceccardo come di Sbarbaro definiva le lettere di crociera cito una serie di articoli impressionisti scritti bordeggiando con una barca a vela fra sturla e quinto al mare e lo stesso Ceccardo in uno scritto in un suo scritto rievocativo usa virgolettandolo il termine di impressioni per parlare proprio di queste sue prose descrittive le lettere di crociera l'indagine intertestuale rivela altresì che questa poetica figurativa di Sbarbaro è tributaria dell'avanguardia letteraria pittorico-visiva diciamo con cecchi oppure diciamo anche senz'altro impressionistica dobbiamo a riguardo fare il nome di Campana il Campana visivo col cromatismo diffuso lungo tutti i canti orfici è capillarmente presente nei truccioli ma in quest'ambito il maestro di Sbarbaro riconosciuto maestro perché così lo stesso Sbarbaro lo definisce in una lettera del 31 è stato Ardengo Soffici non a caso uno scrittore che era anche un pittore potremmo anzi dire un poeta pittore se pensiamo in particolare dal primo Soffici affidandosi al magistero teorico e creativo di Soffici Sbarbaro viene condotto verso la sua nuova e figurativa poetica del frammento rinvenibile in quei truccioli impressionistici paesagistici che testimoniano l'assimilazione della lezione impressionista impartita da Soffici sin dagli scritti sull'arte pubblicati sulla voce negli anni 1909 1910 sotto i titoli seriali l'impressionismo e la pittura italiana e l'impressionismo a Firenze scritti dove vengono espressi i propositi teorici che troveranno la loro illustrazione in un testo di importanza fondamentale nell'apprendistato letterario di Sbarbaro quale il giornale di bordo di Soffici 1915 parlare della poetica visiva di Sbarbaro significa dunque anche e soprattutto parlare di Soffici ossia del più autorevole suggestivo esponente e teorico fra quelli che Luciano Anceschi ha definiti gli impressionisti della voce la cui poetica consiste cito Anceschi nell'affidarsi alle sensazioni come agli unici significati possibili riducendo la poesia ad una sorta di pittura o ancora nel posare le parole come il pittore i colori come si legge in una annotazione del giornale di bordo di Soffici e qui cito Soffici posare le parole come il pittore i colori per il poeta come fa il pittore con la distribuzione di lembi cromatici sopra una superficie organizzare un tutto evocativo verbale capace di propagarsi e di agire come un fluido o una scarica esplosiva nei trucioli paesaggistici l'apparizione del paesaggio emblematizza il passaggio dalla poetica dell'autoanalisi come diceva Cecchi alla poetica dello sguardo dell'io che guarda all'esteriorità del mondo dove l'oggetto del guardare non è più il soggetto stesso ma è il mondo dei fenomeni vie piazze boschi colli spiagge lo scrittore giunge a cogliere precisamente il mondo un mondo nuovo il mondo della manifestazione e questa manifestazione del mondo è colore il grigio di pianissimo ricordiamo che questo libro Soffici intendeva in origine intitolarlo grisaglie con un significativo gallicismo il grigio di pianissimo è significativamente il risultato della mescolanza del bianco e del nero che sono in realtà sintesi o annullamento di colori in un fuoco fatuo cioè una breve prosa lirica intitolata di Chieni negli anni trenta Sbarbaro definisce il grigio il colore che è assenza di colori e questo è pianissimo ma in questa nuova poetica visiva di Trucioli prosa lirica dunque il mondo assume il senso oggettivo autonomo di fenomeno estetico un mondo colto nella sua essenza fenomenica nel suo svelarsi all'io empirico che lo guarda e attraverso l'io lirico che lo esprime che collabora alla sua manifestazione al suo esserci visivo al suo apparire cioè al suo darsi figurativo cromatico nello sguardo verso l'esteriorità delle forme della natura delle cose l'io coglie ed esprime il manifestarsi fenomenico del mondo attraverso quel privilegiato indizio che è il colore il referente cromatico è la spia formale dell'insorgere della poetica visiva che viene costituendosi su questo referente cromatico e sulla modulazione iconico cromatica sbarbaro imbastisce il trucciolo paesaggistico e l'approdo a una compiuta maturazione stilistica di questa nuova poetica visiva rivela l'incidenza delle arti figurative come fonte di ispirazione lirica in una espressione del paesaggio propriamente caratterizzabile come una pittura verbale pennellate linguistiche attingono alla tavolozza letteraria dinamiche modulazioni iconiche sapientemente coniugate con un ricco e suggestivo cromatismo eccone un esempio particolarmente eloquente è un trucciolo del 1917 alla carezza del sole l'altipiano si distende in una beatitudine calma si scambia la luna con una nuvoletta trasparente il tramonto ne fa un quadro chiassoso pennellate crude giusta apposte senza passaggi striscioni d'arancione di viola cupo d'ardesia che sono i monti lontani interrotti da chiatze abbaglianti più tardi i colori si fondono il cielo si sbava di viola con presentimenti d'oro armonie nascono che l'occhio coglie con la premura delle gioie uniche e intrattenibili delicatezze e iridescenze da bolla di sapone infine la nebbiolina annega l'altipiano nel vago la luna è un imbuto celestino e la tinta contagiosa crea al paesaggio un'atmosfera irreale in questo truciolo oltre all'ennesima occorrenza dell'essema paesaggio che appare anche in altri trucioli spicca l'assunzione l'essematica del colore al di là della sua mera funzionalità di referente epitetico come oggetto e come tema della rappresentazione a rivelare una vera e propria autocoscienza estetica del potenziale cromatico quale elemento stilistico e tematico nei trucioli paesaggistici che definisco rivieraschi rapallo camogli noli spotorno marina spotorno il momento lirico autobiografico viene a coniugarsi all'oggettività fenomenica del paesaggio della riviera ligure quale appare in una pronuncia che mantiene in ombra ostentatamente lo scatto lirico emotivo privilegiando il pretto aspetto pittorico visivo come in rapallo coltivati nel verde vario spruzzaglia di roseo di giallo di celeste i meli fanno male agli occhi mare impalpabile lungo la spiaggia fanciulle rosso vestite passeggiano col cane a notte ramaglia nera su vetrate rosa cipressi stelle un ol mette un po' d'oro nella conca buia del mare oppure marina spotorno si vive in un ex vuoto a vedere come il paesaggio si comporta ingenuamente in cospetto di questa levata di sole le montagnette paiono pecore tosate tutte a pezze da bruciacchiato e di verde smalto il muso di cane in faccia allo scoglio di vergeggi seminato radamente di globetti verdi ma il più irreale è il mare un mare così impalpabile da credere a un inganno ottico un mare che è tutta una pietra preziosa liquefatta d'un blu indicibile quando ecco nell'appropriato scenario il sole balza bolla infocata sciorinandosi ai piedi un tremolante tappeto arancione questa nuova poetica è altresì attiva nel contesto tematico della città marcando il trapasso dall'anonimato astratto e in colore di pianissimo al cromatismo e all'impressionismo lirico di un poeta pittore definizione di sbarbaro non mia ma di Enrico Calenda che nei truccioli sul Genova ritrae il paesaggio della città la fenomenologia dello scenario urbano la poetica visiva questa nuova poetica delle forme o del paesaggio rappresenta dunque è anche il presupposto di una nuova poetica della città la quale viene progressivamente elaborandosi fino a realizzazioni che mostrano come la città venga a costituirsi quale fenomeno cromatico e nel senso etimologico fotografico via 20 settembre via 20 settembre al primo sole rossiccio per la maggior parte nell'ombra grigia e monumentale ma rosea lassù la piazza fiore in cima al gambo aria fredda dei lumi inutili i tram vesperonzanti fanno già la spola bruni qui lassù sfavillano una vetrata mette nel roseo un tocco di fuoco giunto alla piazza invece volgendomi un polviscolo d'oro annega tutto acquazzone astagleno la spazzola dell'acquazzone ha dato alla lesta una ribulita al paesaggio lavato la faccia alle case rimesso a nuovo i monti sbiaditi anche l'aria è netta ora si apprezza ogni gradazione del verde villanelle indomenicate le case fanno insieme una stoffa quadratini rettangolini di tutti i colori quel giallo l'ingenuità di quel celeste a Levante il paesaggio è lumeggiato da una luce che pare di magnesio i tetti riflettono al luogo d'ogni ruga le montagne fanno mostra d'un filone d'argento questa nuova poetica della città trova la sua più alta espressione nei ritratti o come preferisco dire nelle visioni di Genova consegnate da Sbarbaro in alcune prose liriche del primo dopoguerra pubblicate negli anni 20-21 della collaborazione letteraria di Sbarbaro alla stampa periodica genovese a catturare l'attenzione è già la titolazione seriale di questi testi impressioni vedute numerose sono le impressioni liguri che appaiono sulla Gazzetta di Genova altrettanto numerose le impressioni genovesi che appaiono ugualmente su questo quotidiano Gazzetta di Genova anche sull'azione altro quotidiano genovese impressioni genovesi tra le quali anche un tramonto da Ponte Pila che sarà raccolta prosa che sarà raccolta più tardi molto più tardi 40 anni più tardi in un volumetto intitolato Vedute di Genova 1921 impressioni liguri impressioni genovesi queste prose genovesi del 20-21 sono evocazioni ritratti di vie quartieri zone e località di Genova vedute paesaggistiche di alta intensità lirica poste nel segno di un'estetica dello sguardo che denota una decisa visività oggettivante e la prospettiva fenomenologica dell'approccio e accoglimento della città nel suo autonomo esistere di forma e di struttura anche topografica di cui è segnale precipuo la toponomasia di vie piazze ponti quartieri colti da uno sguardo che sintetizza senza mai scadere nella banale oleografia da cartolina prospettivismo fotografico e impressionismo pittorico in queste prose del 20-21 sono escluse le carrellate nel centro storico i piani ravvicinati dei carruggi il paesaggio genovese di queste prose è infatti caratterizzato da inquadrature dall'alto dalle alture alla periferia della città o da Castelletto con uno sguardo in plongé come esemplificano le vedute di Genova da Ponte Pila o dalla spianata di Castelletto da Ponte Pila si assiste d'estate a un maestoso calar della notte bisogna attendere volti al cuore di Genova l'ora che i rossi vapori all'orizzonte o la mole della nuvola sospesa che compendiano il tramonto in città cominciano a perdere del loro lume ed ecco la prima sera lagrima oro sbiadito oro di lampioni a gas che l'uomo della pertica va accendendo per via dell'edera tra le aiole di piazza Brignole il cielo diventa di stagnola e su quella le forbici della notte ritagliano in carta nero fumo la sagoma della città un attimo ancora e fuoco si appicca da un capo all'altro tramutata in bracere laggiù piazza dei Ferrari in pozzi di luce le strade da Castelletto dalla spianata di Castelletto oh covata con gli occhi dalla spianata di Castelletto la città che là sotto si accavalla un mare in burrasca pietrificato verso cui da ogni parte si sporce questa terrazza spazzata dal vento fessure vi si aprono le strade e vi si stacca qua e là il verde d'un parco ecco il palazzo a imbuto del municipio l'occhio giallo del Carlo Felice a momenti si specchiera nel mare che impaluda tra i docks il mazzo di lumi di San Benigno quassù il caffè spertino gabbia di vetro che il tramonto fondeva pare adesso di madre perla gli occhi del poeta sono lo strumento di una visione della città che nello sguardo testuale si configura come rappresentazione di un evento mobile secondo le modalità appunto cinematografiche dell'inquadratura dall'alto e della fotografia volta quest'ultima alla rappresentazione degli esterni tramite la ripresa della luce e del referente cromatico di momenti aurorali crepuscolari o notturni della città con vario uso della semilitudine e dell'analogia ecco l'esempio di un mattino genovese naturalmente spartita dal greto del bisagno la vallata si apre tra colli facili festante di borghi campagna povera ma sontuosa per lo scialo di colori che autunno vi fa già spogli i fichi biancheggiano i castagni si aggruppano in macchie cupree ed apertutto cipressi astati giovani nere sentinelle gli annosi simili a nubi di fumo pietrificate ma la festa degli occhi che ne sono ventilati è lo sventagliare glauco argente o dei canneti ed è con tramonto a Ponte Carrega si ingannarono gli occhi quella sera o Ponte Carrega e il mattone la stagione arrugginiva il cono cui la borgata sinerpica pezzato di vigne alla ruggine e ai mattoni comunicò la nuvolaglia del tramonto un insolito spicco fumarono le prossime pendici attinti gli alberi del greto allampanati bruciarono fiamme chete Ponte Carrega arrossiva i torvi picchi dei forti in corona erano giganti che assistevano alla nascita di una rosa un attimo ancora la borgata splendette di un più di un più raccolto lume come lo tramandassero le case arroventate un lume di pietra preziosa Ponte Carrega rosso fiore colto dagli occhi una sera come un ricordo d'amore tra le pagine chiuso le vedute genovesi del 20-21 presentano soluzioni formali di alto livello estetico in cui la prosa sbarbariana rivela con evidenza un intento costruttivo che mira all'armonizzazione tra istanza autobiografica e istanza rappresentativa l'osmosi tra soggettivismo autobiografico e oggettivismo fenomenico si configura come originale connubio tra proiezione lirica dell'oggetto e sesì impressionistica di un evento mobile che la scrittura si incarica di realizzare con movenze stilistiche verbovisive le quali restituiscono gli impulsi emotivi e gli scatti lirici dell'esperienza estetica della visione si potrà menzionare al riguardo e concludo l'affermazione di Schlossky secondo la quale cito lo scopo dell'arte è di darci una sensazione dell'oggetto come visione e non come riconoscimento vi ringrazio benissimo grazie ad Antonello Perli per questa sua relazione oltretutto rispettosissima dei tempi e adesso è la volta della nostra Veronica Pesce dell'Università di Genova per una relazione che come vedete si intitola come vedrete si intitola la cultura visiva espressionista di Boine dunque sempre chiamata in causa per gli esiti linguistici della produzione letteraria boiniana lirico frammentista soprattutto la categoria di espressionismo è stata invocata in misura decisamente minore sul piano tematico e prettamente visivo i due aspetti io credo non devono necessariamente separarsi anzi vorrebbero nelle nostre intenzioni qui provare a dialogare insieme integrandosi più di quanto non sia stato fatto fino a questo momento anzitutto occorre almeno una premessa generale sull'impiego del termine e quindi della categoria critica di espressionismo al di fuori del suo contesto storico geografico ovviamente è alta e non è sempre pienamente superabile la difficoltà anche metodologica anche proprio di definizione terminologica nel momento in cui il termine viene trasferito dalla realtà storica di una corrente artistico-letteraria ad avanguardia a categoria sovrastorica che definisca caratteri e tendenze di autori di diverse epoche e o di diverse provenienze geografiche si ascrive come è noto a Gianfranco Contini che a sua volta rinvia alla critica di Leo Spitzer l'impiego del termine in questa accezione sovrastorica e nello specifico per definire precise tendenze linguistiche Contini tanto per ricordarlo annoverava nella categoria Rebora Pea Onofri e poi soprattutto Boine che è oggetto della nostra analisi di oggi la categoria è poi stata recuperata in tempi successivi da critici di alto profilo su tutti valgano i nomi di Asorrosa e di Luperini più recentemente Giuseppe Nava ha invitato ad un ripensamento di questa di questa categoria critica e ha invitato soprattutto alla costruzione di un paradigma matematico e stilistico dell'espressionismo colto nella sua fase storica prima di traslare metaforicamente il termine e farne quindi un impiego critico di tipo sovrastorico per fare questo Nava ha provato a definire i tratti che ritiene salienti basandosi a sua volta sugli studi di Ladislao Mitner o di Paolo Chiarini e di questi come dire provo a ricordarne e a enumerarne almeno alcuni una riflessione gnoseologica di tipo antipositivista decisamente antiimpressionista nella rappresentazione della realtà da inquadrarsi quindi in una sostanziale crisi della soggettività che è comunque il segno di un valore centrale che viene attribuito all'individuo al rapporto del soggetto con il mondo in particolare dell'intellettuale nei confronti della società la presenza di tematiche apocalittiche palingenetiche insieme con una dimensione religiosa o utopica su questa base per esempio Nava espunge dalla schiera dei vociani espressionisti Dino Campana letto più come tardo simbolista maledetto salvo poi naturalmente indicare significative eccezioni nel suo corpus a questa affermazione mentre riconosce una piena riferibilità al gruppo di Clemente Rebora e una riferibilità solo parziale di Camillo Sbarbaro ora naturalmente non mi soffermo sulle argomentazioni destinate ai singoli che eventualmente potranno trovare un po' di approfondimento e qualche spazio maggiore negli atti è un po' su questa linea proprio a partire da queste suggestioni che vorrei indirizzare questo intervento provando ad integrare in modo sistematico queste fondamentali riflessioni linguistiche che Subboine la critica continiana ci ha offerto e poi andranno debidamente considerati anche successivi interventi di Barberi Squarotti di Coletti eccetera con un'analisi di tipo tematico e un po' più a tutto tondo in cui possano trovare veramente sintesi aspetti differenti la nostra riflessione quindi si focalizza su uno dei più assidui collaboratori della rivista che è stata oggetto insieme con l'archivio ad essa connesso del lavoro dell'unità di Genova nell'ambito del presente progetto e la rivista in questione è La Riviera Ligure quello fra Mario Novaro direttore della Riviera Ligure e Giovanni Boine non è un rapporto di collaborazione assimilabile ai molti altri che hanno avuto luogo in seno alla rivista è proprio un'amicizia genuina un rapporto di stima reciproca per Boine è anche un quasi immancabile sostegno economico insomma ricordiamo anche le difficoltà con cui ha combattuto nella sua breve vita Giovanni Boine e non solo Boine veniva sistematicamente questo come tutti retribuito per i suoi testi e le sue collaborazioni ma spesso come dire questo sostegno economico si configura anche come aiuto extra nei frangenti proprio di maggiore difficoltà insomma Boine come tutti ricorderemo è ucciso dalla Tisi a solo i 29 anni e combatte per tutta la vita appunto con una situazione di semi indigenza nel 1916 scrive a Prezzolini mangio più medicine che pane e non ho un quattrino per pagarlo ecco e lettere di questo tipo nella sua corrispondenza naturalmente se ne leggono se ne leggono molti Boine pubblica su Riviera dal 1912 fino alla morte fino al 17 testi creativi ma anche recensioni memorabili nella celebre rubrica di recensioni che ha come titolo plausi e botte in cui come dire le botte sono sicuramente maggiori dei plausi quantitativamente sono anche spesso bendate spesso taglienti e ci sono anche però plausi memorabili insomma quello su Asbarbaro o il Tedeuma Campana o Rebora insomma queste sono veramente intuizioni critiche capite al volo anche proprio lette e immediatamente riconosciuti nella loro grandezza ricordiamo ancora che praticamente tutta la produzione frammentista di Boine passa per Riviera Ligure e a Mario Novaro si deve sostanzialmente la pubblicazione postuma di questi testi pur con tante arbitrarietà filologiche che poi come dire c'è voluto tempo a dipanare non è sempre stato semplice dipanare ma certo anche con il merito di un'azione fatta oltre che per mostrare a tutti il suo Boine il Boine della sua Riviera Ligure anche per disinteressata e generosa amicizia quindi riparto dal fondamentale intervento di Gianfranco Contini ormai ovviamente molto lontano nel tempo perché data al 39 poi raccolto in varianti altralinguistica certamente tuttavia ancora base essenziale da cui partire e qui si individuano almeno tre fenomeni linguistici che cerco di passare in rassegna velocemente per poi andare a leggere qualcosa di più dei testi tre fenomeni linguistici dicevo propriamente grammaticali che vanno decisamente in direzione espressionista e sono l'impiego dei dei verbali o dei sostantivali la fusione degli epiteti e l'inversione ritmica degli avverbi soprattutto i primi due sono credo per il nostro discorso i più funzionali e i più significativi per esempio fra i dei verbali sbari dell'impossibile sconfino dell'ansia rispecchio di lago spalanco di blu questo blu con l'accento poi ci torno qui oppure scusate l'altra categoria dei sostantivali mi ruscelli di chiarità mister barro smemorato qui come dire con scelte anche foniche talvolta allitteranti spesso si aggiungono figure etimologiche si nombrano d'ombra valle di vallo svalico i valichi della realtà e così via altro fenomeno a cui facevo riferimento quello della fusione degli epiteti o degli aggettivi divaricati viscide spalancate occhiaie oppure iride soffio riso ferita lo scoppio scintille del tuo volto vecchiaia il guizzo cilestre del tuo occhio dolore ecco in questi ultimi casi il sostantivo tende ad aggettivizzarsi come rivela ancora Contini cito si fa portatore di qualità e ciò ovviamente contrasta con la normale concezione antiaggettivale e filoverbale che si suole assegnare all'espressionista all'espressionismo come se Boine in alcuni aspetti procedesse esattamente in modo inverso a quello che ci si aspetterebbe ma questo insomma fa anche un po' parte della personalità anche un po' imprevedibile di Giovanni Boine nei casi elencati si osserva spesso una pregnanza proprio visiva del lessico scelto che altro non fa che accentuarsi nel fenomeno descritto a cominciare proprio da quei dei verbali già ricordati anche laddove si indica qualcosa di astratto allora per l'ombra crepuscolare avanza avanza allora chiare nere nell'ombra inghiotte inghiotte oltre gli sbarri dell'impossibile sono possibili le più impossibili possibilità qui gli sbarri si pongono come delimitazione spaziale pure con molta efficacia espressiva anche fonica naturalmente il termine consuona con i successivi impossibili possibili eccetera a qualcosa di assolutamente astratto e incidentalmente osserviamo che il contesto ha anche una sua definizione cromatica ombra crepuscolare chiare nere discorso simile per gli altri esempi che abbiamo visto sconfino dell'ansia rispecchio di lago ancora di più forse a cui è assimilato il mondo che si riflette nel mare fino all'abisso dello spalanco di blu che si staglia con questa forza cromatica peraltro in contrasto con due parole che seguono cioè sul barbaglio del bianco di nuovo con scelta fonica allitterante con cui si identificano i mondi innevati dell'ormeasca di resoconto dell'escursione un testo pubblicato su Riviera su cui torneremo analogamente per gli aggettivi o genericamente per quelli che sono stati definiti epiteti dentro la cui categoria si comprendono anche gli aggettivi divaricati che giustapposti come appaiono ampliano il ventaglio semantico spesso deformando l'immagine rendendola ancora più allucinata stravolta come le viscide spalancate occhiaie già viste o in scenografie di iri di nebule s'aumenta la cavità degli spazi ci sono angosce rapide vaste come bitume di nubi sopra le valli dove per via metaforica e figurale l'idea astratta la cavità dello spazio nel primo caso il sentimento d'angoscia nel secondo trovano una qualche forma visiva peraltro già Barberis Quarotti rimarcava come spesso il fenomeno risponde alla necessità di risolvere il termine visivo anche solo inizialmente descrittivo in una conclusione di meditazione di immediata applicazione spirituale per cui il termine metaforico precede quello puramente fisico mentre si registrano anche altri casi in cui l'ordine è invertito cioè sostantivo o aggettivo visivo precedono quello meditativo un altro procedimento questa volta più retorico che linguistico strettamente retorico non un fenomeno grammaticale propriamente detto ma un tratto stilistico appunto è l'impiego massiccio della sinestesia già Paolo Chiarini parlava per l'intero espressionismo di condizione psicologico mentale di sinestesia Frantumi testimonia bene dell'uso dilagante di questa di questa figura non so che riverbero giallo di ambigua impostura colori di dentro l'atto di me che t'ascolto il ronzio vasto dell'allucinazione il nero sbattere del cuore l'oleoso silenzio l'amico che da lungi miguata con ambiguo con ambiguo giallore e qui anche naturalmente si potrebbe andare avanti con gli esempi spesso e per questo cresce io credo l'interesse la sinestesia associata alla perita dell'identità alla questione del riconoscimento a qualsiasi forma di smarrimento e di reificazione del soggetto quasi che e vorrei in questo senso provare a formulare un'ipotesi la fusione percettiva sinestetica l'investimento del corpo e della sua sensorialità possano in qualche modo compensare lo smarrimento della soggettività o la definizione di un'identità altrimenti astratta e inafferrabile con una funzione analoga ci paiono impiegati ideittici gli avverbi di luogo i pronomi gli aggettivi dimostrativi che contribuiscono alla in qualche modo alla spazializzazione nelle varie immagini che il poeta inserisce nella sua lirica anche i passi che sono più più vertiginosi più più allucinati stravolti di apparente delirio come un titolo autoriale ci suggerisce appunto deliri non perdono mai questi due dati cioè l'impiego della dimensione sensoriale e in qualche termine una specie di spazializzazione nel testo domande che è questo che si vede nella diapositiva sempre parte del gruppo deliri appena citato si registra un'insistita ripetizione del pronome personale e dei pronomi possessivi di prima persona alla porta di casa la risata del campanello lacera talvolta così improvvisa lo strateso spasimo dell'ansia per me per me ma non è mai per me sul tic tac della febbre l'ora che scocca par sempre in sgomento la mia ma ora di che mi piglia uscendo talora ai crepuscoli per le vie stranote il bizzarro ansimo dell'avventura subito butto il mio nome e sono slegato a mille miglia spatriato e chi si ricorda di me o di te naturalmente il riferimento al nome lo riprenderemo perché poi la questione della nominazione o autonominazione è ovviamente altrettanto importante in questa questione per così dire identitaria segue a questo passo un breve quadro spaziale di una città portuale non meglio definita ma è riconoscibile Porto Maurizio che pur non viene mai nominata dove Boine vive e scrive e la sensazione chiaramente è di smarrimento del soggetto che si è appena definito spatriato ma che tuttavia enumera le strade il porto da una collocazione spaziale c'è giù un porto poi ancora le navi i moli procedendo infine verso l'orizzonte anch'esso in apparente relazione spaziale rispetto agli altri elementi in cima in cima ai moli un orizzonte sembra quindi esserci comunque una qualche organizzazione dello spazio un certo ordine dato alle cose la spazialità quindi è resa con un purlabile orientamento del soggetto che riconosce i campi del lontano del vicino dell'alto del basso delle dimensioni forse un ultimo appiglio di una realtà esteriore diversamente inafferrabile difficilmente conoscibile o riconoscibile proprio al pari della interiore coscienza di sé al di là del processo strettamente linguistico è proprio nei temi e complessivamente nelle modalità rappresentative che si impone qualche qualche riflessione la città insieme con la passeggiata naturalmente è tema tipico sia dei poeti frammentisti vociani sia della pittura espressionista dove si rivela luogo dell'attività della confusione ma anche dell'angoscia della nevrosi alienante dove gli uomini si possono aggirare come spettri oppure deformati spigolosi nei tratti reificati e questi motivi tornano anche nei frantumi in particolare leggo l'incipit di questo testo intitolato frammenti che è il primo testo dei frantumi talvolta quando al tramonto passeggio stanco per il corso che è vuoto uno che incontro dice forte il mio nome e fa buonasera allora ad un tratto lì sul corso che è vuoto mi imbatto stupito alle cose di ieri e sono pur io una cosa col nome questo è l'incipit del componimento ripeto di apertura della raccolta per la verità questa posizione di incipit non va assolutamente caricata di significato proprio in virtù della situazione editoriale della raccolta che non fu mai neanche pensata dall'autore dicevo prima pubblicato tutto postumo in buona parte anzi per la sua produzione frammentista tutto da Mario Novaro e poi successivamente come dire sono venute sistemazioni filologiche più più precise ma come dire di anni ne sono poi passati passati molti peraltro come dire non si tratta soltanto di tradizione editoriale non sempre rispettosa della filologia ma anche e soprattutto della modalità di scrittura di questo di quest'autore proprio il suo processo scrittorio i manoscritti conservati testimoniano una continua insistita tormentata riscrittura volta ugualmente alla ricerca stilistica fonico-ritmica e semantica la variantistica è copiosissima talvolta le varianti sono giuste apposte ma manca una scelta ultima cioè non c'è una versione in qualche modo identificabile come definitiva ci sono più alternative che restano affiancate restano più soluzioni più possibilità si usano in modo atipico e quasi esasperato gli accenti che marcano il ritmo con furiosa insistenza Mengaldo a questo proposito scriveva una specie di droga procurata sul piano psicologico addirittura il fenomeno è stato poi ulteriormente accentuato nella stampa del periodico anche per cattiva interpretazione in sede tipografica ma come dire era davvero difficile da interpretare questo tratto grafico così così ansioso tant'è vero che spesso leggendo i testi su Riviera Ligure troviamo una serie di accenti grammaticalmente ingiustificati accenti circonflessi o altri magari effettivamente presenti e riconoscibili come accenti nei manoscritti come quel blu come i monosillabi è una caratteristica il monosillabo accentato per esempio è una caratteristica della sua scrittura sono proprio convulsi colpi di penna che addirittura provocano l'apertura del pennino e originano tratti grafici che in effetti si possono interpretare come accenti tornando alla nostra citazione l'ambientazione è in tutto e per tutto urbana il corso la via principale vuota peraltro è attraversata da chi dice io che viene riconosciuto e chiamato con il suo nome da un passante udire questo nome produce immediatamente due effetti da un lato un recupero meravigliato ma sempre un recupero del legame con il passato e dall'altro il ritrovamento di un ordine di un proprio posto di una propria collocazione anche anche sociale di questa ambientazione urbana sono no scusate sempre la stessa si si evidenziano anche i dati cromatici quando ti stringo la mano tu ripigli sicuro il discorso di ieri non so qual riverbero giallo di ambigua impostura colori l'atto di dentro l'atto di me che ti ascolto il colore introdotto da una figura sinestetica appunto dove si lega una sensazione visiva cioè il colore giallo ad un concetto astratto producendo un efficace effetto di straniamento come se chi parla in prima persona si vedesse appunto da fuori nell'atto di me che ti ascolto con un effetto di spersonalizzazione molto forte uno scenario urbano già di per sé anomalo straniante perché vuoto in cui l'incontro tra l'io e chi dice io e un passante si colora di giallo degno del cromatismo antinaturalistico di tante tele espressioniste si susseguono quindi una serie nutrita poi di immagini legate al nome la tendenza è quella di dare al nome una forma concreta e spazializzata con immagini che evocano l'idea di chiusura di protezione immagini anche del tutto opposte che ora evocano scenari antinaturalistici espressionisticamente stravolti cateratta aperta nubi cangianti nell'abissale cavo del cielo mi seggo all'acceso cammino fuori la valle e grigiume di nebbia e notturna opacità o ancora mi si leva dentro l'amarezza del pianto come nebbia da una nera palude tremulo di afano nelle immobilità della notte ruppe con taglienti lame il mattino i riferimenti alla città naturalmente non appaiono solamente in questo testo e anche laddove lo scenario non è più urbano per esempio quel resoconto dell'escursione a cui accennavo prima la corrispondenza ci indica l'occasione biografica una gita in montagna nell'ormeasca e si offre di questa di questo panorama innevato una visione decisamente antinaturalistica e allucinata non ti mettevano paura quei mille metri a strapiombo su te quelle rotte creste muraglie del mondo sul vetro verde sul pungente ghiaccio nell'aria ma noi nel profondo nere laboriose formiche sul funereo bianco in riga quando diafana per gli spacchi improvvisi l'aerea fiamma di venere e lieve la luna giù matte danzanti di velo ci soffiarono al lato le ombre uno dinanzi attizzò la lanterna e ancora che luccichi che punture vive di gemme tutto intorno pel bianco sì io stendevo la mano raccoglievo a rastrello i diamanti e dalla vitrea chiarità degli spazi quella luna agghiacciata quelle frecciate dell'orsa e quegli immobili gridi di creste che uno per uno e fin chissà dove netti li conti quegli artigli di roccia in agguato nella vastità così lucida e zitta poi naturalmente ci sono anche molte altre notazioni cromatiche di nuovo come dire espressioni dal marcato potenziale cinestetico quel gridi di creste che abbiamo appena visti altri scenari sempre urbani si definiscono subito nei loro aspetti macabri spettrali come nell'equivalente che è la prima prosa lirica del gruppo deliri quando resta di nebbia escono quatti gli spettri dal cimitero lenti fiottando con molli dita ungon di febbre ogni via eco lontano urlo improvviso fuga attorniante assedio d'ansia querula agli orizzonti si spande il ronzio vasto dell'allucinazione allora ogni cosa si fa di paura gli alberi e le quadre facciate si contorcono in visi d'angoscia ma si accendono improvvisi i fanali di vetro come occhi di mostro le abbinate sbarre in zanne si mutano e le ruote in chimeriche cosce pipistrelli in crepuscolo barcollano soffici via le fantasime in pena di coloro che passano ombre nel buio fuggono per amorfi addensamenti di nuvolaglia bassa o disperse errano in cerca per gli spiazzi selciati ora naturalmente non continuo con gli esempi che potrebbero essere veramente voltissimi solo per invece come dire soffermarmi sul dato che ne emerge cioè la deformazione è quasi plastica lo scenario allucinato è altamente drammatico totalmente antinaturalistico e suggerirà forse il raffronto con qualche tela espressionista in particolare o qualche antecedente o limitrofo dell'espressionismo pittorico come il Munch che a questo proposito è già stato evocato da Giorgio Bertone in particolare quella parata silenziosa e macabra di spettri con occhiaie dilatate della sera sulla via Carliò hanno ancora il coevo disperazione o angoscia che è del 94 di due anni più tardi e rileggendo ancora Boine analogie veramente sono quasi continue ancora nel successivo trasfigurazione perché giorni vi sono di vuoto che gli errabondi occhi non vengono e scorre via per la strada la gente spettrale scenari differenti possono anche esistere ma solo in forma di fantasia per esempio c'è un testo che si intitola Idilio e questo Idilio che effettivamente contrasta con i toni allucinati che abbiamo visto in queste citazioni possono essere giustificati solamente appunto come fantasia come sogno ad occhi aperti e comunque trapelano anche da questi scenari più dolcissimi dorsi dei colli le terrazze di olivi eccetera trapelano come dire i soliti scenari che ormai conosciamo agli orli dell'orizzonte la insondabile ansia del buio questi testi nascono tra la fine del 14 e poi via uno dopo l'altro come la corrispondenza documenta nel corso del 15 con l'eccezione degli ultimi due redatti nel 16 la Brucche ha visto da qualche anno il suo scioglimento nel 13 ma l'esperienza espressionista ha ancora una crescente influenza anzi sono come dire gli anni dell'inquadramento critico va da sé che qui in questa sede io assolutamente non intendo suggerire un rapporto diretto fra l'esperienza dell'espressionismo pittorico tedesco e le sue ricadute italiane e la poesia cosiddetta espressionista boiniana in modo particolare peraltro non mi risulta che siano mai state fatte ricerche in questa direzione non è detto che porterebbero un qualche risultato anche perché insomma sappiamo che Boine non si allontana mai molto dal ponente Ligure e il suo più ravvicinato contatto con la cultura tedesca fu a Davos in sanatorio dove con tutta probabilità imparò la lingua e da qui la successiva parziale traduzione di una delle considerazioni inattuali di Nice semplicemente vorrei suggerire proprio queste possibili analogie tematiche e stilistiche e un'altra analogia che sfioro proprio prima di concludere è quella dell'esercizio critico di Boine che come dire va guardato in modo molto ravvicinato alla sua produzione creativa vale un po' da manifesto questo passaggio della recensione al giornale di bordo di Soffici ho mai detto di fare della critica io la mia critica agli umori sente il barometro è semplicemente quel che mi pare quando mi pare sono qui che mi svago sono qui che mi libero dico le cose che mi vengono in mente tanto per dirle non faccio lezione non tengo una cattedra e mi straffotto dell'uditorio chi vuole legga chi non vuole lasci induco che ci devono essere nel mondo dei critici regolari e obiettivi soprattutto perché veggo in giro delle scimmie di critici obiettive in regola ma non è il mio mestiere io sono nato per divertirmi e per non scimmiotare nessuno quel che dico e me ne glorio è niente più della mia momentanea e personale impressione e non parlo infine che di me in confidenza anzi non so proprio di che altro si possa parlare che di se stessi questa proiezione di sé questa complessiva esaltazione della della dimensione soggettiva l'esercizio critico tradizionale veramente abbandonato il testo da recensire è un pretesto per riflessioni critiche estetiche la sensibilità individuale che rompe in boile gli schemi gli schemi critici ecco io credo che questa complessiva esaltazione della dimensione soggettiva ben si iscriva nella categoria di espressionismo e tra l'altro attende ancora le dovute riflessioni già lo suggeriva Pier Vincenzo Mengaldo il rapporto di dare e avere fra poetica frammentista ed esercizio critico militante su riviera dove guarda caso sono proprio gli altri frammentisti che hanno gli elogi più alti e più favorevoli e che condizionano molto da vicino la scrittura lirica boiniana per esempio un raffronto testuale fra la recensione ai canti orfici di campana e i deliri per l'appunto i successivi frantumi che vengono composti veramente a stretto giro di giorni o di settimane dalla lettura dei canti orfici è un raffronto molto proficuo perché Boine nel commentare nel recensire riproduce anche un certo campanismo lessicale proprio nella recensione e poi senza soluzione di continuità alcuni di questi passi confluiscono nei suoi nei suoi testi insomma per concludere il dettato boiniano almeno quello frammentistico può essere credo collocato sotto l'insegna dell'espressionismo non sarà solo un fatto strettamente linguistico ma un espressionismo to cure in senso storico e sovrastorico ad un tempo dove la strategia linguistica stilistica e retorica la scelta tematica le modalità rappresentativa in genere la resa dello spazio il cromatismo talvolta violento concorrono da un lato a una complessiva accentuazione della soggettività che si imprime nella realtà senza filtri drammaticamente e che va di pari passo ma d'altro canto con una progressiva spersonificazione con quella già evocata reificazione del soggetto uno dei molti aspetti di quella crisi ideologica che caratterizza l'intellettuale e il poeta di inizio secolo proprio storicamente inquadrabile nella realtà italiana fra età geolittiana e primo conflitto mondiale di cui penso Giovanni Boine sia certamente un interprete straordinario fine bene molte grazie anche a Veronica Pesce e continuiamo con i rappresentanti di un folto manipolo genovese o di studiosi provenienti da Genova con Matteo Navone con Matteo Navone anche lui appunto dell'Università di Genova la sua relazione riguarda le clexografie poetiche di Corrado Govoni grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Buonasera a tutti. Scusate il piccolo inconveniente. Grazie. 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 Riesce già a ritagliarsi un posto di sempre maggior rilievo tra riviste letterarie di inizio Novecento, quindi da un lato abbiamo un poeta che sta cercando anche di affermarsi nella scena letteraria nazionale e dall'altro abbiamo una rivista che offre questa possibilità, o contribuisce a offrire questa possibilità in questo periodo per autori come Gozzano, Palazzeschi, negli stessi anni pubblicano su Riviera anche autori e poeti già consacrati come Pascoli, Pirandello e molti altri. Questa collaborazione, dicevo, giunge tardi ma sarà molto intensa negli anni successivi, quindi dal 13 fino al 19 quando chiude questa esperienza di Riviera Ligure e questa collaborazione sopravviverà dopo la chiusura delle pubblicazioni di Riviera nel 19, una profonda amicizia tra Govoni e Mario Novaro, testimoniata da un trentennale carteggio di quasi 700 lettere conservate oggi nell'archivio della Fondazione Mario Novaro di Genova. Siamo quindi negli anni che precedono lo scoppio del primo conflitto mondiale, anni che segnano il culmine della fase più vitale e felice della carriera poetica govoniana. In questo periodo l'autore ferrarese si muove in bilico tra esperienze e istanze non facilmente conciliabili e più precisamente tra la sua adesione, a partire dalla fine degli anni X al futurismo di Marinetti, e la chiara volontà di proseguire un percorso poetico autonomo, che lo portava a guardare con diffidenza ad alcuni aspetti della poetica futurista, come la magnificazione della modernità industriale e cittadina, la rinuncia alla centralità dell'io lirico, comunque psicologico, la destrutturazione paroliberistica della sintassi e della grammatica tradizionali, e a conservare un forte legame con la poesia praticata nel primo decennio del Novecento, quando aveva contribuito in misura decisiva a definire la sensibilità, il repertorio figurativo, i modelli culturali di un altro fenomeno poetico importantissimo di quegli anni, che sarebbe poi stato definito con l'etichetta di crepuscolarismo. Questo atteggiamento ambivalente è ben visibile nella raccolta all'inaugurazione della primavera, che riunisce la maggior parte delle poesie composte nel biennio 1913-1915, comprese alcune delle clexografie. La sua pubblicazione era stata inizialmente prevista presso le edizioni futuriste di poesia, ma a seguito delle diffidenze reciproche tra Marinetti e Govoni, il volume uscì poi nella primavera del 1915 presso la libreria della Voce. Si tratta di un libro, come è stato giustamente osservato, non assimilabile a una sola etichetta poetica, in quanto assomma aperture futuriste a permanenze crepuscolari, mescolando queste componenti con altre ascendenze. Prima di approdare in questo volume, le clexografie erano apparse su varie riviste, conoscendo una vicenda editoriale abbastanza frastagliata. Rinvio ovviamente agli atti una più precisa descrizione del loro percorso editoriale. Mi limito qui a segnalare che questi testi uscirono tra il giugno del 1914 e la primavera del 15, ci sono almeno quattro riviste, Riviera Ligure, dove ne vengono pubblicate sei, tre nel fascicolo del giugno 14 e tre nel fascicolo del febbraio del 15, e poi La Voce, La Cerba e Mirice, una piccola rivista di ambito ferrarese. Va precisato che alcuni testi sono riproposti in più sedi e che il titolo collettivo Clexografie compare in Riviera Ligure, La Cerba e Mirice, ma è assente nel caso dei testi pubblicati sulla Voce. Solo alcune di queste composizioni furono poi incluse nell'inaugurazione della primavera. Delle sei edite su Riviera, ne vennero accolte nel volume del 1915 quattro, una ricomparirà in una raccolta successiva e un'altra non sarà più recuperata. Le liriche selezionate sono collocate nella parte centrale dell'inaugurazione della primavera, dove tuttavia scompare la titolazione collettiva, quindi Clexografia, testata in rivista. Questo fa sì che le poesie non costituiscano una sezione autonoma all'interno della raccolta, della quale del resto non è presente nessuna ripartizione in sezioni, e soprattutto fa sì che venga meno, quantomeno per questi testi, il riferimento al disegno clexografico. Non è facile capire attraverso quali fonti Govoni sia venuto a conoscenza di questa particolare forma espressiva che la clexografia. Di sicuro quello di creare e poi interpretare macchie d'inchiostro sparse su fogli ripiegati era un passatempo diffuso nell'Ottocento nei paesi di area germanica, come rivela anche l'etimologia della parola, che viene appunto dal tedesco clex, macchie, specificamente macchie d'inchiostro, e grafie, grafia, scrittura, anche disegno. Esso aveva già ispirato un poeta tedesco vissuto nella prima metà del XIX secolo, Justinus Kerner, tra le cui opera si trova un curioso libretto intitolato proprio Clexografie, pubblicato Postum nel 1890, dove Kerner abbina suoi disegni clexografici a poesie composte sempre da lui, ispirate alle immagini evocate dalle macchie. Di sicuro questo libro finì tra le mani di Jung e probabilmente dello psichiatra svizzero Herman Rorschach, che vide nelle clexografie una possibile chiave d'accesso alla psiche umana, utilizzandone nelle sue celebre teste, in cui al paziente viene richiesto di individuare le immagini rappresentate in una serie di tavole clexografiche, mentre il terapeuta ricava dalle risposte ottenute e dalle loro motivazioni indizi sulla sua personalità. Sono appunto i due piccoli esempi che vi ho proposto all'inizio, tratti cioè dalle tavole di Rorschach. Ora, del test di Rorschach, reso noto in uno studio del 1921, Govoni non poteva sapere nulla, quantomeno non all'altezza in cui compone questi testi, mentre avrebbe potuto conoscere il libro di Kerner attraverso un'edizione in tedesco, risalente proprio al XIV, che circolò anche in Italia come prova la sua reperibilità tutt'oggi in alcune biblioteche nostrane. Per quanto il precedente di Kerner sia significativo, in quanto associava clexografia e scrittura poetica, non vi sono indizi chiari che attestino che Govoni conoscesse questo libretto. Se così fu, va altresì precisato che Govoni accosta clexografia e versi solo concettualmente e non anche visivamente come aveva fatto Kerner, in quanto le sue poesie non sono accompagnate da alcun disegno. Cosa, se vogliamo, un po' singolare, nel senso che in questa fase Govoni sta anche sperimentando questa possibile associazione di poesie e disegno e lo fa con Rarefazioni, parole e libertà, che è la sua raccolta più vicina alle istanze del futurismo, pubblicata anch'essa nel XV. Non meno arduo è capire quando esattamente il termine clexografia cominciò a circolare nella lingua e nella cultura italiana. Gli strumenti lessicografici a nostra disposizione, infatti, aiutano poco o nulla. Basti pensare che, come ha già notato Veronica Pesce, il grande dizionario italiano dell'uso, diretto da Tullio De Mauro, fornisce addirittura il 1942 come data della prima attestazione scritta del vocabolo, indicazione che ovviamente i testi govoniani permettono di retrodatare di 30 anni. Allo stato attuale delle nostre informazioni, Govoni sembrerebbe essere stato il primo a introdurre questa voce nell'italiano scritto. Non si può ovviamente escludere che ulteriori ricerche, condotte magari su pubblicazioni specialistiche di ambito artistico figurativo, svelino altri precedenti, che difficilmente però potranno togliere a Govoni quantomeno la palma di prima attestazione di questa voce nell'italiano letterario. Questa prima attestazione non è però quella documentata su Riviera nel giugno 2014. Il termine era infatti già comparso nella precedente produzione govoniana, in forma non di sostantivo ma di aggettivo. Mi riferisco alla lirica autunno, compresa nelle poesie elettriche raccolte del 1911, che aveva un po' ufficializzato l'ingresso di Govoni nel Cote Futurista, anche se anche le poesie elettriche sono insomma un libro futurista molto sui generis. La lirica appunto autunno dove, contemplando nella natura i segni del passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale, il poeta afferma tra l'altro addio belle nubi clexografiche. Con la stessa funzione grammaticale il vocabolo torna nell'inaugurazione della primavera, con due occorrenze che rappresentano le uniche allusioni presenti all'immagine della clexografia, venendo meno, come ho detto, l'uso del sostantivo in funzione di titolo collettivo, quindi venendo meno insomma l'attestazione in rivista. Queste due occorrenze si leggono nella poesia I soborghi, cito, l'ombrello clexografico del temporale con le sue stecche elettriche di fulmini rovesciato dal vento sulle case e ancora in fotografia medianica del temporale, cito, e la morte nella sua uniforme stretta e irreprensibile di scheletro galoppa nel suo mantello sferzante di vento sul suo cavallo clexografico. Come si vede in tutti e tre i casi, l'immagine viene utilizzata pressoché con la stessa finalità espressiva, contribuire alla descrizione insolita e originale di un temporale, anche nell'ultimo caso, dove il cavallo della morte vale comunque come metafora del cielo in burrasca, stabilendo in particolare un nesso metaforico tra le macchie di inchiostro e il colore e le forme delle nubi. In questo modo l'aggettivo clexografico e l'immagine che esso veicola rivelano una forte ascendenza futurista. Futurista è anzitutto l'idea di attribuire a un elemento naturale un aggettivo che rompe con il repertorio della tradizione e che rimanda, se non all'ambito strettamente tecnologico, comunque a quello della modernità, in quanto si riferisce a una forma iconografica di recente diffusione. Si realizza così quel meccanismo di proiezione delle forme della modernità tecnologica e non sul paesaggio naturale, che nel caso della poesia autunno, quindi la prima che ho citato, ha un significativo raddoppiamento pochi versi dopo quello che ho ricordato prima, quando all'addio alle nubi clexografiche segue quello alle notti crittografiche, cioè enigmatiche misteriose come una crittografia. Questi paragoni rientrano quasi perfettamente nei canoni dell'analogia poetica definiti da Marinetti nel suo manifesto tecnico della letteratura futurista, che lo ricordo è del maggio 1912. Essi infatti condensano ambiti distanti della realtà in un'unica immagine, in virtù di un nesso più intuitivo che logico, creando un accostamento ardito, inedito e sorprendente. Ma i componimenti raccolti sotto il titolo di clexografie, quindi torniamo ai testi in rivista, mantengono questo afflato futurista? Proviamo prima a chiederci perché Govoni sceglie di usare questo termine per disegnare queste poesie. Mi pare che l'analogia voglia alludere in primo luogo alla tecnica realizzativa della clexografia. Essa abbiamo detto è un disegno astratto, bizzarro, eseguito a macchie di inchiostro. Similmente si può dire che questi testi disegnano, tratteggiano delle immagini insolite a tratti surreali e lo fanno attraverso la scrittura che a sua volta un insieme di macchie o comunque di segni ad inchiostro disposti su un foglio. Ma è forse possibile che l'analogia funzioni anche in un altro senso, legato stavolta alla modalità di fruizione della clexografia, insieme di forme astratte e ambigue in cui l'osservatore può scorgere un volto, un oggetto, un paesaggio o altro in virtù di una soggettiva associazione di immagini e idee. La mia impressione è che qui Govoni utilizzi una sorta di sguardo clexografico all'incontrario, in quanto le immagini bizzarre che tratteggiano le sue poesie nascono dall'osservazione di un qualche frammento riconoscibile di realtà che viene poi deformato poeticamente, ad esempio accostandolo per analogia a un'altra immagine o addirittura fondendolo insieme a un'altra forma del reale. In sostanza, mentre nella clexografia si parte da un reagente astratto per cercare di ritrovarvi immagini definite, Govoni parte da un'immagine reale e consueta per modificarla in forme anomale e paradossali, sempre guidato però, come l'osservatore delle macchie d'inchiostro, da una libera e individuale associazione di idee. In questo senso la poesia, quindi diciamo il prodotto finale di questo processo, la poesia stessa diventa a sua volta una sorta di clexografia verbale proposta al lettore, che con essa può confrontarsi provando a sbrogliare la catena di collegamenti razionali e insoliti che essa propone. Ammesso che queste ipotesi siano corrette, va precisato che Govoni avrebbe trovato nella rappresentazione clexografica un'affinità con meccanismi di figurazione e trasfigurazione poetica della realtà attestati già nella sua produzione precedente, per i quali, è bene ricordarlo, aveva recentemente trovato un riscontro teorico, un ulteriore stimolo nel principio futurista, quindi torniamo al manifesto tecnico di Marinetti, delle libere associazioni analogiche, in base al quale vero poeta è che associa un oggetto, ad esempio una metragliatrice, ricordo proprio l'esempio che fa Marinetti, un'altra immagine, ad esempio quella di una bella donna, apparentemente distante in virtù non di un nessonologico stringente, ma di un'intuizione dove razionale e irrazionale si sovrappongono inscindibilmente. Ma andiamo finalmente a leggere questi testi, o almeno alcuni di questi testi, ovviamente per ragioni di tempo, insomma rimando agli atti, un'analisi anche più compiutamente approfondita di queste liriche che come un po' accenerò, insomma hanno anche una componente intertestuale abbastanza forte e nutrita. E vorrei proprio partire ecco da questa breve poesia che è l'ultimo dei tre testi editi sul primo fascicolo di Riviera Ligure, quindi quello del giugno 14. Sotto la mia finestra, che guarda la primavera, mormora un povero la sua preghiera, ed è dolce quel sussurro che va e viene nell'azzurro, come il ronzio d'una macroglossa intorno a una gran corolla carica di polline, rossa. Come si vede nella prima parte della lirica viene descritto un rapido quadretto in cui spiccano un suono, la preghiera del mendicante, e un'immagine, anzi un colore, l'azzurro del cielo primaverile. Anche Govone è un altro autore dove insomma il tema dei dei colori e l'elemento cromatico è sempre molto importante e per buona parte della sua produzione si potrebbe anche qui usare l'etichetta, la formula di poesia visiva che abbiamo già visto prima nel caso di Sbarbaro. Nella seconda parte della lirica essi vengono, quindi due elementi della prima parte, vengono paragonati a un altro suono, il ronzio di una farfalla, e un'altra immagine dotate sempre di una forte evidenza cromatica, un fiore rosso. Ed è un accostamento sorprendente, soprattutto nel primo caso, quindi il passaggio dall'implorazione, insomma dalla preghiera del povero mendicante a ronzio della farfalla, che fa sì che un'immagine potenzialmente malinconica quasi si trasformi in un emblema della primavera, in virtù della sensazione e la dolcezza che il suono di partenza suggerisce al poeta. Una costruzione similare, ma ancora pronunciata, mi pare si ritrovi nel fanale nel fanale l'organetto, siamo sempre nel fascicolo di riviera del giugno 14. Questo testo poi passerà nell'inaugurazione della primavera con una piccola variante nel titolo, il fanale e la fisarmonica. Sul marciapiede, lucido come un canale, nella pioggia sotto un fanale dolce e banale, in un trivio deserto accanto a giardini sfatti dalle immondizie, suona una fisarmonica lunga e malinconica. Sotto la pioggia che cuce e cuce, i fanali sono crune e luminose, sui marciapiedi e contro gli usci chiusi, il fanale è una fisarmonica di luce, la fisarmonica è un fanale di musica. Ora, questi testi, come vedete, sono spesso giocati su una misura binaria, cioè incentrati su due elementi, già nella poesia precedente avevamo un suono, un colore, qui due oggetti, il fanale alla fisarmonica, che però producono luce e musica, quindi siamo sempre, diciamo, in un'associazione tra piano visivo e uditivo. Torna anche qui una divisione della poesia in due metà. Nella prima abbiamo la descrizione di una scena che presenta già qualche elemento figurato, ma è comunque riconoscibile, ed è appunto il frammento di realtà di partenza a cui facevo riferimento prima, e in questo caso appunto un fisarmonicista che suona il suo strumento di notte sotto un fanale mentre piove, anche se sembra che questo strumento musicale si suoni da solo, visto che il suonatore non è menzionato. E nella seconda metà abbiamo la trasformazione poetica della scena precedentemente descritta, e anche questa bipartizione forse potrebbe ancora far pensare alle clexografie, che sono di solito divise in due metà simmetriche, no, per effetto del ripiegamento del foglio su cui è stata fatta cadere e scivolare la macchia di inchiostro. Quindi la seconda parte, abbiamo un'analogia, le gocce di pioggia che passano attraverso il fascio di luce del fanale, che diventano fili, che vengono cuciti utilizzando il fanale come ago e il fascio di luce come cruna. Va detto che Govoni ama molto applicare analogie di questo tipo alle gocce di pioggia, alla pioggia che cade, altrove, sempre nell'inaugurazione della primavera, le gocce di pioggia sono paragonate a proiettili, sparati da una mitragliatrice. E poi assistiamo a un fenomeno ancora più marcato nel distico finale, caratterizzato da una struttura a chiasmo, in cui i due poli, i due oggetti della poesia, fanale e fisarmonica, si trasfondono analogicamente in virtù di un legame intuito dal poeta, annullando i propri contorni consueti e diventando quasi un'unica realtà, o se si vuole, due macchie di realtà confuse tra loro. E si noti come nel processo si assiste a uno scambio tra piano visivo e sonoro, per cui il finale, il fanale diventa anche strumento musicale, la fisarmonica diventa fonte di luce. Sono definibili questi come testi futuristi, in parte sì per il modo in cui sono costruiti, attraverso analogie bizzarre e particolari, ma faccio notare solo un piccolo dettaglio. Ecco, ad esempio, in questo caso a Marinetti non sarebbe piaciuto quel come, che leggiamo all'inizio del penultimo verso, perché insomma Marinetti riteneva che le analogie dovessero essere espresse in maniera diretta, senza le formule verbali del come, sembra, somiglia, e questo passaggio, secondo Marinetti, doveva sempre rimanere implicito e mai esplicito. A ben guardare però le singole immagini hanno anche, insomma, hanno ben poco di futurista, mi riferisco appunto alle immagini utilizzate nelle poesie, e appaiono semmai non solo familiari al repertorio govoniano, frequente anche nell'inaugurazione della primavera, il motivo del mendicante che eleva la sua supplica sotto una finestra, e poi il tema del fanale, che ricorre in Govoni con una frequenza quasi ossessiva, sempre in immagini di intonazione malinconica, ed è un tema, diciamo, un motivo che Govoni riprende da Rodenbach, quindi un poeta belga simbolista di fine ottocento, che è uno dei suoi modelli principali, almeno nella fase iniziale della sua attività poetica. E soprattutto nel fanale l'organetto prevale poi un'intonazione malinconica che ricorda semmai le atmosfere crepuscolari, e i crepuscolari, non mi soffermo qui su ogni, su tutte le osservazioni che si potrebbero fare, ma sono probabilmente qui citati, quel macroglossa, no, macroglossa inteso come farfalla, come specie di farfalla, è probabilmente un rimando all'epistole entomologiche di Gozzano. Comunque una citazione, un prelievo da quel testo. Siamo quindi in quel difficile equilibrio tra crepuscolarismo e futurismo, o comunque in quel futurismo molto sui generi, settero d'osso, che come dicevo prima caratterizza la poesia di Govoni in questa fase. Questa idea della clexografia poetica come disegno bizzarro in versi e come deformazione del reale, ricompare, mi sembra però ancora più estremizzata, enfatizzata, nei testi pubblicati non su Riviera Ligure, ma su Lacerba. Ecco, siamo qui nell'aprile del 15, quasi un anno dopo, su questo numero di Lacerba Govoni pubblica dieci testi, nessuno di questi verrà poi recuperato in volume, tra l'altro l'inaugurazione della primavera esce proprio nelle settimane in cui vengono pubblicati questi testi, e qui troviamo appunto delle analogie ancora più estreme e anche mi sembra decisamente più giocose, meno segnate da corde melanconiche. Ad esempio leggiamo questo Milano nella pioggia. è come un'immensa insalata con indivia di giardini, melanzane lucide di carrozze, carote di tram, pomodori e peperoni d'automobili, e patate lesse e uova sode tagliate di case, nell'aceto della pioggia con spruzzature di sale ed elettricità. Analogie più estreme, immagini di sapore più marcatamente futurista, ancora vedete anche qui la pioggia negli ultimi due versi, aceto con spruzzature di sale ed elettricità, quindi l'elettricità riferita a un fenomeno naturale, e del resto questo non ci stupisce in quanto la Cerba è la più, tra le riviste appunto su cui Govoni pubblica questi testi, è quella più direttamente legata all'ambiente del futurismo. E questo è un altro ancora più breve testo, che però mi sembra nella sua particolarità significativa, appunto Padova, tra queste dieci poesie, ve ne sono diverse, dedicate appunto a varie città, un curioso parco aerostatico in mezzo a una città, con quattro o cinque palloni di talco che stanno per lanciarsi in cielo. Qui, come anche nell'esempio precedente, l'esito di clexografia verbale mi pare ancora più evidente. viene taciuto l'elemento di realtà di partenza, o comunque viene evocato nel titolo, come nel caso precedente, e si propongono immagini e forme che il lettore deve ricomporre per individuare il soggetto rappresentato, in questo secondo caso la Basilica del Santo a Padova, dove i palloni di talco sono probabilmente in riferimento alle cupole. Siamo quasi ad esiti, se non surrealisti, prossimi al surrealismo. Quello di surrealismo è un'etichetta che è stata proposta per Govoni, ad esempio da uno studioso come Edoardo Sanguinetti, anche se è stata ed è anche oggetto di discussione. E vorrei fare dalla Cerba un solo altro esempio. Altra poesia molto breve, Alba, suonano le campane elastiche, cantano i galli rossi. Sembra che i campanari suonino i galli e che le campane cantino a distesa dai pollai. Dove di nuovo nel distico finale vediamo quel meccanismo di intreccio, ma quasi proprio di gemellaggio, di fusione tra due realtà diverse, in questo caso due suoni, che appunto si mescolano e si confondono come era già avvenuto nel distico finale del fanale Lorganetto. Ora resterebbe da vedere il secondo gruppo di testi che vengono pubblicati su Riviera nel febbraio del 2015. Ci sono tra l'altro testi anche un pochettino diversi da questi, dove forse è anche un pochettino più difficile ricostruire il perché della scelta di questa definizione di clexografia. Ovviamente anche qui, siccome ho già, insomma, l'ora è tarda, non voglio abusare troppo del vostro tempo, però per darvi semplicemente una rapida idea di questi testi, che mi sembrano poesie che abbastanza compattamente sono accomunate da temi poetici e metaletterari. Qui ad esempio, in questo testo, anche senza leggerlo, è evidente, no? Già da questa anafora insistita del verbo piove, una evidente allusione alla pioggia nel pineto di D'Annunzio, direi non critico-parodica, al più ironica e che indica soprattutto la volontà di attuare una sorta di riscrittura crepuscolare dell'originale di D'Annunzio. Stavolta, infatti, la pioggia cade su uno scenario affollato di oggetti poetici presi di peso dal repertorio di Gozzano Corazzini, ma anche e soprattutto dello stesso Govoni. C'è il suono dell'Ave Maria, quindi le campane che a sera richiamano i fedeli alla preghiera per la Vergine, che giunge da montagne lontane, immagine frequentissima nei crepuscolari e molto cara a Govoni. Il suono stesso delle campane, le ghirlande del cimitero, il mendicante coperto da un ombrello, il vagabondo che suona l'organetto, tutti elementi per cui anche, limitandoci alla stessa inaugurazione della primavera, potremmo trovare molti riscontri. Ed è facile scorgere sia nello scenario più dolce dei primi versi, che sia in quello più melanconico degli ultimi, una netta distanza dal vitalistico e panico Pineto D'Annunziano. Grazie. Ecco, benissimo. Grazie dunque anche a Matteo Navone. e credo che il nostro compito sia quello di fare una breve interruzione, un breve intervallo, riservando poi uno spazio per la discussione a chiusura di tutte le relazioni di questo pomeriggio. Riprendiamo allora i lavori con la relazione di Leo Lecci, anche lui dell'Università di Genova, anche se è Sanremese, naturalmente. È bene, sì. Il titolo della sua relazione è e modelli di grafica modernista nella riviera Ligure e nella comunicazione pubblicitaria dell'olio sasso. Prego. Grazie. Grazie a tutti. Gli ultimi hanno sempre anche il compito di non gravare troppo sulla giornata intensa di studi, quindi cercherò di stare nei tempi, anche per poi lasciare lo spazio all'ultimo relatore. Comincerei subito a dirvi che il mio intervento deve molto al libro di Rossana Bossaglia, perlomeno nel titolo. Una delle più qualificate storiche dell'arte che abbia insegnato nel nostro Ateneo a Genova e proprio quando è insegnata a Genova si era occupata di riviera Ligure, quindi il suo studio è proprio pionieristico, parlando di un modello di grafica Liberty e così come pionieristi c'erano stati i suoi studi su Liberty che conosciamo tutti bene. Il libro esce nell'85, quindi a 100 anni dalla nascita di Riviera e lo seguirà poi un altro altrettanto importante libro di Maria Novaro e Pino Boero, ma credo che a Rossana Bossaglia si deve veramente un atteggiamento pionieristico in questi studi, nello studio su riviera Ligure, perché prima un affondo così sulla grafica modernista e su riviera Ligure come modello di grafica modernista non era stato ancora tentato. Certo gli sono utili tutti gli studi precedenti, quelli di Pino Boero e sulle lettere di Riviera Ligure, eccetera, però effettivamente Riviera Ligure come unione di studi liberali e felici commerci, come la definì Pascoli, mi piace ricordarlo, non era stato ancora affrontato. Soprattutto Rossana Bossaglia si rende conto che davvero Riviera Ligure è il primo house organ italiano. E io vorrei dire anche di più, secondo me è anche il primo esempio di Corporate Image, proprio perché non ci si dovrebbe soffermare solo sulla grafica, che comunque vedremo ovviamente, e sulle illustrazioni ricchissime, importantissime, Kinerk, Nomellini, lo sappiamo, su Riviera Ligure, ma anche su tutta la pubblicità dell'olio sasso, gli armanacchi, i manifesti, e così via. Quello che costituisce quello che si chiama oggi Corporate Image. Quindi io proporrei davvero che il primo esempio diciamo compiuto di Corporate Image sia veramente Riviera Ligure. E se pensiamo che noi studiamo la Corporate Image partendo da Behrens e l'Aeghe, in realtà, che è del 12, tutta la vicenda Behrens-Aeghe, Riviera Ligure è veramente un precedente molto interessante. E Pascoli l'aveva già capito con questa frase che scrive a Mario Novaro. è una frase appunto che ci dà l'idea di questo foglio commerciale che Rossana Bossalia giustamente chiama una rivistina dal piglio grafico modernissimo e atta ad ospitare interventi letterari inediti che diventa veramente un foglio importante a livello letterario ma davvero anche grafico. Ecco Mario Novaro, ma vado un po' più veloce per evitare appunto di portare via troppo tempo, e in pochi anni diventa questa rivistina dal piglio grafico così moderno. Queste sono le prime, alcune delle prime testate e sono testate del 1896, non ne conosciamo l'autore, è chiaro che sono cose ancora molto tradizionali, di un verismo tradizionale, Oneglia, la città dove Riviera Ligure nasce e come sappiamo è ancora un foglio, solo un foglio pubblicitario per l'olio sasso. Ma già successivamente con la terza testata che è quella alla vostra destra, scusate, ho sempre dei problemi tra destra e sinistra, difficilissimi, già Riccardo Galli ci annuncia una inversione di rotta, come dire, anzi, una direzione verso una, certo, ancora una testata di carattere marinaro, quindi di carattere veristico. Ma vedete il ramoscello d'olivo, forse posso anche usare, no, non posso usarlo, il mouse per far vedere, cioè, pazienza, sì, sì, eccolo, vedete il ramoscello d'olivo stilizzato che già si orienta verso elementi secessionisti, Rosanna Bossale dice che poteva trovare benissimo su Emporium, è interessante anche il fatto che Riviera Ligure nasca allo stesso anno in cui nasce Emporium, la rivista a cui ci riferiamo per la, come dire, la diffusione del Liberty, meglio, del modernismo in Italia. Sempre a Galli, a Riccardo Galli, si devono queste, quest'ulteriore testata, direi la quarta e la quinta, e mi piace ricordare questa partizione geometrica molto interessante, perché ricorda un po' ambienti secessionisti, comunque ambienti di pulizia formale e di rigore formale che ci rimandano un po' al Nord Europa o al Centro Europa meglio. Ovviamente la testata successiva è quella che tutti conosciamo, quella di Kinerk, quella così importante e così colpo di frusta, come la definisce Bossaglia e tra l'altro mi piace anche ricordare che è stata rirecuperata dopo che Riviera Ligure perde tutto il suo carattere grafico o illustrativo dalla Fondazione Novaro per la rivista quadrimestale che caratterizza l'attività della Fondazione. Ma tornando al tempo in cui 1901 Kinerk crea questa testata, eccola qui, il carattere internazionale modernista ce lo dice lo stesso Kinerk, lo testimonia lo stesso Kinerk in una lettera a Mario Novaro dove dice un colore cosiddetto guasto come si vedono per le riviste inglesi e tedesche, un bel tono verde oliva guasto oppure un rosso rame. Quindi il riferimento è esplicito e non a caso Kinerk espone la Libra Estetica a Bruxelles, espone a Monaco, è in contatto con l'ambiente eccessionista miteleuropeo e quindi è chiaro che la sua cultura modernista non poteva non influenzare un modernista voglio dire con altra accezione del termine come Mario Novaro che ha studiato a filosofia Berlino che quindi ha una cultura anche lui miteleuropea e in altre lettere Kinerk citerà Jugend citerà Novissima citerà le riviste importanti del Liberty e del modernismo per meglio dire. Ovvio Rossana Bossaglia ci suggerisce il colpo di frusta di Tropon del Tropon di Van de Velde io ho trovato anche un'affinità ovviamente più tardo ma con questo manifesto di Aleardo Terzi mi sembra che ci siano delle vicinanze in questa cornice che inquadra questa bella fanciulla per attirare l'attenzione su questo hotel genovese è più tardo evidentemente non è detto che Aleardo Terzi abbia visto o si sia ispirato direttamente alla testata di Riviera Ligure ma per darvi l'idea di un gusto che era in quegli anni che in quegli anni prendeva ormai campo anche in Italia e anzi però io proporrei invece un confronto con questa pubblicità peraltro di un olio l'olio di Delft credo dalle pochissime anzi nulle conoscenze di olandese ma tradotto in inglese ho trovato che è olio per insalata di vero? mi piace un po' mettere a confronto tra l'altro è del 94 un anno prima che nasca Riviera Ligure quindi ci sono possono esserci stati dei contatti tra Kiner che ovviamente è questo ambiente miteleuropeo che è molto importante e molto interessante ovviamente avete il manifesto Locandina alla vostra destra e poi il disegno preparatorio Kiner qui solo un accenno perché non abbiamo tanto tempo ma è interessante anche notare come Riviera Ligure all'arrivo di Kiner diventi una rivista illustrata con molta attenzione al rapporto tra testo e immagine Kiner che vi lette alla vostra sinistra alla vostra destra invece ancora Riccardo Galli per uno interessante un interessante esempio di letteratura su Riviera Ligure perché è il primo racconto di Grazia dell'Edda è il primo racconto di Grazia dell'Edda e ovviamente è interessante e qui Paola Palottino ci potrebbe raccontare dell'uso e la manipolazione delle immagini perché Kiner che è questo Violette che è ancora di nuovo di stampo evidentemente tradizionale un po' anche olografico se vogliamo Violette è un racconto di Yolanda che è una ormai credo sconosciuta signora che scrive che scriveva al tempo si chiamava Marquis Plattis Maria Marquis Plattis e invece vedete che è una ripresa da un da una illustrazione che Kiner che aveva già utilizzato in maniera diversa appunto in manipolazione caldattiva Paola dico bene forse secondo il tuo libro sull'Atlanta delle Immagini e aveva già utilizzato come vedete su Milano Elegante io credo qui altri due esempi di Kinerk due illustrazioni ovviamente molto belle piene di luce di spiccatamente Liberty Sigantiniana anche un po' Previattiane se vogliamo no? Previati più sulla sinistra sulla destra scusate che illustrano Pastonchi che illustrano la poesia La Fontana Morta e di Lipparini e quindi i grandi poeti che lavorano su Riviera Ligure ma quello che mi interessa notare è che questo di nuovo per dare l'idea tra l'altro ho trovato anche dei dipinti esistono anche dei dipinti di Kinerk divisionisti eseguiti in Liguria quindi probabilmente anche l'incontro con Omellini su Riviera Ligure come dire crea un interessante rapporto a livello divisionista e nello stesso numero in cui si trova Violette l'illustrazione di Kinerk che abbiamo visto Kinerk illustra una poesia di Riccardo di Ceccardo Roccattagliata Ceccardi che abbiamo appena citato nei precedenti interventi e quindi tra l'altro voi la rivista la vedete così la vedete in questo modo cioè con queste due illustrazioni accostate quindi un'illustrazione più tradizionale ovviamente diceva anche abbastanza leografica e quindi di stampo realista o verista per meglio dire e questa invece è altra illustrazione che sicuramente a mio avviso è da mettere un po' in relazione al proprio l'ambiente secessionista mittele europeo è chiaro non voglio creare un paragone stretto tra Kinerk e Coloman Moser ci mancherebbe altro Kinerk che è evidentemente molto più realista molto più attenta ai particolari le ombreggiature e quant'altro però evidentemente mi sembra che certi raffronti si possano fare e il fatto che queste due immagini convivano mi sembra anche interessante sulla attenzione che ha Kinerk nell'illustrare appunto un racconto per signorine direi le violette che sono importanti perché vengono messe nei cassetti racconta un po' queste cose qua Iolanda e invece una poesia più simbolista come le poesie simboliste erano quelle di Ceccardo però poi alla fine in realtà se andiamo a vedere questi giochi gestaltici per intenderci questi giochi pieno vuoto in superficie sfondo positivo negativo tipici di questa corrente modernista diciamo che Kinerk li riusa li usa per esempio quando realizza nel 1899 la copertina di questa guida Genova alla Riviera che pubblicano appunto a Milano ma insomma è una guida turistica quindi in realtà poi se andiamo a vedere nella sua completezza la figura di Kinerk come figura internazionale vedete Cocoricò o quell'altra sui Sorrisi è stata pubblicata su Novissima quindi c'è un rapporto con queste immagini chiamate all'epoca si chiamavano di macchia ritratto di macchia le chiamavano in effetti persiste quindi credo che forse anche questo insistere su un realismo più evidente rispetto a una grafica di stampo secessionista sia una scelta poi anche magari della redazione di Riviera Ligure ovviamente queste testine le trovate dappertutto insomma io vi faccio questi esempi molto veloci quello è un palazzo genovese ma potreste trovare la Parigia lubiana a Praga come l'immagine che sta a fianco è per esempio un prontuario di decorazioni scultore già fabbricate già pronte per gli scultori pragesi pubblicato dove? A Vienna da Schroll nel 6 quindi questa internazionalità evidentemente di Kiner non è misteriosa come dire questo indirizzo modernista di Riviera Ligure è singolare lo dice bene la bossaglia ma singolare vuol dire unico vuol dire eccezionale ma non appunto misterioso non così strambo ancora sempre Kiner che su Riviera Ligure questo è un disegno che si chiama Visioni che non è legato a alcuna poesia o racconto a volte appunto a piena pagina negli anni centrali della grafica modernista di Riviera si trovano e è vero che giustamente è stato messo in relazione al ritratto di Rima Grammatica e poi alla Beatrice Dantesca con cui lavora creata per gli Alinari a cui lavorano tra l'altro altri artisti di Riviera non Mellini stesso eccetera e quindi a sua volta con quel ritratto di Klimt che vedete questo ritratto di Klimt che appare su Versacrum è vero però io proporrei una forse più stretta coincidenza ma anche la bossaglia cioè con Knopf e con le visioni di Knopf tra l'altro Knopf arriva alla Biennale nel 97 continuerà a esporvi fino al 20 Kinerk anche si espone spesso alla Biennale ma non c'era bisogno di andare alla Biennale perché ho detto prima Kinerk esponeva la Libre Settigri Bruxelles quindi conosceva bene il simbolismo belga ma non c'era poi bisogno di andare a Bruxelles perché le riviste ovviamente giravano e questo volto di Knopf che apparso su Pan mi sembra di nuovo un rapporto intenso un rapporto stretto con le immagini ideate da Kinerk e poi se vogliamo vedere il ritratto della sorella che vedete al centro del 96 guarda caso è proprio del 96 come il ritratto di Marguerite Landuit e così come ricorda il ritratto della sorella di Knopf che ormai abbiamo visto fino alla nausea in tutte le copertine dei libri di Emily Dickinson ogni volta che appunto si pubblicano il libro di Emily Dickinson arriva il ritratto della sorella di Knopf in bianco mi sembra che ci siano certo poi Kinerk che è più post macchiaiolo già verso un certo divisionismo certo che le atmosfere di Knopf sono ben altro ma il confronto mi sembra abbastanza calzante così ancora di più mi sembra calzante il confronto con questa illustrazione realizzata nel 2 guarda proprio gli anni in cui lavora per il Viraligure per un romanzo di cui veramente non conosco nulla che è una nidiata di Sofia Rosalbini forse i miei colleghi letterati mi diranno di più altre cose ve le faccio scorrere velocemente ma per darvi l'idea di questo simbolismo internazionale molto interessante citava prima Previati appunto Segantini ci sono anche dei paesaggi anche questo un paesaggio che non viene pubblicato in relazione a poesie tra l'altro grazie alla Fondazione Novara e a tutto il suo appoggio alla nostra iniziativa al gruppo di Veronica Pesce abbiamo consultato archivio più volte e abbiamo scusate ho sbagliato e abbiamo il disegno originale abbiamo potuto consultare e metterli a confronto con il disegno poi pubblicato con l'incisione e ancora un paesaggio simbolista di Kinerk ma il vero protagonista del paesaggio su Riviera Ligure è senz'altro Plimino Mellini che ormai è a Genova da dieci anni circa quando lavora a Riviera Ligure perché si è trasferito nel 90 ha dato vita a un cenacolo di Stur ha dato vita a un cenacolo di studiosi e di intellettuali svecchiando la scuola pittorica genovese che era ancora indirizzata verso un realismo i famosi grigi in realtà grazie a Nomellini si orienta verso un simbolismo di vaglia anche il simbolismo di Sinfonia della Luna per intenderci quello che nel 99 verrà acquistato dal municipio di Venezia per Capesaro per il Museo della Galleria Internazionale d'Arte Moderna quindi insomma è un'importante figura nel panorama artistico Ligure di fino a 800 Plimino Nomellini e il suo rapporto con Riviera è veramente molto interessante perché è un rapporto che nasce tra l'altro anche attraverso la poesia con Pascoli ecco l'inno all'olivo di Pascoli illustrato da Nomellini che giustamente Bostaglia definì un'immagine vibrante perché da poi tutta la come dire l'idea di un simbolismo Bostaglia giustamente dice come quello di Bistolfi di un simbolismo panico di un simbolismo più spirituale più spiritualistico anche forse più esoterico non so che Nomellini coltivava l'inno all'olivo chiaramente ripeto è di Pascoli questa musa questa figura allegorica ovviamente è di Nomellini una natura sempre rigogliosa veramente con afflato panico avete di nuovo a confronto l'incisione e il disegno disegni che spesso sono acquerellati rialzati con la biacca perché inizialmente chiedevano Riviera Ligure chiede disegni al tratto ma poi chiede anche disegni acquerellati acquerelli e disegni con interventi a tempera o rialzi luminosi a biacca molto interessante perché ci dice anche di quanto siano cambiati in Riviera Ligure le tecniche di stampa e quanto Mario Novaro tenesse a creare quella rivistina appunto dal taglio grafico così moderno a un tramonto di pastonchi di nuovo bellissima immagine di Nomellini di nuovo il ghirigorare dice Bossaglia di Nomellini interessantissimo ecco dicevo i disegni il disegno di nuovo incisione di cui vi parlavo rialzati a biacca anche qua forte come dire valenza simbolista evidentemente in questa mare in tempesta che in realtà qui è il contrario non è Nomellini che illustra una poesia ma è una poesia che nasce per ispirazione da questo disegno è il fico di Cividini mi sembra che Guelfo Cividini che invia questa poesia alla redazione dicendo vi invio disegno e poesia perché vorrei che fossero unite perché questo disegno dell'amico Nomellini mi ha ispirato così altre questa è chiaramente ispirata a Dante sempre nel lavoro a Linari passo velocemente sugli altri importanti illustratori in questo caso genovese il D'Albertis con cui c'è una relazione molto interessante con Mario Novaro però passo veloce perché poi rubo troppo tempo lasciamo agli atti giusto mi faceva piacere farvi notare questa svolta espressionista facci vedere eh ma Paola cara non voglio rubarvi troppo tempo altri elementi disegno incisione di D'Albertis in questo caso di nuovo molto plastica evidentemente D'Alberti uno scultore no io sono contento che vi interessi ci mancherebbe ancora il frutto è ispirata a una poesia sulla morte di un bambino e poi il riposo è ispirata a Saffo di nuovo vabbè chiaramente questo plasticismo tipico degli scultori però è interessante anche la svolta un po' espressionista con D'Albertis queste ascendenze che io trovo correggetemi se sbaglio un po' fondstucchiane quindi evidentemente no però in realtà parlano di svolta espressionista ma in realtà a mio avviso c'è ancora fondstucch piuttosto la svolta espressionista guarda che veramente si trova così e io trovo che sia più fondstucch che espressionismo mentre più espressionista ovviamente Carena che è un altro che lavora illustratore interessantissimo questa è la guerra che illustra lavora su Riviera Ligure ma ovviamente c'è anche tutto il discorso delle spiccatissime molto liberty spiccatamente liberty testatine capilettera qui vedete gli originali e grazie alla fondazione Novaro che li ha messi a disposizione e le loro utilizzazioni nella rivista li scorriamo un po' velocemente per farvi vedere di nuovo originali eccetera la linea nastro di Kinerk queste sono tutte di Kinerk capilettere risolti illustrati decorativi questi sono tra l'altro gli originali e fine fine l'ho messo apposta perché ovviamente poi verso il 5 problemi economici io non ci credo tanto secondo me non sono tanto problemi economici perché è vero potrebbero essere problemi economici ma in realtà il lavoro di Riviera Ligure continua o l'attività dei grafici Riviera Ligure continua sul piano più pubblicitario con i calendarietti con le etichette con le bolle d'accompagnamento insomma con un sacco di materiale pubblicitario che ripeto a mio avviso ne fanno il primo esempio di corporate image in Italia e direi in Europa e mi piace però anche dire che quando l'ultima testata questa viene pubblicata e la Riviera Ligure perde tutto il suo aspetto illustrativo comunque ci sia una riminiscenza secessionista guardate il rame il rosso rame e il verde oliva delle riviste moderne moderniste comunque rimane così come rimane quel quadrato quella pulizia formale non credo appunto che sia solo un problema economico ci sarà stato evidentemente ma dopo su questa testata appare poi il sottotitolo rivista mensile di poesia pura io credo che poi Mario Novaro con i suoi interessi filosofico letterari abbia voluto invece non distrarre più il lettore con tra virgolette registrare con immagini e lasciare il corpus immagini alla pubblicità e qui veramente fare una rivista essenzialmente letteraria essenzialmente anche filosofica perché poi anche trova anche modo di pubblicare qualche testo di questo genere però questo verde e questo rosso mi dicono che mi suggeriscono ancora di pensare a quella lettera di Kinerk è qui che entra invece il gioco la pubblicità e come di nuovo sia molto interessante non dimenticare questa forte componente dell'esperienza Riviera Ligure e ogni volta che vedo questo manifesto di Pino Mellini che guida tutta l'immagine iconografica della pubblicità per Riviera Ligure mi viene in mente su Versacrum il manifesto può essere ora quella che le statue hanno rappresentato in Grecia no non è una bestemmia non è più tempo di eroi ma di bisogni quindi il socialismo della bellezza morrissiano insomma tutte le componenti del modernismo europeo e credo che appunto questa frase su Versacrum sia anche la chiave per spiegare un po' questa attenzione che Mario Novaro ha per la pubblicità e per la grafica pubblicitaria della sua ditta ovviamente ispirata a quel disegno che illustrava l'inno all'olivo di Pascoli ovviamente questi sono altri esempi questo è invece di Kiner che è la bolla d'accompagnamento e i calendarietti di Nomellini sono quei calendarietti appunto che vedete ancora nel tre ma poi fino all'undici ci saranno pubblicati e dati in omaggio credo no Maria erano dati in omaggio ai clienti dell'olio sasso e queste immagini di Nomellini sono molto interessanti intanto perché ci ricordano questo simbolismo naturalistico nomelliniano questo afflato panico di cui parla giustamente Bossaglia rispetto a per esempio Kiner ma ci sono anche dei confronti interessanti che si possono fare guardate per esempio questo che non è stato mai proposto piccola cosa ovviamente ma è interessante perché spesso questo manifesto di Cappiello viene riprodotto ma mai è messo per esempio in relazione a questa immagine non melliniana e ovviamente come dire c'è un rapporto in te ovvio perché tutti e due tra l'altro sono di Livorno quindi c'è c'è un rapporto anche voglio dire di conoscenza toscani della stessa città ovvio che il Cappiello aveva già usato queste immagini per le sue copertine per frufru per esempio come vedete e dietro ci sta Toulouse Lotrec ovviamente però questi confronti mi siano interessanti ancora sempre questo simbolismo panico nomelliniano per Riviera Ligure mi viene in mente per esempio tanto per farvi degli esempi così legati alla pittura di nomellini e la bossaio dice attenzione nomellini è un pittore è un rispetto a Kiner che è più grafico che è più illustratore mi viene in mente appunto questo bel dipinto la colonna di fumo o anche il fuoco che è proprio degli anni in cui lavora per Riviera Ligure e ancora queste due immagini del calendarietto del tre perché mi premeva farvi vedere anche questo mi sembra il rapporto molto diretto di nuovo per capire di nuovo come questa modelli se Bossaglia parla di Riviera Ligure come modello di grafica modernista noi possiamo parlare di modelli di grafica modernista in Riviera Ligure e nella pubblicità appunto dell'olio sasso guardate ancora nell'undici Kiner che sta ancora lavorando appunto per Riviera Ligure quindi questa perdita dell'illustrazione viene un po' a bloccare come dire a rendere un po' monco il discorso se non si prende in considerazione tutta la parte pubblicitaria perché sembra che sia finito lì il rapporto con l'arte e con la cultura visiva in realtà no e qui dietro c'è ancora Knopf evidentemente tardo ormai questo rapporto anche il lauro che vedete utilizzato come pianta mi sembra abbastanza evidente concludo chiudendo un po' un cerchio perché Pascoli e Nobellini si conoscono sulle pagine di Riviera Ligure Nobellini illustrerà i canti del risorgimento e Pascoli Nobellini e Bistolfi l'altro grande artista simbolista spiritualista che lo chiama appunto più spirituale italiano si incontrano a Sanremo Nobellini realizzerà questo manifesto per l'inaugurazione del monumento a Garibaldi di Bistolfi e come vedete l'intervento di Pascoli all'inaugurazione in realtà da Sanremese devo confessarvi che non c'è mai stato perché Pascoli da Forfè non viene questo ci dicono almeno le cronache cittadine perché ovviamente io non c'ero ma pur essendo di lì ma è interessante come si chiude a questo cerchio insomma questi tre grandi artisti si incontrino in questo rincontri o continuino a lavorare in questa occasione e ricordo appunto come riferimento iconografico questo il fregio alla sala del sogno di Chini che l'anno prima qui siamo nell'otto qui siamo nel sette era stato realizzato da Chini insieme a Nomellini per la famosa sala versione della Biennale non finirà anche se Nomellini è rientrato in Toscana non è più Ligure dal 2 io sto pubblicando una monografia sugli artisti Ligure della Biennale di Venezia quindi scartabello roba la Biennale ho trovato una lettera di Nomellini a Fradeletto il segretario della Biennale che nel 2 gli dice basta non voglio più essere considerato Ligure lei mi deve considerare Toscano e voglio esporre nella sala Toscana perché prima esponeva con i Liguri però non finisce questo rapporto perché Nomellini continuerà a lavorare in Liguria con questo interessante manifesto è interessante dire ovviamente che siamo ormai in un simbolismo d'Annunziano Sartoriano De Carolisiano Neo Michelangelesco evidentemente che ricorda che ci ricorda anche questo fregio di Chini per la Sala del Sogno e D'Annunzio inaugurerà il monumento a Garibaldi di Eugenio Baroni a Genova a Genova IV Nomellini creerà questo bel manifesto rutilante come rutilante è stato il discorso di D'Annunzio all'inaugurazione quindi ritorna a questa cultura e dopo poco noi entreremo in guerra e mi sembrano argomenti di stretta ancora attualità grazie bene molto vivace anche questa relazione e adesso passiamo ad Andrea Lanzola Andrea Lanzola dell'Università di Genova su Mario Novaro e la corrispondenza con gli illustratori della Riviera Ligure per un possibile dialogo fra testi e immagini grazie grazie molte io chiedo soltanto un aiuto per ritornare sulla mia cartella perché non so esattamente dove andare preferisco non creare problematiche intanto faccio una piccola tranquilli io preferisco sempre lasciare anche di competenza queste cose e chiedo scusa per il breve inconveniente intanto faccio una piccola una brevissima introduzione che ritorna proprio di un paio di minuti per dare il senso al mio intervento abbiamo visto fino a questo momento sia per quanto riguarda le testate di cui si è discusso stamattina che in particolare per la Riviera Ligure di una manifestazione che coinvolge artisticamente riviste e quindi abbiamo visto autori abbiamo visto opere abbiamo visto stili grafici perfetto grazie molte e il mio intervento è un po' quello di cercare di tentare forse di scavare nelle pieghe di quello che potrebbe essere diciamo così un un altro intendimento ossia quanto a livello della Riviera Ligure fa capo realmente a colui che fu l'artefice della Riviera Ligure così come lo conosciamo ossia Mario Novaro Mario Novaro non è un uomo che si occupa inizialmente di marketing non è un uomo che si occupa di denaro di spedizioni è un filosofo ed è un filosofo che resta filosofo e la sua rivista La Riviera Ligure perché è la sua rivista in qualche modo resta e resterà sempre con un occhio puntato con uno zoom puntato su quello che è il contenuto letterario noi sappiamo che Novaro si laurea in filosofia a Berlino che passa molti anni a Berlino e che è costretto a ritornare appunto a casa perché il padre Agostino lo chiama gli chiede aiuto per la ditta e quindi il suo ritorno in qualche modo sigla potremmo dire un nuovo sodalizio e anche una nuova idea di lavoro quello di occuparsi non più soltanto di poesia e di filosofia ma soprattutto di occuparsi di marketing e quindi di organizzazione di una spedizione sempre crescente quindi il problema economico è comunque ingente però che cosa succede? Succede che la passione della filosofia e della letteratura per Mario non è mai distinta da quella che è l'attività della rivista quindi fondamentalmente lui cerca nell'ambito dell'evoluzione della testata di far collimare gli ambiti del proprio desiderio personale che non può spegnere e quello delle esigenze sempre crescenti di una rivista che si deve rinnovare e che si rinnova proprio in quelli che la Vossaglia definì come anni d'oro quindi tra il 1900 e il 1904 particolarmente anno in cui Mario Novaro assume direttamente la direzione appunto dell'intera struttura della riviera Ligure e della ditta Sasso prima la corrispondenza ce lo prova però è già in azione quindi è già lui che tiene le fila con autori con poeti con illustratori Angelo Silvio gli dà una mano ma Angelo Silvio scrivendo a Bissolati dice Mario è molto geloso del suo lavoro quindi io non posso fare granché sono gli anni cruciali in cui tra il 1901 il 1903 particolarmente le testate cambiano vertiginosamente lo abbiamo visto prima con Leo Lecci passiamo da una documentazione tipo fotografico che poi in qualche modo si sviluppa anche graficamente con i disegni pensiamo soltanto ad esempio ai contributi di Nomellini per l'articolo di Sestre Levante dei primi dell'anno che sostituisce in qualche modo abilmente la fotografia fino ad arrivare alla meravigliosa immagine di Yolanda un'immagine che a me ha dato immediatamente una sensazione la prima quella di una grande iride inchiusura tipica dei film dell'inizio del secolo è quasi voluta come inquadratura richiama molto il cinema di quel tempo o a me trasmette molto questa impressione ed è in perfetta corrispondenza con le linee che siglano in qualche modo il testo corrispondente una mano femminile nell'accludere delle violette in una lettera all'amato scriveva malinconica e amorosa ti mando delle violette ma non sarò la prima chissà quante donne te ne hanno donate prima di me ed era vero ebbene che importa le parole che esprimono i più dolci sentimenti i sentimenti più sinceri non sono forse state dette e ridette non sono forse sempre quelle eppure non sembrano meno paradisiache a chi le ascolta quindi dal passaggio alla descrizione alla rivista di servizio potremmo dire per illustrare le bellezze della Liguria la rivista e qui siamo nel marzo del 1901 il numero 28 è già passata ad un corredo fedele del testo in questione il primo orientamento che Novaro dà è quello di corredare i testi che arrivano tant'è vero che poco più avanti appunto parlando addirittura con Kiner che scrive a Novaro nel luglio dell'uno dice chiaramente l'idea di far consistere l'illustrazione nel semplice disegno del titolo oppure in un disegno offreggio ai lati della composizione e la provo ma soltanto per quella poesia o prosa dalla quale non si potesse trarre una bella illustrazione quindi è chiaro che il contesto è quello di fornire come prima istanza un commento al testo che viene dato ed è una disposizione forte perché ci sono dei contributi che vengono spediti ai grafici e questi contributi devono poi essere rimandati alla rivista e devono contemperare le esigenze appunto di quella che è una rivista anche definibile per famiglie in qualche modo quindi che rimane nell'immaginario sia dei più grandi che anche dei più piccini ma l'evoluzione si fa presto diciamo così trasformata potremmo dire in qualche modo in pochissimo tempo e su questo la documentazione epistolare è molto chiara si passa dalle grandi collaborazioni come abbiamo detto prima l'Inno all'olivo il grande Pascoli Nomellini che sono già le glorie della testata e che restano fino alla fine tra i maggiori collaboratori stimolano tuttavia diciamo così l'animo di Novaro in un'altra direzione a un certo punto Novaro verso la metà dell'uno in una lettera molto particolare dice una cosa significativa dice praticamente basta con quello che deve essere il netto la netta relazione tra immagine e testo è come se lui percepisse in qualche modo un'esigenza ad un certo tipo quella di non dare più solo immagini per quelle che sono i testi ma di dare immagini a sé stanti quasi come se lui volesse in qualche modo codificare l'arte per l'arte e non più l'arte soltanto concepita come legate ai testi lascio agli atti e lascio anche a quanto ha già detto Leo Lecci prima di me le bellissime immagini che abbiamo già potuto vedere e passo al punto che mi interessa maggiormente e che è proprio questo scusate un momento recupero la citazione perché è piuttosto interessante da questo punto di vista innanzitutto nel 1901 alla fine del 1901 c'è anche la codificazione e questo lo dico perché soltanto come informazione aggiuntiva della testata della copertina diciamo della riviera Ligure con il fregio di Kinner che resterà e poi fino alla grande trasformazione degli ultimissimi anni quando poi la rivista si avvia a conclusione ma questa decisione di cambiare l'esigenza dal rapporto testo-immagine è immediatamente seguita e motivata anche da un altro incontro importante questo incontro è quello con un altro collaboratore su cui finora ci si è sempre forse soffermati di meno ma la cui corrispondenza è molto importante cioè quello con Edoardo De Albertis Edoardo De Albertis non rappresenta diciamo un timore per quelli che sono Kinner e Nomellini rappresenta casomai un'alternativa ma un'alternativa molto forte che colpisce particolarmente Novaro e questo colpo si definisce appunto in maniera estremamente interessante e tra l'altro appunto l'incontro tra De Albertis e Novaro è risalente appunto a quello che è settembre-ottobre del 1901 e Novaro resta immediatamente appunto colpito dalla prima immagine molto forte e qui faccio scorrere velocemente alcune immagini che abbiamo già visto ecco l'immagine corredata ancora è legata al testo appunto quindi abbiamo di nuovo la favola la fantasia del cuore di Ceccardo e poi adesso non mi fa più scorrere avanti le immagini non so per quale motivo forse basta il testo basta il tasto qui no sì non ma non si non risponde scusate ecco adesso è ricomparsa ecco benissimo le illustrazioni a corredo della rivista di stile perfetto grazie fotografico di nomellini come vedevamo prima e l'evoluzione poi man mano abbiamo ancora appunto qui Kinerk che vedevamo prima il cambio il primo cambio di testata con Riccardo Galli e poi abbiamo immediatamente la dimensione più classicheggiante quella che come discutevamo con Leo Lecci qualche giorno fa richiamerà poi forse anche l'impostazione degli ultimissimi anni no anche questa in qualche modo di germanica memoria fino ad arrivare appunto al famoso Inna all'olivo e poi a passare ecco verso quella che tra i caratteri oleografici ancora di corredo alla rivista ritorna ad essere la testata principale che durerà per moltissimi anni queste sono immagini che abbiamo già visto e questo è l'esordio di Edoaldo di Albertis sulla riviera Ligure è l'immagine appunto del contadino che torna a casa appunto per la canzone d'autunno di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi una canzone molto significativa perché richiama tra l'altro quelle che sono le tematiche più care a Mario Novaro ossia quelle che sono anche testualmente i recuperi di ambito filosofico e letterario che Novaro appoggia particolarmente per quanto riguarda appunto la scelta di queste immagini non è da da trascurare il fatto che la ricerca interiore di Novaro poetica all'altezza di questi mesi è quella che poi si concreterà in quella che diventerà riposo e poi notte in Murmuri e Decchi quindi la prima grande prosa filosofica che ricalca moltissimo anche l'ambiente leopardiano dove la ricerca dell'esistenza la ricerca la distinzione tra finito e non finito gli interrogativi che Malbranche e Nice li hanno già posto negli anni dello studio si concretizzano e si stendono per la prima volta in quello che è il primo vero testo ed è l'unico vero testo che si completa tra il 1900 e il 1905 quindi negli anni d'oro della rivista Cecardo Roccatagliata Cecardi affascina particolarmente Mario Novaro lo sappiamo perché Cecardo è l'autore di quelle piccole poesie che alla fine dell'Ottocento vengono nominate Murmuri e Decchi ed è chiaro che Novaro omaggia Cecardo e riconosce Cecardo come uno delle sue fonti di ispirazione ma Novaro è già avanti per quella che è la ricerca lessicale e abbandona in qualche modo la classicità anche lo stile di Cecardo in direzione di quella che è una prosa poetica volta alla filosofia un unico libro lo sappiamo Murmuri e Decchi che viene lavorato fino alla fine fino agli ultimissimi giorni un canzoniere filosofico dell'io potremmo dire e nel commento a questa immagine che sconvolge in maniera fortissima Novaro e addirittura ecco definisce Novaro la dolcezza e lo stile di Dalbertis tra dolcissimo erude e qui cito diciamo anche una lettera molto interessante che è della fine del febbraio diciamo del 1902 quindi di poco tempo dopo ma dove dà una definizione interessante su quello che è lo stile di Dalbertis ricevete il frutto che come tutti i suoi disegni mi piace tanto lo vedremo tra poco vi trovo una robustezza che è insieme così rude e così fine questo essere rude ed essere fine è forse la chiave che Novaro scopre nel lavoro di D'Albertis e che in qualche modo potremmo dire così la classicità lo stile Arnouveau Giugelstil dei grandi nomellini e Kinner non riesce ad aprire fino in fondo ma perché questo non è una mancanza di rispetto alla grande bravura di questi illustratori che fanno la gloria della rivista è ciò che scava nell'animo di Novaro e lo scavo dell'animo di Novaro è la ricerca filosofica che è rude quanto dolce quindi il suo interesse nel pubblicare Dalbertis con cui ha una corrispondenza privilegiatissima perché si scrivono a giro strettissimo ne parlavamo ancora appunto con Lecci qualche giorno fa c'è quasi una sorta di interruzione dei rapporti epistolari nei pochi mesi tra il 1901 e il 1902 per interruzione dei rapporti con gli altri illustratori per concentrarsi proprio su Dalbertis e questa concentrazione a livello di immagine diventerà molto presto anche una sorta di comunione di amorose passioni filosofiche che li porterà a scriversi a definirsi quasi Dalbertis lo dirà nel 1902 come due anime che si amano come due anime che si cercano perché vanno alla ricerca della stessa finalità tanto è vero che Dalbertis è l'illustratore a cui Novaro chiederà per primo di fornire disegni di qualunque tipo e su qualsiasi materiale senza badare a spese quindi anche con una sorta di onerosa forza potremmo dire da questo punto di vista scusate un momento ecco recupero un momento la canzone di Ceccardo perché desideravo leggerne è anche molto breve ma dall'idea del perché di Dalbertis si è stato colpito tanto dal disegno di accompagnamento quanto dal testo perché è il Ceccardo che recupera anche qui le tematiche più amate da da Novaro chi c'è mi chiego è la melanconia il corrisponde e siede in tra le fronde di quell'aereo pino che si inclina sul mare è arrivata stasera e con un lento sospiro di vento ora suona un lamento in tra quei rami l'agricoltor che torna al casolare quel suon di pianti di richiami intende e si addolora e il cerri guarda e le nubi e le stelle già all'orizzonte venere in un bagliore di fochi a Aureis Favilla onde soggiunge il cuore ah quante volte dall'azzurro vano di una finestra a mezzo di uno scuro orto o su uno scricchiolio di prime foglie morte passeggiandogli alla scorsi ecco l'autunno dissi l'autunno e il cor mi trema ripetendo quel nome doman fuori di quel pino tremulo con il vento e la piova di sponda sponda andrà lo stanco iddio di casolare in casolare per il cielo e sul mare questa canzone di Ceccardo con questo iddio che alla fine vaga ricalca un po' l'anima della notte di Murmuri e Dechi questo ricercare continuo incessante che è il ricercare di Leopardi quanti scenari anche nei testi di Novaro ritroviamo sotto la luna i paesaggi tanto amati viozene upega la domanda la vicinanza ad una ricerca personale che è poi quella di una sorta di risposta dalla natura non certo di una visione divina codificata questo lo ricordava benissimo anche Fausto Montanari nel primissimo convegno dedicato a Mario Novaro una ricerca che è forse più simile per qualche aspetto a Jaspers nell'intendimento filosofico ma dove la natura ha una grande risposta pensiamo soltanto a Sui Monti con Cellino quando lui domanda a Cellino che cosa ti immagini di essere dopo la morte lui dice nulla e Cellino è l'ultimo che ritorna ancora una volta nel 44 quando Mario pubblica l'ultima volta il suo libro il ricordo è per il figlio quando il figlio muore la ricerca filosofica della vita si fa ancora più grande diventa l'unico senso tant'è vero che poi sostanzialmente questo forte connubio con D'Albertis che continua ecco qui potete vedere ad esempio la prima tavola in senso assoluto cioè quella che lui concepisce tra le prime come testo a sé stante inquietudine fortissimo il segnale di nuovo espressionista potremmo dire come diceva anche Lecci prima in qualche modo che richiama però nella pastosità del tratto qualcosa di precedente qualcosa che ha un non so che di romantico ma l'inquietudine è proprio quello che caratterizza Novaro la corrispondenza qui è molto forte ad esempio inquietudine il frutto noi rompono quasi a ornare la rivista novariana con un tratto forte sanguigno e passionale e la passione è certamente quella che deve avere colpito particolarmente Novaro ecco e a fianco a queste tavole convivono invece nomellini e Kinerk che in qualche modo percepiscono e qui lo dico come ambasciatore che non porta pena il privilegio che in quei mesi Novaro accorda ad Albertis nella frequenza della supercorrispondenza e sono gli stessi mesi in cui si codifica poi la struttura della riviera vera e propria cioè quella con i capi lettera con i principali segnali che rimarranno fino alla fine quindi quella che è la costante conclusiva ecco appunto il frutto come vi facevo vedere di cui vi parlavo prima ecco che Mario Novaro dice ricevetti il frutto che come tutti i suoi disegni mi piace tanto e lo rileggo mentre lo vediamo vi trovo una robustezza che è insieme così rude e così fine e una pienezza e intensità di sentimento e un sentimento così pieno di idea o dirò meglio di ideale e la ricerca appunto quando si parla di idealismo non è certo l'idealismo hegeliano ma è un idealismo che sfocia nella ricerca filosofica più vicino anche alla natura e anche all'Oriente ricordiamoci le traduzioni di Chuanse che Novaro amò in maniera veramente grande e questo invece poi è il segnale è la tavola che orna un frammento di una sera di Adelchi Baratono che è tra l'altro un momento interessante perché ci testimonia come la creazione di tavole non abbia implicato l'interruzione di quello che era di tavola se stanti non abbia implicato l'interruzione di un corredo di immagini per determinati testi ma è importante come viene inquadrato qui il problema perché tra l'altro appunto quando Delbertis e Novaro discutono su questa immagine Delbertis scrive a Novaro qui siamo al 5 febbraio del 2 ricevetti il disegno mio impresso a sanguigna molto ben riprodotto come vi dicevo appunto Novaro ha già dato il permesso a Delbertis di occuparsi anche di disegni più complessi non badando a spese ricevetti pure la riviera bellissima se crede nel manoscritto del barattone illustrerei il frammento di Saffo poiché più adatto alle forme che io perseguo e tant'è vero che c'è un personaggio che cita questo frammento di Saffo e questo frammento di Saffo è appunto toglie la madre e la fanciulla ed è appunto un momento interessante perché c'è di nuovo il collegamento al classico Saffo è la prima figura che compare in notte in riposo che viene pubblicata sul numero 40 proprio all'altezza di questi mesi e Novaro lo segnala ad Albertis perché ha capito che con Albertis c'è questa corrispondenza filosofica e quindi gli dice stai attento perché io ho pubblicato riposo su Riviera valo a leggere li troverai le risposte e compare Leopardi e compare Saffo quindi c'è proprio un contatto per cui in questo preciso momento Novaro riesce a dare all'interno di una rivista che ha delle esigenze pratiche lui non dimentica mai una risposta a quelle che è la sua necessità interiore ed è questo l'interesse più letterariamente spiccato e il rapporto che io a mio avviso colgo tra la corrispondenza e tra i testi di Riviera ovviamente un rapporto privilegiato che solo Mario Novaro sai che gli altri corrispondenti difficilmente avrebbero percepito ecco andando avanti poi ancora un'altra tavola bellissima che appunto convive con le pure splendide immagini di Kiener che di Nomellini ancora legate ad un da una illustrazione paesaggistica molto forte o a un valore simbolista grande pensiamo soltanto a Fantasma che è una delle immagini più splendide forse della Riviera intera abbiamo ancora appunto le nubi di Giorgio Kiener che citavamo prima e che forse riprendono la descrizione del cielo rannuvolato di Ilse di Bramwitz nel racconto appunto che correda a questa altezza la riviera fino ad arrivare scusate che aspetta un momento la freccia ritorna se no non riesco a scorrere ecco qua ecco un'altra tavola sestante l'inquieto cercatore Sigfrido la saga dei Nibelunghi di Albertis dà volto a Giuseppe Borgatti che è il grande tenore il più grande tenore wagneriano italiano dell'epoca e lo rappresenta di nuovo in un'immagine di inquietudine perché Sigfrido è il grande cercatore quindi di nuovo un collegamento filosofico privilegiato tra lui ed Albertis un nomellini molto forte molto oscuro che correda ancora i versi del Fico che già vedevamo prima questo è interessante mi avvio velocemente a concludere a gennaio del 1903 siamo proprio in un momento in cui il rapporto di Albertis Novaro è strettissimo abbiamo già la presenza di Adolfo Magrini di altri nomi che sono ritornati insieme a Chiener e a nomellini che continuano ad illustrare come abbiamo visto ma la relazione interpersonale è molto forte ecco D'Albertis scrive a Novaro manderò un disegno probabilmente ispirato dalla sesia sonnolenta che io amo in questi giorni abbandonandomi ad iconografie fluviali perché ella non è qui io sento ancora in me con inestinto desiderio l'armonia grande di quella sua prosa e questa è perché è la lettura che D'Albertis ha fatto del riposo che è comparso su Riviera Ligure appunto e questo è un momento fondamentale il numero 40 Mario Novaro gli aveva appunto scritto anche la presenza di una piccola prosa mia e tra l'altro appunto allo stesso tempo discutendo sulle immagini di questi momenti D'Albertis aveva ancora scritto vorrei leggere altre cose sue sulla Riviera oltre a quella che ho già letto rarissimamente ho letto cosa che tanto mi sia piaciuta così amerei leggere sempre che in verità la produzione di nostri bei letterati finisce per stancare poiché non sempre fa piacere l'indugiare in cose troppo speciali o troppo relative mentre aspiriamo a forme più dense di significato e mi perdoni se mi lasciavo trasportare ad esprimere giudizi che dovrei solo per me tenere e accetti la preghiera di poter presto leggere l'altra prosa sua D'Albertis è un uomo semplice anche nello scrivere anche in questo caso rude e dolce allo stesso tempo a tal punto che Mario Novaro poi quando riceve questa lettera scrive la vostra lettera è stata troppo dolce e troppo amara allo stesso tempo perché ha capito in questo momento che la comunione di sensi è veramente compiuta non rispose alla sua cartolina mi fu troppo dolce e troppo amara mi fece risognare ma il mio cuore in un momento di penosa aridità aspetto con suo agio un disegno intanto le dico che la potrà adorinanzi liberamente indifferentemente mandarmi altre cose come avevamo già detto nel gennaio del 1903 abbiamo la certificazione di questo momento io sempre in me osservai che se un malessere non vieta omnimamente il corrispondere intorno a cose comuni distoglie però dalle più dolci corrispondenze come quelle che richieggiano tutto il fiorire dello spirito e tutto il cuore e quindi siamo veramente alla stretta finale a una stretta finale a tal punto che verso il febbraio marzo dello stesso anno i due propongono di incontrarsi e misteriosamente e questo è un problema che resta ancora oggi abbastanza insoluto la corrispondenza finisce e finisce anche la presenza di D'Alberti sulla riviera ci sarà stato un incontro non lo possiamo sapere l'idea che mi sono fatto io è che Novaro avesse a quel punto paura di farsi troppo trasportare dalla sua ricerca filosofica e di dimenticare forse in qualche modo le esigenze pratiche della gestione della rivista che comunque porta anche un aumento dei collaboratori in quello stesso anno non c'è traccia comunque non si può dare una definizione definitiva la corrispondenza finisce ed Albertis non compare più sulla riviera Ligure questo è abbastanza significativo nell'inquadramento della visione letteraria della ricerca filosofica di Novaro si diceva con le oleci sempre man mano quando l'illustrazione poi cade dal 1904 e per il 5 si completa quasi definitivamente la scelta di testi più impegnativi e si mantiene semplicemente la veste grafica fino alla fine ma con rarissime presenze diciamo all'interno della rivista in quanto tale senza escludere invece gli almanacchi e tutto quello che sono i contributi importantissimi che ci sono questa presenza di corrispondenza di amorosi sensi è pressoché unica nella storia della corrispondenza con un illustratore e quindi mi sento di poterla definire privilegiata in qualche modo almeno dal punto di vista della ricerca interiore quale sia la motivazione non posso dirlo e certamente non sta a me doverlo definire forse la posso individuare nella fine di riposo e appunto di notte che leggo giusto perché credo che forse potrebbe essere uno spunto su cui poter lavorare ancora il notte è tutta concepita come dialogo sulla stile proprio di quelli delle operette morali di Leopardi dove un ignoto che in qualche modo la controfigura di Novaro dialoga con l'anima ma l'anima universale quindi l'anima di tutto che può essere l'anima anche dell'universo di quello che sta oltre l'universo chissà qui i mondi poi si dividono la molteplicità Bruniana affascinerà Novaro sempre senza essere mai forse completamente risoluta ignoto lascia la meta ignota e da pellegrino della vita fattene operaio e cittadino forse era questo l'invito che Novaro potrebbe aver colto il mondo è saldo più della tua mente che a suo modo lo intende e nel tuo cuore i buoni germi sfidano le vane teorie come i liberi bisogni essi si fanno valere e vigono al pari dell'altra leggi eterne non ha detto il tuo Lucrezio che nulla impedisce di vivere una vita degna degli dèi e che degli uomini poesia è pace e degli dèi delizia senti ama intendi più e più poiché i mondi nascono e muoiono è il frutto del tempo più antico l'immagine si chiamava il frutto ricordiamo è questo presente che pur sarà termine del futuro grazie abbiamo chiuso in bellezza come prevedibile e chiedo se abbiamo un po' di spazio per la discussione prima facciamo allora Maria Novaro benissimo sì sì prego ma io cercherò di essere velocissima data anche l'ora vi volevo dire una cosa che trovate anche leggere alcune parole che si trovano anche nella introduzione al quarto volume delle lettere a Riviera Ligure appena uscito appena presentato e sono le parole di Mario Novaro che dice ciò per spiegarle come io dicendo che il silenzio non nuocerà il mio libro intendevo dire che esso vivrà anche malgrado il silenzio e questo lui lo scriveva nel 1912 estendendo questo suo discorso che vuole essere lui dice io sono ma anche così molto presuntuoso fra virgolette anche se sembra una persona timidissima così eccetera io lo estenderei ecco questo suo discorso come premonizione a tutta la sua opera non solo ai suoi versi perché così per una serie di casualità oggi siamo qui a parlare di tutta la sua opera che dai discorsi che sono stati fatti e per i quali ringrazio i vari oratori e ricercatori che hanno approfondito sotto vari aspetti la sua opera ecco dico noi siamo qui oggi a parlarne e a parlarne in maniera molto estesa e la stessa fondazione ecco è questo che mi premeva anche così sottolineare è nata sì per come come spunto iniziale diciamo per ricordare la sua figura la sua opera come direttore di Rivera Ligure come promotore dell'industria in cui operava e come filosofo eccetera eccetera e come mecenate anche se vogliamo chiamarlo così però la fondazione che porta il suo nome ecco cercando forse di imitare il suo esempio ha esteso il proprio interesse i propri interessi alla conservazione e alla valorizzazione di quella che è stata la cultura Ligure del novecento estesa a tutti i suoi aspetti quindi non solo letterari ma di promozione d'azienda di immagine di arte di arte musica e arte visiva eccetera eccetera quindi ecco quello che io volevo dire che la fondazione Novaro ispirandosi proprio all'opera del suo così non so come chiamarlo l'opera di Mario Novaro ha questa caratteristica per cui io sono ben lieta di essere che la fondazione sia stata coinvolta dall'università in questo progetto molto molto importante molto interessante però vorrei ricordare anche che ci sarebbe ancora tanta altra strada da fare in quanto la fondazione stessa con i suoi archivi le sue pubblicazioni le mostre che che ha fatto in questi anni convegne eccetera eccetera ha messo insieme un patrimonio che non è appunto soltanto letterario ma riguarda tutti i settori della cultura del novecento ligure e quindi come ho già detto appunto ha vari reparti varie sezioni dei suoi archivi della sua biblioteca stessa che è sempre in espansione per via di donazioni di ricezione di archivi di fondi importanti eccetera per cui ci sono un veramente un c'è un conservato un patrimonio documentale molto importante e adesso non sto qui a fare i vari nomi ma sia nelle riviste del quaderno che pubblichiamo quadrimestrale sia nelle pubblicazioni nei cataloghi di mostre che si fanno e così via in lavori multimediali anche che si sono che via via si propongono ecco abbiamo tutta una serie di di informazioni di insomma conserviamo e approfondiamo una serie di argomenti che potrebbero interessare appunto questo discorso che io spero possa andare avanti sulla cultura visiva e siamo stati ben lieti ecco di questo nostro ultimo quaderno di dedicarlo alla diffusione della cultura visiva vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti Grazie.